La Bruzzo del Pallone La Bruzzo del Pallone La Bruzzo del Pallone La Bruzzo del Pallone Questi risultati Albinoleffe, Fano 2-0 Bassano, Ferralpi, Salò 1-2 Stesso risultato a Portogruaro Tra Mestre e Renate 1-2 1-1 tra Sudtiron, Reggiana Tra poco iniziano Pordenone, Padova, Ravenna, San Benedettese E Teramo, Gubbio Annullata, Cristina Modena Domani alle 20.30 Santa Arcangelo, Vicenza Riposa questa settimana La Fermana Non vediamo in questo caso La classifica La vedremo dopo Serie di Gironeffe Abbiamo seguito questo poveriggio Tantissimi gol Campobasso Avezzano 0-2 Castelfidardo San Marino 1-3 Fabriano Vastese 0-4 Francavilla Matelica 1-2 L'Aquila Recanatese 2-0 Nero Stellati Piesina 0-3 Agnonese Pineto 1-1 San Nicolò Monticelli 2-0 San Giustese Vispesaro 1-3 La classifica E poi andremo a Teramo La classifica di questo raggruppamento Comanda sempre il Matelica 31 punti 28 punti per la Vispesaro 26 per la Vastese Questo gruppo Questo terzetto Fa un po' il vuoto A più 4 Sul Campobasso Che è quarta quota 22 A 20 punti Insieme L'Aquila e l'Avezzano 19 punti per il Pineto 18 per il Castelfidardo 17 per San Marino Eiesina 16 per Francavilla E San Giustese 13 per il San Nicolò 11 per l'Agnonese 10 per la Recanatese 7 per il Fabriano 6 per il Monticelli 2 per il Nero Stellati Rientriamo Andiamo a Teramo Per le formazioni ufficiali Da Ania Cantagalli Innanzitutto Buonasera Ania Dacci le ultime Formazione confermata 3-4-3 Cambio di modulo Per Antonino Asta Per provare a vincerla Questa partita Esatto Jacopo Buonasera a voi Sarà un Teramo Più offensivo Che quest'oggi Al Bonolis Contro il Gubbio Va a caccia Del nono risultato Utile consecutivo E per l'appunto Sperano i biancorossi I tifosi Biancorossi Che possa essere Una vittoria Che manca Da quel Teramo Padova Seconda vittoria Casalinga Per il Teramo Fino a questo momento Confermate le indiscrezioni Della vigilia Come dicevi tu Con Calore Caidi Speranza In difesa Caidi Che è recuperato Da un problema Muscolare Del turno Infrasettimanale Che quindi è subito Il titolare In campo Centrocampo Con Ventola Madio De Grazie Bars Che fa il suo ritorno In campo Quest'ultimo Dopo il problema Accusato Nel pregara Di Teramo Sul Tirol E infine Tridente Con Pace Teracino Foggia Per provare A scardinare La difesa Del gruppo In panchina Ci sono Levandowski Pietrantoni Altobelli Paolo Cilari Minillo Graziano Sumare Che non è al meglio Ma c'è Gialdo Mancini Pagioli E Pagluti Che anche lui Non è al meglio Ma in panchina Non c'è invece Pratangelo Non è stato convocato Risponde il gruppo Per rendersi Da due sconfitte Consecutive In questo Inizio di settimana Con Volpe Tra i pali Calombò Dierna Buzigotti E Loporto In difesa Poi dovrebbe essere Centrocampo A quattro Con Paramatti Bergamini Ricci e Ciccone Casiraghi Alle spalle Di Marti La coppia D'attacco A disposizione Del tecnico Dino Pagliari Ex Lanciano Ci sono Costa Giacomarro Paolelli Piccini Piccini Cazzola Fumanti San Pietro Manari E Libertazzi Dirige il signor Colombo Di Combo Le squadre Sanno Fare il loro ingresso In campo Qui allo stadio Bonolis Di Tera Man mano Riempiello Ci sono anche Una ventina Di tifosi Ospiti Allo stadio Bonolis Per assistere All'info A te Iago Grazie Allora Questa è la distinta L'abbiamo vista 3-4-3 Per il Teramo 4-4-1-1 Per il Gubbio Due schieramenti Sostanzialmente Molto differenti Il Gubbio Dopo la sconfitta Con il Ravenna Cercherà Ovviamente Di fare una partita Più di attesa Il Teramo Evidentemente No Prima di cominciare A parlare Di Serie D Con il servizio Di apertura Che sarà Quello Tra Francavilla E Matelica Io chiedo A Fabio Montani Che cosa ne pensa Lo vediamo in grafica Lo schieramento Lo vediamo in bassa frequenza Tra un po' Lo rivedrete Anche in onda Del Teramo Se è uno schieramento Che lo convince Provare a fare la partita Evidentemente Significa Togliere un centrocampista Come Ilari Mettere un attaccante Come Basio Terracino Allargando un po' Tulli Dunque Da seconda punta Va a fare l'esterno Ammesso Che sia questo Che non sia un 3-4-1 Ma io All'inizio L'ho visto già diverse volte Il Teramo E giocava 4-3-3 Con Tulli esterno E mi piacque tantissimo Secondo me Nel 3-4-3 Giocare per lui Da esterno Ovviamente Inserendosi dentro Perché poi avrà Ventola Che gli passerà dietro Lo può fare tranquillamente Penso che sia anche Una scelta giusta Perché è vero Che ha fatto Otto risultati utili Consecutivi Però sono anche Tanti tanti pareggi Quindi oggi è importante Secondo me Vincerla E giustamente Con una difesa Che giocava a 5 prima Oggi La ripropone a 3 Cambia poco Perché poi in fase Di non possesso Ventola E Varas Si abbasseranno Diventeranno 5 di nuovo Quindi io condivido Il sistema di gioco Di oggi del mister La posizione di Amadio Un po' inconsueta Perché di solito È abituato a giocare In un centrocampo dispari Per fare il costruttore Di gioco Però Stefano Insomma può farla Anche quella Quella posizione Giocatore di qualità Giocatore di qualità Giocatore che ha fosforo Che fa girare la squadra Stessa cosa di Grazia Che ovviamente Ha anche un passo Un po' diverso Ma ha anche qualità Giocare a 2 A giocare play Secondo me Gli sposta poco Ok Tra un po' Torneremo a termo Ovviamente per l'inizio Della partita Ma cominciamo Subito Con Rivedendo i risultati Del girone F Fabio Un primo Commento C'è qualche risultato Che ti ha Un po' sorpreso È chiaro che magari La proporzione Della vittoria Della Vastese Anche il successo Della Vezzano A Campobasso Chi dici Sono questi i risultati Un po' più eclatanti Sì Perché Diciamo che I risultati eclatanti Non ne vedo Tutti i risultati Che sulla carta Ci potevano stare Sono venuti fuori Lavezzano che vince A Campobasso Probabilmente Lavezzano è una buonissima squadra Ma il Campobasso Aveva cambiato All'allenatore Forse In una settimana Non è riuscito Giustamente Di incidere Però ci si aspettava Anche una Una reazione Ma tutto sommato Il risultato ci può stare La vittoria Della Vezzano ci può stare Per il resto Penso che sono tutti I risultati Più o meno Che potevano uscire Benissimo Vediamo la classifica Perché a questo punto Complice anche Il passo falso Proprio del Campobasso C'è questo terzetto Che sembra Andare via Matelica Vispesa Rovastese La distanza Non è enorme Quattro punti Però Sembrano tre formazioni In grado di Vincerlo tutte O quasi tutte Perché insomma Stanno facendo In questo momento Intanto è iniziata A Teramo Teramo Gubbio Di fare risultato Un po' In tutti i campi Sei d'accordo? Sicuramente adesso Le tre che stanno Stanno spingendo in avanti Io le ho viste giocare Diverse volte Tutte e tre Stanno dimostrando Il proprio valore E anche Una grandissima Continuità dei risultati Io credo che attualmente Visto anche le altre Che dietro Non riescono A avere continuità E facciano fatica Facciano fatica A riprenderle E credo che Secondo me Queste tre squadre Faranno la battistrata Fino alla fine Anche perché Penso che Tra un mese Ci sarà Meno di un mese Ci sarà il mercato Che riaprirà Anche se qualcuna Si volesse Reaggiustare Per poter cercare Di agganciare Io penso che In D Tutti quanti sappiamo Che la prima va diretta Le altre I playoff In D Contano Sì Speri Magari nel ripescaggio Chissà che cosa Ma sono sempre I playoff Un po' Così che Lasciano il tempo Che trovano Quindi non so Quante squadre A dicembre Vorranno Rimettere mano Al portafoglio Per poter cercare Di ragguantare Secondo me Queste tre Arriveranno fino in fondo L'Aquila e l'Avezzano Sono le due note positive Della giornata Si attestano All'ultimo posto Di fatto Della Della griglia Playoff Al quinto posto Seppur in coabitazione Sono due squadre Che stanno Vivendo un periodo Molto positivo Anche se per l'Aquila Comunque Un momento positivo Sul campo Perché poi fuori Gli interrogativi Restano Però In questo momento Le squadre Della provincia Dell'Aquila Nei rostellati A parte Stanno Convincendo Ma L'Aquila e l'Avezzano Spiace Vederli adesso Lì In che senso Spiace Sono due squadre Che hanno due organici Importantissimi Però Tutte e due Hanno avuto Vicestitudini E tutti sappiamo Che l'Avezzano Ci sono stati problemi Fino a dopo Ferragosto Giocatori che andavano Allenatori che venivano Era un po' un casotto Quindi è dovuto Il mister Ricostruire tutto da capo L'Aquila Sappiamo che tutti i giorni Leggiamo difficoltà Di ogni tipo Quindi non è una cosa semplice E nonostante tutto Sono lì In zona pre-off Il Pinedo Probabilmente tra queste tre Che è appena un po' staccato Oggi ha fatto un altro risultato Utile A Dagnone Probabilmente Anch'essa Ha una squadra importante Con giocatori sicuramente importanti Magari Non avendo avuto Le difficoltà Di queste due Ci si poteva aspettare Qualcosina di più Certo Cominciamo A vedere Il primo servizio Quello del Valle Anzuca Di Francavilla al Mare Vince la capolista Matelica 1-2 Il servizio È fermato per noi Da Andrea Costantini Vediamo Poco più di 20 minuti Sono sufficienti Al Matelica Per ipotecare Il successo Al Valle Anzuca E proseguire la marcia Da leader Al di là della giornataccia Del direttore di gara Tanta generosità Non è bastata Ad un Francavilla Volenteroso Ma spuntato Iervese perde due giocatori Nei giorni antecedenti La gara Romeo e Miciche Dentro di Pietrantonio E Velardi Con Palumbo Che torna a ridosso Dell'unica punta A zerbo Nel 3-5-1-1 4-2-3-1 Per il Matelica Di mister Luca Tiozzo Che per la circostanza Cambia ben 5 undicesimi Della formazione Che la settimana scorsa Aveva battuto Il Castelfidardo Che il pomeriggio Del Villa Non sia assistito Dalla Buona Stella Lo si capisce Dal cambio immediato Cui è costretto Iervese Che al nono Deve rinunciare Anche a Fiore Frattura Al quinto metatarso Di un piede Dentro l'appena recuperato Molenda Ma al dodicesimo Il Matelica è già in vantaggio Magrassi col fisico Elude il tentativo Di anticipo di Amenta E va verso la porta Amenta gli frana addosso Rigore netto Che lo stesso Magrassi Trasforma Spiazzando Spacca Colpito Il Francavilla Bozza una reazione Con il suo Fromboliere di riferimento Cosmo Palumbo Il centrocampista napoletano Ci prova su pulizione Al quattordicesimo E poi al sedicesimo Sugli sviluppi Di un tiro dalla bandierina Ma senza mai Inquadrare lo specchio Della porta Con cinismo invece Il Matelica Al secondo a fondo Raddoppia L'azione palla a terra E da manuale Sponda di Magrassi E pregevole filtrante Di Gabbianelli Per Tonelli Che tu per tu con spacca Non sbaglia Per il Francavilla È notte fonda Già capace di doppie rimonte Contro Fabriano e L'Aquila La capolista però È di ben altra pasta Zerbo non arriva Sullo piazzato di Palumbo Al quarantaduesimo Nell'ultimo minuto Del primo tempo Affonda Magrassi Il suo pallone Attraversa tutto lo specchio Della porta Francavilla prova ad aumentare L'intensità di manovra Il Matelica però Si rintana in difesa E non concede spazi Cherezovic Si sporca i guanti Sul tiraccio di Velardi Poi amenta Gira a lato Il cross di Mele Al diciottesimo Iervese attinge Dalla panchina Dentro Banegas E Galli Ma a complicare ulteriormente I piani di Del Villa È la pessima giornata Di Gioviani di Termoli Che non punisce Il contatto a palla lontana Sul Mele Al ventisesimo Poco dopo Lo stesso Mele Subisce un altro contatto Vorrebbe un giallo Per l'avversario Ma il provvedimento È verso di lui Ed è il secondo Francavilla in dieci uomini Iervese cerca di sedare Il suo calciatore E viene allontanato Pure lui Partita persa di controllo Dal direttore di gara E al trentacinquesimo Di Pietrantonio Atterra in area a Malago Ma Gioviani Fa giocare Decisione che sa Di compensazione Come l'allontanamento Al trentasettesimo Del tecnico materi Cese Tiozzo Al Francavilla Non manca la generosità E in inferiorità numerica Il gol di Galli Al nonatatresimo È un piccolo premio Di consolazione Che però non cambia la sostanza Il Matelica prosegue La sua marcia in vetta Il Villa in cassa Il quarto stop casalingo Quarta sconfitta interna Dice giustamente Il nostro Andrea Costantini Per il Francavilla Andrea oggi Ci ha raccontato Un po' la partita Ci aveva detto Della direzione arbitrale Di questo Gioviani Di Termoli Non proprio impeccabile Insomma Rosso a mele Poi un calcio di rigore Forse c'era per il Matelica Ha allontanato Iervese Poi ha allontanato Anche Tiozzo Insomma Ha un po' perso Il bandolo Della matassa Questo arbitro Però quello che abbiamo visto È il Matelica Che è una formazione In grado Di andare su qualsiasi campo A dare il ritmo Alla partita Ad accelerare quando c'è bisogno A rallentare quando c'è bisogno Sì Io ovviamente Non ho visto la partita Ho sentito La disamina di Andrea Ho visto alcune highlights Sinceramente Adesso Il discorso dell'arbitro Che possa aver avuto Una giornata un po' Diciamo in difficoltà Credo che Lasci un po' il tempo Che trovo Perché se Andessimo a pensare Che poteva influire Su questo risultato Io vedo le immagini Mi sembra che Ti rimporta Non ne ho visti Da parte del Francavilla Io ho visto Il Matelica Diverse volte giocare E credo che Per oggi Per il Francavilla Era dura Era dura Perché Penso che il Matelica Quest'anno È una squadra Veramente forte Davvero solida È composta Da giocatori importanti Strutturati Di qualità Sta dimostrando Tutta la sua forza Credo che In questo momento Sia forse La squadra più forte Del campionato È chiaro che Ripeto Anche se questa Era una squadra Da battere Penso che Il Francavilla Aveva tutte le carte In regola Per poterla battere Perché la rosa Che ha il Francavilla È una rosa Importante Fatta dai giocatori Importanti Anche a livello Numerico Adesso bisogna Rimboccarsi le maniche E cercare di Trovare subito Un risultato positivo Assolutamente Gabbianelli Magrassi Insomma È una formazione Che Agli occhi Probabilmente Di qualcuno Che si approccia Da poco Al campionato Di Serie D Possono voler dire Poco rispetto Ai vari Esposito Rispetto Ai vari Giocatori Che il Matelica Ha avuto Negli anni Scorsi Ha torto Perché Questi sono Giocatori Che si sono Calati perfettamente Nella categoria Forse Negli altri anni Il Matelica Ha preso Giocatori Che Forse Si sono calati Poco Proprio perché Venivano Da categorie Superiori Difficile Da interpretare Questo campionato Sono d'accordissimo Con te Jacopo Con me sfondi Una porta aperta Purtroppo questo è un errore Che commettono in tanti Tante società Il Matelica È proprio L'esempio lampante Negli anni scorsi Il Matelica Ormai Erano due Barra tre anni Che costruiva squadre Con giocatori Di grido Di nome Dopo però In mezzo al campo Non vanno i curriculum Non vanno le presenze Poi in mezzo al campo Ci vuole Anima Ci vuole passione Mettersi a disposizione Calarsi In certi campi Dove dopo La tecnica Passa in secondo piano E se questo Non lo fai Poi Accadono Certe brutte figure Ma purtroppo Spessissimo Si sbaglia Si sbaglia perché Puoi andare a prendere Giocatore importante Che è anche un posto Tra l'altro Alla fine Rende molto meglio Quello magari Di categoria importante Che non uno Che ha fatto Le categorie superiori Se non si cala Assolutamente Io peraltro Insomma ricordiamo Uno dei casi Più eclatanti Recenti Non ce ne voglia Roberto Cappellacci Ma fu il campo basso Di un paio di stagioni fa Che praticamente Fece una super squadra Con giocatori Praticamente Presi tutti Dalla Lega Pro Che però Poi fallì Di fatto Nel suo intento Prima di andare a sentire Le interviste Torniamo a Teramo Perché il Teramo Vicino al gol Anja Cantagalli Anja Per la corrente Dietro Baci del Racino Che di prima intenzione Però non è riuscito Davanti alla porta Ad inquadrare La stessa E ha sparato alto Sulla traversa Quindi occasione Buona per passare In avanti Per il Teramo Che in questi ultimi Istanti di partita Sta iniziando A premere il gubbio Nella propria Metacampo Variazioni Per quanto riguarda Anzi Annotazioni Per quanto riguarda I due schieramenti Calambo Che vi avevamo dato Esterno In difesa Invece esterno Offensivo Perché con Ciccone Dall'altra parte Sale In fase di possesso A dare una mano Sia a Marche Sia a Casiraghi E dall'altra parte Invece il Teramo Forse è più Un 3-4 2-1 Con Tulli E Baci del Racino Leggermente Alle spalle Di Foggia Che rimane Per l'appunto Il centravante Questo calcio D'angolo per il Teramo Allontana In qualche modo Proprio Calambo Ma ancora Teramo in possesso Del pallone Con Baci del Racino Che pensa di rientrare Il pallone morbido Che però viene Allontanato Da Di Erna E quindi C'è la ripartenza Da parte Del Rubio Con Casiraghi Che però viene fermato Da proprio Baci del Racino C'è un altro pallone In campo Lo allontana Amadio Si può quindi Continuare il gioco Con Foggia In possesso Della sfera All'indietro per Ventola Che nei primi minuti Di gara Aveva tentato Una serpentina Come aveva fatto A Trieste Propeziando poi Il suo stesso gol Questa volta però Non è riuscito Poi a concretizzare L'azione Palla in Fallo laterale Siamo giunti All'undicesimo Minuto Qui al Bonolis Ancora 0-0 Tra Terme e Bubbi A te Agnes Giusto Una piccola analisi Di questi primi minuti Di gara Per chiederti Abbiamo visto L'azione Che stava per portare Al gol Bacio Terracino Per chiederti Se il modulo Sta dando Almeno Al primo impatto Le risposte Che si aspettava Non solo Asta Ovviamente Anche il pubblico Del Bonolis Che insomma Sarà anche contento Degli otto risultati Però certamente Preferisce anche Vincere qualche partita In più Fino a questo momento Sì Jacopo Perché anche Con gli inserimenti Di De Grazia Sembra un pochino Più mobile In avanti Il Teramo In fase Di possesso Magari anche Appunto Con l'aiuto Del centrocampo Gli esterni Di attacco Potrebbero Dare qualcosa In più Anche per far segnare Foggia Per segnare Loro stessi Insomma Fino a questo momento L'attacco del Teramo Ha un po' deluso Tra virgolette Per quanto riguarda Per l'appunto La vena Realizzativa È chiaro che c'è Bisogno di una sterzata Come spesso si è sottolineato Da parte degli uomini Migliori Che sono Per l'appunto Tulli Bacio Terracino Questo oggi potrebbe essere Una buona occasione Per loro Ma ovviamente Anche per il Teramo Di tornare a vincere Grazie Agna 12 minuti 30 secondi Vedete sempre Il countdown In alto A sinistra Dei vostri teleschermi Ovviamente Pronti a tornare Nel caso Dovesse Cambiare Il punteggio Scendiamo negli spogliatoi Del Valle Anzuca Per ascoltare Le voci Del dopogara Di Francavilla Matelica 1 a 2 Mister 22 minuti Giocati bene Con grande efficacia Due gol Poi avete controllato La partita Al di là di qualche Scaramuccia nel finale No Al primo tempo Al di là di due gol La prima parte Della gara È stata equilibrata Dove noi siamo riusciti A fare i due gol Poi secondo me La gestione della paglia Anche degli ultimi minuti Il primo tempo È buona Secondo tempo Mi aspettavo Una Una reazione Chiaramente Di una squadra forte Qual è il Francavilla Che è una squadra Che ha idee Che è una squadra Che gioca un buon calcio Che ha fisicità Che ha giocatori Me l'aspettavo Noi Onestamente Abbiamo subito Quasi niente E poi C'è stato Non so Dico la verità Non ho capito L'espulsione Ma al di là di quello Poi Con qualche lancio lungo Sui quinti Ha messo quel cross lì Del 2 a 1 Però poi Diciamo la verità Qualche tiro da fuori Molto fuori Parate il mio portiere Non ne ha dovute fare Abbiamo avuto due ripartenze Nessuna di questa Credo di poter dire E credo possiamo dire tutti Che ci fosse stato anche rigore Su Malagò Ma non è È stata una partita combattuta Dove probabilmente Noi abbiamo sfruttato meglio Quelle poche occasioni Che la gara ha detto Questa lotta a tre Con la Vispesaro Con la Vastese Il Materica Insomma È un campionato Che si fa sempre più entusiasmante Non so cosa abbiamo fatto oggi Hanno vinto La Vispesaro non lo so Ma se hanno vinto tutte entrambe Sono due squadre fortissime E noi le abbiamo già affrontate Ma sono squadre Che hanno dei valori eccezionali Dei tifoserii anche eccezionali Insomma Lottano per stare lì davanti Ed è giusto che lo facciano Noi lavoriamo per rimanerci Hervese al di là della pessima A nostro avviso Direzione di gara Però partire 0-2 contro la capolista Poi si fa dura Sì dell'arbitro Non voglio parlare Perché non ho mai parlato Degli arbitri Dell'arbitraggio Anche se oggi Ci ha messo tanto del suo Per quanto riguarda il discorso Della partita Contro una squadra così forte Non ti puoi permettere Di regalare nulla Noi sapevamo che Per fare risultato contro di loro Dovevamo essere perfetti Non dovevamo fare regali Purtroppo In primo tempo Abbiamo commesso due errori Che si potevano benissimo evitare 0-2 era diventata difficile Però devo dire che A prescindere di questo Per l'ennesima volta Io credo che Come domenica scorsa Abbiamo fatto una buona prestazione E penso che la sconfitta Non è meritata Una squadra che è sembrata Sì generosa Ma a tratti anche spuntata Da un punto di vista offensivo Questo noi lo sappiamo Stiamo giocando con Con degli esterni Come punta centrale Come zerbo Perché l'assenza di Fofanà Purtroppo in questo momento Ci sta pesando più del dovuto Però nonostante tutto Credo che Occasioni per fare i gol Ce le abbiamo avute Ecco un po' più di cattiveria Come è anche successo domenica scorsa Quello sicuramente in questo momento Fa la differenza E dunque Va in archivio Questa sconfitta Del Francavilla In casa Contro il Matelica Siamo per vedere Adesso Mentre sempre 0 a 0 Abbiamo superato il quarto d'ora A Teramo La partita tra Teramo e Gubbio Siamo per vedere Il servizio Dell'anticipo Di ieri Tra San Nicolò E Monticelli San Nicolò Chiedo a Fabio Montani Che se vediamo la classifica rapidissimamente Intanto vantaggio della San Benetesi A Ravenna Come avete visto prima Nell'aggiornamento live San Nicolò Che Con due partite Nelle quali È riuscita ad incassare Due vittorie In partite che andavano vinte Perché Arre Canati Quart'ultima E col Monticelli Penultima Che spesso sono le partite più complicate Con due vittorie Adesso È in una posizione Leggermente più tranquilla Campanile Respira un po' E adesso ci si prepara Al derby con l'Avezzano Che non sarà facile Sicuramente Due vittorie importantissime Che danno tantissimo respiro Al mister Alla squadra Io ho visto quella di ieri È meritatissima Quindi Secondo me Da questo punto di vista Sicuramente Avrà una settimana Per preparare questo derby Seppur con una squadra importante Con l'Avezzano Ma con Secondo me Con un morale Altissimo In fiducia Per poter lavorare benissimo Quindi È una bella partita Però ripeto Io la partita L'ho vista ieri Chi ti è piaciuto Particolarmente? Guarda Se ti devo dire A me tutte e due le squadre Mi sono piaciute Specialmente nel primo tempo Perché Ho visto giocare a calcio Ho visto giocare a calcio Cosa che in questo momento Vedo pochissimo Quasi dappertutto Ho visto dei buonissimi elementi Ho visto dei buonissimi elementi Da entrambi le parti Nel primo tempo Probabilmente un po' Il Monticelli Ha avuto un po' più il pallino Ma forse per scelta Il Seniglò Li aspettava a bassi Ma poi in ripartenza Aveva la qualità E giocava anche molto bene Nel secondo tempo Dopo l'errore Secondo me Un po' Che il Monticelli Ha creato È stato quello Di disunirsi tantissimo Di disunirsi tantissimo E forse il San Nicolò Di abbassarsi tanto Perché in vantaggio Poteva gestire la palla Meglio E siccome si era molto disunito Il Monticelli Poteva approfittare Per fargli male Più di una volta Perché il Monticelli E non alla fine Ma per una buona Mezz'ora finale Secondo me Si è disunito troppo Ha cercato di buttare Il cuore Oltre all'ostacolo E lì probabilmente Nella gestione della palla Il Seniglò Un po' è mancato Ma io penso che Questa cosa Poteva benissimo Pensare che accada Perché una partita Dove i punti In questo caso Cominciavano a valere doppio E uno sconto diretto Anche se siamo solo a novembre Ma era una partita Assolutamente Dove i punti E allora a volte poi Quando sei 2 a 0 Cerchi Aspetti la fine Di tre fischi Per portare a casa Tre punti Però magari Deve servire da monito Per il futuro Che in certe situazioni Quando sei in vantaggio Se la gestisci meglio La palla Probabilmente puoi fare Anche il terzo E il quarto E un po' Prima di vedere Il servizio Sempre di Andrea Costantini Che non è che ha Il dono dell'ubiquità E ci mancherebbe E che la partita San Nicolò Monticelli Si è giocata ieri E un po' Una tendenza Del calcio Odierno Quello di Magari trovare il vantaggio E cercare sempre Solo di gestirlo Mai provare Ad andare a A fare il secondo Il terzo gol Ad andare a mettere In sicurezza il risultato Poi magari però Si rischia Io sono d'accordo con te Perché Per quello che mi riguarda Come formamenti Sono uno che Ama giocare sempre In maniera offensiva Con equilibrio Ma in maniera offensiva Purtroppo Forse questa moda Diciamo Non moda È dovuta al fatto Che noi siamo Talmente esposti Che sappiamo benissimo Che Come un pochettino Le cose si mettono Nel verso sbagliato E' capace Che te li trovi a casa Esatto Allora magari In questo caso Quando cerchi Sei in vantaggio Magari di due gol Lasci da parte Un po' Questo Ripeto Per quello che mi riguarda È una cosa sbagliata Perché poi Alla lunga Sul lungo periodo I punti Te li porta il buon gioco Il bel gioco Sicuramente Non un atteggiamento Speculare Giocando sempre Sotto la linea della palla Perché una volta Ti può andare bene Due sì Ma la terza Poi la paghi Quindi Però Sono d'accordo con te Che La maggior parte Le squadre Purtroppo Hanno un po' Questo tipo di atteggiamento San Nicolò Che batte 2-0 Il Monticelle Vediamo il servizio Con un gol per tempo Il San Nicolò Fassuolo Scontro diretto Salvezza Col Monticelli Bissa il successo Di Recanati E dà tanto ossigeno Alla sua classifica Gara combattuta Nella quale lucidità E cinismo Sono state armi fondamentali Per l'undici di Campanile Si è giocato di sabato Al Tiberi Orsini Ex Castrum Di Giulianova Gremita La piccola tribuna Dell'impianto Dell'annunziata San Nicolò Con gli stessi undici Che hanno firmato Il blitz di Recanati Nel Monticelli Il tecnico Stallone Fa partire dalla panchina L'ultimo acquisto Il centravanti Il ragazzo Ex della gara La cronaca si apre al nono Con il colpo di testa Di uno dei più piccoli In campo Marra Fuori di poco Dopo un paio di minuti Tocca a Maisto Che approfitta Di un errore di Sosi E va al tiro Marani Para senza problemi A metà tempo Si fa vedere anche La compagine a Scolana Con Pedalino Dalla distanza Gori è attento Al ventisesimo Di Benedetto Si accentra E va al tiro Ma la conclusione Del match winner Di Recanati Non è precisa La partita scivola via Sui binari Di un equilibrio Che viene definitivamente Spezzato Da una pallina attiva Al quarantunesimo Punizione di Chiacchiarelli Davanti alla porta Va giù Maisto Che però con grandi riflessi Da terra è lestissimo A sfruttare la torre Sul secondo palo Di Benedetto E in rovesciata Batte Marani 1-0 E terzo cento In campionato Per Maisto A secco di gol Dal derby Vinto col Pineto Nella ripresa Pronti via Il San Nicolo Ha subito il palone Per chiudere la partita Bel lavoro Di Benedetto Che si gira E calcia In maniera perentoria Ma il palo Linega il gol Poi il tappin di Maisto Finisce a lato Superato il pericolo Il Monticelli Dà inizio al suo forcing A caccia del pari A cavallo del quarto minuto Ci provano Prima Gesuè Poi Ciabuschi Con un tiro cross Proprio quest'ultimo È una spina nel fianco Per il San Nicolo E si rende ancora pericoloso Al decimo Ma non c'entra la porta Al dodicesimo Arriva il pari del Monticelli Tuttavia annullato Per posizione di fuorigioco Sull'episodio Il tecnico ospite Stallone Avrà da recriminare Nel dopo partita Superata la fase più delicata Il San Nicolo Non rischia più nulla Controlla e colpisce Al trentatresimo Petronio recupera palla Sulla tre quarti Massetti avanza E scarica un destro Violento e angolato Sul quale Marani Nulla può Due a zero E partita chiusa Con la compagine Teramana Che in pieno recupero Sfiora anche il Tris Con il neoentrato tedesco Servito da Massetti Ma il passivo Sarebbe stato poi Troppo pesante Per un Monticelli Sempre penultimo E ancora secco di vittorie Quelle che stanno trovando Campanile e i suoi giocatori E con esse Un po' più di serenità Mi auguro che questa Sia svolta Sicuramente questa Era una partita Fondamentale Per il nostro futuro Perché essendo Uno scontro diretto Questa è una partita Che vale doppio Vale Penso che l'abbiamo Interpretata Nella maniera giusta Dopo un primo tempo Ho giocato A mio avviso Molto bene Sia a livello Tecnico Che a livello Di atteggiamento E di aggressività Poi è normale Che il secondo tempo Loro si sono sbilanciati Hanno messo Una punta in più Quindi I primi venti inutici Hanno creato Dei problemi Poi abbiamo fatto Qualche correzione E penso che abbiamo Portato la partita In porto Meritatamente Non mi ricordo Nessuna parata Del mio portiere Quindi vuol dire Che è stata Una partita Meritata Sinceramente Ti sei mai sentito A rischio Ero cosciente Che se I risultati Continuano a non venire Poteva succedere Anche questo Ma penso che Nella regola Del calcio Insomma I risultati Poi sono Quelli che contano Comunque ancora una volta Voglio ringraziare Tutti i giocatori Per quello che mi hanno dato La società Che ha avuto pazienza Fino ad oggi E probabilmente Ha creduto Pure nel progetto Mio Giovane E sono orgoglioso E solo un episodio Poteva cambiare la partita Poi secondo me Abbiamo avuto i primi 25 minuti al sono tempo Dove ho visto Un grande Monticelli Abbiamo creato Secondo me Tante palle e gole importanti Meritavano il pareggio I giocatori mi dicono Soprattutto quelli che si stavano Scaldando Che il gol in fuori gioco Era regolare Perché c'era il numero 6 Che li teneva In gioco Loro stavano Sulla linea della palla Quindi Cerco di crederci Poi chiaramente Nel finale Abbiamo cercato Il tutto per tutto Mettendo le punte Over E cercando di giocare Sul guiz Con queste palle buttate in mezzo Ma Lì era Per poterla riaprire Invece chiaramente Loro l'hanno chiusa Anche perché devo dire Che loro sono stati Sempre in partita Sempre attenti Sempre concentrati E vogliosi del risultato E dunque complimenti Al San Nicolò Che c'entra il secondo successo Consecutivo Lupus in fabula Si è materializzato Nello studio di diretta stadio Ma È evidente Perché Più tardi Cominceremo a seguire Anche Bari Pescara Andrea Costantini Ciao Andrea Ciao a tutti Buonasera Ben ritrovato Questa sera Non in redazione Ma direttamente all'interno Dello studio Andrea Tu hai seguito Entrambe le partite Tra ieri e oggi Dacci un giudizio Partendo dal Meno recente Dal San Nicolò Che abbiamo appena visto E poi magari Torniamo anche su Francavilla Matelica E una gara È una gara anche concreta Con due bei gol Segnati Da Maisto E da Massetti Certamente Come facevano notare Anche dopo la partita Il fatto di aver ritrovato Un campo sintetico Per una squadra Che è abituata Anche a quel tipo Di terreno di gioco Forse ha aiutato Su questa interpretazione Nel senso Una squadra Del San Nicolò Che negli anni scorsi Abituata a giocare Su un terreno sintetico Abituata ad allenarsi Adesso sul terreno sintetico Appena ritrova il sintetico Va forte È troppo semplicistica Come spiegazione? No Non è che è semplicistica Sicuramente Non è L'aspetto determinante Ma è sicuramente Un aspetto Che devi mettere Nel calderone E ha la sua importanza Perché poi tra l'altro È una squadra Io l'ho vista ieri giocare E si evidenziava Anche la qualità È una squadra Che ha qualità Perché Sassarini Petronio Di Benedetto Massetti Marra Il centrale difensivo De Santis De Santis E sono giocatori Che si vede Che sanno giocare a calcio Poi tu puoi anche Giocare su un campo In erba Ma un campo in erba Che sia Fatto in maniera Che sia un tappeto Allora non cambia nulla Ma se tu vai a giocare Su un campo E non mi parlano Molto bene Di quello di Morrodoro Anzi Tutt'altro È chiaro che tu perdi Tanto Essendo anche poi Una squadra di qualità Anche perché poi I tempi di gioco Di passaggio Sono differenti Su un campo sconnesso Non riesci poi A replicare Quello che fai magari In allenamento Andrea Invece Passiamo dal San Nicolò Al Francavilla Questioni più recenti Quarta sconfitta Interna Per il Francavilla Come l'hai vista La formazione di Ierbesi Oggi Al netto Di una direzione arbitrale Che abbiamo visto Ma ci hai detto Insomma Non essere stata Proprio impeccabile Tutt'altro No Direi che Allora La direzione arbitrale Non ha inciso Sul verdetto Questo lo dico Lo dico prima A scanso di equivoci Certo Era un po' Troppo squilibrato A un certo punto Ed è stato squilibrato Il verdetto Dei cartellini Perché sembra Che il Francavilla Abbia picchiato Alla fine di questa gara E il Materica Non abbia fatto nulla In realtà Qualche cartellino Per il Materica Andava dato I giocatori del Francavilla Si sono poi Innervositi Poi sono stati presi Di provvedimenti disciplinari Un po' troppo esagerati In particolare L'espulsione di Mele E quella anche Di Iervese Però Al di là di questo Il campo Anche in questo caso Ha dato il suo verdetto A mio avviso Giusto Perché il Materica Ha subito impresso La sua superiorità Ha fatto due gol Va risaltata Ancora una volta La prestazione Non positiva Anzi assolutamente negativa Di Amenta Che come nella gara Con il Pineto E soprattutto contro l'Aquila Contro l'Aquila Aveva generato Un calcio di rigore Perdendo palla In fase di rinvio E generando un fallo Ai danni di Valenti Oggi Si è fatto uccellare Da Magrassi E lo ha atterrato Anche rischiato Un provvedimento disciplinare Che invece Non è stato preso Insomma Da un giocatore Come lui Con tanta esperienza E classe Non ci si aspettano Questi errori Poi è chiaro Ha anche la sua età Aveva quasi smesso di giocare Tutto quello che vogliamo Ma lui è un pilastro Della difesa Ed errori così evidenti Non ci si aspetta Insomma Da un giocatore Che ha questa esperienza Quindi quel gol di Magrassi Gol bellissimo Del raddoppio In 22 minuti Il Materica Va avanti 2-0 E' chiaro che poi Il Materica Si è anche un po' Rilassato Su questo doppio vantaggio Ha pensato più che altro A controllare la partita Ripartendo Piuttosto di rado Però Francavilla Non ha mai trovato Il bandolo della Matassa Per mettere in difficoltà La difesa del Materica Ecco ci spieghi Questo Allora è successo Che due minuti prima C'è stato un contatto A palla lontana Noi non abbiamo l'immagine Perché appunto La palla era lontana E quindi Non c'è il momento Del contatto Attenzione Andiamo a Teramo Andiamo a Teramo Scusami Andrea Ho sentito calcio di rigore Calcio di rigore Per il Teramo E' stato atterrato Bacio Terracino Il direttore di gara Non ha avuto dubbi Ci sono adesso le proteste Del gubbio All'indirizzo Del secondo assistente Anche Qualcuno Qualche giocatore Del gubbio E' attorno All'arbitro Ma Non Si cambia Ovviamente la decisione Per quanto riguarda Appunto Il calcio di rigore Appena Assegnato Al Teramo Per atterramento In area di Bacio Terracino Dovrebbe essere stato Ciccone Ad atterrare Il giocatore Del Teramo Che aveva ricevuto Poco prima Palla da Foggia Aveva cambiato Gioco Il centravanti Biancorosso Cerchiamo di rivederlo Lo stiamo rivedendo In bassa frequenza Chiedo anche L'ausilio di Andrè e Fabio Montani Sono due giocatori Che Impallano in quadratura Impallano E' fatto Impallano in quadratura E quindi Il gol di Foggia Il gol di Foggia Ciro Foggia Ha trasformato Il calcio di rigore Quindi Porta in vantaggio Il Teramo Terzo gol stagionale Per Foggia Secondo calcio di rigore Trasformato Dall'attaccante Biancorosso Quando siamo giunti Al trentaduesimo Del primo tempo Quindi Teramo In vantaggio Con il calcio di rigore Trasformato Da Ciro Foggia Guadagnato Da bacio Terracino Ania tra un po' Torniamo da te Stavamo commentando Il calcio di rigore Vi abbiamo interrotto Ci sono due giocatori Che impallano L'inquadratura Però Andrea Stavi dicendo Sì assolutamente Tra l'altro Trasformazione col brivido Perché l'estremo del Gubbio Che aveva toccato il pallone Non è stato un gran rigore Di Foggia Però L'è andata bene Allora Intanto Dico che il fallo Se c'è In Geno Perché in quella posizione Nell'area di rigore Bacio Terracino Non poteva fare nulla Ed era anche raddoppiato Ed era anche raddoppiato Però se c'è il contatto Io Fabio Sinceramente Non riesco a capirlo Perché Sono due giocatori Che non fanno vedere bene L'inquadratura Quindi Però da come è caduto Quanto meno Nel gesto Atletico Chiamiamolo così Sembra che Viene colpito Però giustamente Come dice Andrea Lui si indirizza Verso il fondo campo Ed è raddoppiato Quindi tu lo accompagni Senza entrare Se è entrato Ha fatto una sciocchezza Comunque Quello che ci interessa Insomma Che il Teramo Abbia sbloccato Questa partita Andrea Ti faccio concludere Il ragionamento Su Su quell'episodio Che ha riguardato Mele E poi torniamo a Teramo Perché poi abbiamo Campobasso Avezzano Straordinaria vittoria Dei Biancoverdi Sul Sul Sull'episodio Che ha visto Le spuse di Mele Stavo dicendo C'è stato un episodio A palla lontana Poi non so se Maurizio Riesce a ritrovarlo Perché Siamo nella seconda parte Del file Del servizio Un contatto Tra Meneghello E Mele Mele avrebbe ricevuto Una testata Un tentativo di testata La parte di Meneghello E stramazza a terra Ci sono le proteste L'arbitro non prende Alcun provvedimento Disciplinare Nonostante i giocatori E Francavilla Avessero più volte Indicato di andare A parlare con l'assistente Non era da fare Dopo un paio di minuti C'è un contrasto A centrocampo Mele viene colpito In maniera piuttosto evidente Con il Ecco Questo dovrebbe essere Il contatto A palla lontana Che non si vede Ecco Vedete infatti L'arbitro che fa Che fa segno Alza Poi qui Vedete che colpo Che prende Mele Mele poi distinto Si alza Urla E chiede il cartellino giallo E l'arbitro Anziché ammonire Il giocatore Per un'entrata Che effettivamente Era piuttosto robusta E vigorosa Quando Mele aveva Vedete Qui Mele scarica il pallone E l'avversario Gli va proprio addosso Volontariamente Sì Se noi andiamo avanti Ok Mele qui si libera Subito del pallone L'avversario Guardate qui Va proprio addosso Per far male Per generare un contatto Forte nei confronti Di Mele Mele che aveva già Il contatto precedente Che lo L'aveva infastidito Si rialza nervosamente Chiede il giallo E l'arbitro invece Ammonisce lui Che era stato ammonito Qualche minuto Prima Quindi doppio giallo Rosso Iervese va a cercare Di calmare Mele Che stava protestando Anche con Con l'assistente E viene espulso Anche lui Poi dopo A mio avviso Per compensare Il direttore di gara Non dà il rigore Del potenziale Zero a tre Alla Alla Matelica Espelle Tiozzo Quando il Matelica Aveva avuto Un calcio di punizione A favore Quindi non si sa perché Viene espulso Tiozzo Lo stesso Tiozzo Non ci ha saputo dare Una spiegazione E poi è finita così Però al di là Della giornataccia Dell'arbitro Il Matelica Con quei primi 20 minuti Ha messo A tacere Le velleità Del Francavilla Che insomma Ha pagato Un po' d'azio Anche Per qualche errore Per qualche assenza Di troppo E anche perché In questo momento C'è differenza Tra le due squadre Faccio notare Che il Matelica Per scelta tecnica Del suo allenatore Ha cambiato Cinque undicesimi Della squadra Che aveva asfaltato Il Castelfidardo Non aveva giocato Il Castelfidardo Lo Sicco Oggi è giocato Lo Sicco Oggi non ha giocato Gioè Parliamo di tutti i giocatori Che hanno un passato Recentissimo In Lega Pro Non ha giocato Gilardi È una squadra Che non ha giocato Gerevini dall'inizio È una squadra Che si può permettere Anche di fare Questo tipo di turnover Probabilmente Nessuna squadra Può permetterselo Andiamo Torniamo a Teramo Il vantaggio del Teramo Su calcio di rigore Ma Ania Poco fa c'è stato Un giallo per simulazione A bacio Terracino Per un contatto Che mi permetto di dire Ma è visione televisiva Forse era più netto Del calcio di rigore Invece in questo caso È stato ammolito A bacio Terracino Era quello che ci è parso Anche dal campo Jacopo sinceramente Perché il contatto Sì era quello Che c'era parso Anche da Impresa diretta Da qui Dallo stadio Perché il contatto Con Bergamini C'era sembrato Un pochino più netto Rispetto al calcio di rigore Che poi fortunatamente Per il Teramo Ha trasformato Foggia poco dopo La mezz'ora Invece il direttore di gara Ha deciso di ammonire Per simulazione A bacio Terracino Tra le proteste ovviamente Dell'ex Lumezzani Che non era affatto d'accordo E quindi Si è ripartito poi Con un calcio di punizione Per il dubbio Comunque il gol È il giusto premio Per un Teramo Fino a questo momento Propositivo In avanti C'è un po' più di vitalità Rispetto alle ultime gare Che abbiamo visto Adesso Vuoi per il cambio di modulo Vuoi perché magari Il Teramo è tornato A giocare in casa Probabilmente in casa Quest'oggi c'è un approccio Differente Però è una squadra C'è la squadra di asta È molto più Propositiva In avanti Tra i tre Bacio Terracino A parte Per aver propiziato Il rigore Foggia poi Per averlo trasformato Certamente Il più attivo È Tulli Che fino a questo momento È stato autore Di diversi Numeri Da circo Che hanno Un po' lasciato Interdetti E interdetta La difesa Del Gubbio Che sta provando A fermarlo In qualche modo Comunque Un Tulli Che fino a questo momento Sembra in palla Sembra anche Voler segnare È chiaro che poi Vedremo nel proseguo Della partita Come andranno le cose A te Grazie Agna Dunque 1-0 Sempre per il Teramo Sul Gubbio Sembra dare Qualche risposta A questo atteggiamento Offensivo In questi primi 38 minuti Chiedo a Fabio Montani Insomma Noi stiamo vedendo In bassa frequenza Ma praticamente Abbiamo visto Quasi solo il Teramo Evidentemente Io sono qui con voi Sto guardando la partita La sta facendo Continuamente il Teramo Veramente propositivo Gioca sempre Nella metà campo Del Gubbio Quindi Atteggiamento Positivissimo Nonostante sia Andato in vantaggio Speriamo che Questa cosa Continui Assolutamente Terzo gol Se non erro Andrea Per Ciro Foggia Secondo su calcio Di rigore Abbassano L'unico Che praticamente Ha scippato A Caidi Diciamo che un gol Un gol vero vero Nel più senso della parola Lo stiamo ancora aspettando Sì Perché Per mostrare Il servizio di Fabriano Vastese Facciamo un piccolo cambio Di scaletta Abbiamo Fabriano Vastese Che vuole Sì Dici Abbiamo il servizio in esclusiva In esclusiva Questa Questa domenica Se volete vedere la Vastese La potete vedere Solo qui Su TV6 Perfetto Fabriano Vastese 0 a 4 Il servizio Chissà che cosa ne penseranno I tifosi della Vastese Perché Oggi non abbiamo mandato Paolo Rezzetti Abbiamo mandato Roberta Di Sante Eppure hanno fatto Quattro gol Tante vittorie Abbiamo fatto quattro gol Adesso Che fanno Chiederanno l'upgrade L'upgrade Adottano anche Roberta Di Sante Che ha firmato per noi Il servizio Vediamo Goleada della Vastese Che trascinata da un super Leonetti Regola con un netto 4 a 0 Un Fabriano Cerreto Troppo inconsistente La squadra del neotecnico Sauro Trillini Alla sua quarta gara Sulla panchina marchigiana A dispetto del risultato Pare approcciare bene La partita E dopo appena 20 secondi Salciccia impegna Camerlengo Ma è al quindicesimo Che i locali si fanno più pericolosi Con la punizione di Bambozzi Che sfiora il palo Alla prima vera occasione utile Però Una cinica Vastese Passa Leonetti è velocissimo A fare sua la sfera Sulla tre quarti E superare con un preciso pallonetto Che si insacca sotto il 7 Spitoni In uscita Per la gioia Dei tifosi aragonesi Assiepati nel settore ospiti La prima frazione Termina con un colpo di testa Tentato da Tafani Fuori bersaglio In avvio di ripresa Gli aragonesi potrebbero subito Raddoppiare Ma Cristaldi Manca di un niente L'appuntamento con il Tapin Due episodi da Moviola Tra l'undicesimo E il tredicesimo Il primo in area marchigiana Quando Fiore Servito da Leonetti Cade sull'uscita di Spitoni Ma il direttore di gara Ammonisce per simulazione Il numero 10 Due minuti più tardi Dalla parte opposta Invece Tafani va in gol Ma la rete viene annullata Per fuorigioco Il Fabriano cerca di recuperare La Vastese Ha più spazio Per ripartire in contropiede E al ventesimo Ancora Leonetti Chiama al miracolo Il neo entrato Monti E il preludio Al raddoppio Vastese Che arriva al ventiseiesimo E porta la firma Di Bagaglini Che insacca la rasoiata All'angolino Dove Monti Questa volta Non può arrivare La gara è ora in discesa Per la Vastese Che gioca sul velluto E tre minuti più tardi Fa il trissi In contropiede Con un devastante Leonetti Che firma la sua quinta rete In tre partite E che al quarantaduesimo Dopo aver speso tantissimo Ha ancora la forza Di centrare la traversa In pieno recupero Arriva anche la quarta rete Pellonara Stende in area Bittai Che dal dischetto Cala il poker Un inarrestabile Vastese Conquista così La settima vittoria In otto gare Numeri da capogiro Che la proiettano Tra le primissime Della classe Non ha sconfitta In dieci gare Invece Per un Fabriano Cerreto Che non riesce Ad uscire Da una crisi Di risultati Che lo relega Al terzultimo posto Della graduatoria Insomma è una vastese super 0 a 4 Contro il Fabriano Ma torniamo a Teramo C'è stato il pareggio Del gubbio Con Calombo Torniamo da Anja Cantagalli Anja Il pallone Sporco È arrivato Primo a Calombo E poi Marchi di prima intenzione Ha battuto Con un rasoterra Calore A portare Quindi in vantaggio Il gubbio Incredibilmente Alle prime due vere Azioni offensive Della formazione Di pagliare Il gubbio Addirittura in vantaggio Poco prima Tulli Per confermare Proprio I buoni progressi Che avevamo detto Cocanzi Aveva perso palla Centrocampo Facendo il fatto Ripartire Calombo Nella progressione Che nessuno È andato A cui nessuno I giocatori del terreno È andato comunque incontro Forse l'errore Della difesa del terreno È stato quello Di aspettare troppo L'esterno Eugubino Che è riuscito In diagonale A trafiggere Calore per l'1-1 E adesso Proprio in diretta Il vantaggio Addirittura Del gubbio Con Marchi Che ha portato avanti La formazione Di pagliare Quindi gara in salita Per i bianco-rossegui Asca A un minuto Dal termine Dal primo tempo Incredibile 1-2 Micidiale Del gubbio Che dunque Ribalta il risultato Questo ultimo Questo secondo gol Anche un po' Sfortunato Sales che è scivolato Però Chiedo a Montani Insomma Difesa Abbastanza Da rivedere In entrambe Le circostanze Guarda Nel primo gol È evidente Che c'è Come stiamo dicendo Prima Sta giocando Dalla metà campo Avversaria Il termo E quindi È normale Che possa ricevere Qualche ripartenza In campo aperto È chiaro che Campo aperto Che significa In questo momento Io ho visto Il primo gol Che i due centrali Accompagnavano Il giocatore di colore Del gubbio Calombò Calombò Che è arrivato al limite Con la difesa Che lo attendeva E ha fatto un tiro Dove secondo me Il portiere Non è stato perfetto Non poteva fare Qualcosa di meglio Perché alla fine Lui l'ha accompagnato L'ha aspettato L'ha tirato Il tiro non mi sembrava irresistibile Pure sul secondo Pure sul secondo Bravissimo Sul secondo È un'altra ripartenza E non è nemmeno In campo aperto Perché alla fine Sono 5 contro 2 5 contro 3 Quindi alla fine La difesa c'è Però è stato sfortunato Perché è scivolato Ma poi il tiro È un tiro Che mi sembra Non irresistibile Bastante centrale Quindi sono due episodi Quindi veramente Molta sfortuna In questo caso Sta per finire Il primo tempo A Teramo Però Torniamo sulla vastese Una vastese Straripante Abbiamo visto Un gol di Leonetti Che è meraviglioso Ha ricordato Un Karel Poborski Di un euro 96 Eccolo qua In un Portogallo Repubblica cieca Io Questa cosa qua La farei rivedere 10.000 volte Perché È un gol Meraviglioso È chiaro Che magari Poi quando Quando sei in vantaggio Nettamente Ti riesce tutto E questo è vero Però c'è anche da dire Che contro una squadra Come il Fabriano Comunque in difficoltà Però bisogna sempre Andarlo a vincere La partita Ma che scherziamo Le partite sono tutte Da giocare Assolutamente Al di là del colpo Perché è nelle corde Del giocatore Che è un giocatore Di qualità In questo momento In fiducia Sta giocando benissimo È un giocatore Molto importante E credo che Al di là del fatto Del Fabriano O chi ci poteva stare Al posto del Fabriano In questo momento Leonetti È un giocatore importante Ma io non mi vorrei soffermare Sul Leonetti Io penso che Proprio la Vastesi In questo momento È una squadra forte È una squadra In fiducia Che gioca bene Gioca un buon calcio E quindi È una squadra A cui il Matelica Deve dare Un occhio di riguardo Oggi peraltro In collegamento Post gara Il presidente Bolami Ha dato giustamente Un 8 Alla sua Vastesi Ha detto per il 10 Aspettiamo la fine Del campionato Poi magari Speriamo Ha detto di Poterglielo dare Questo 10 Scendiamo però Negli spogliatoi Di Fabriano Per ascoltare Le voci del post gara Mister Colavitto Anche oggi Una Vastese Inarrestabile Con un super Leonetti Autore di una doppietta E di una prova Corale Comunque Della squadra Molto Organizzata Non c'è stata partita Sì È detto bene Anche oggi Però non era semplice Non era semplice Perché Mentalmente Affrontavamo una squadra Che giocava La partita Della vita E quindi i ragazzi Sono stati bravi Appunto Ad approcciarla Nel modo giusto Sono contento Perché Come dico sempre Non è Difficile Vincere Una partita Ma è difficile Continuare Questo trend Di vittoria E quindi Un plauso Va a loro Che si stanno Impegnando Giorno dopo giorno Qual è il segreto Sono sette vittorie E un pareggio Nelle ultime otto giornate Guarda Segreti Non ce ne stanno Ci sta solo Il lavoro L'abnegazione Dei ragazzi La società Che non ti Non ti fa mancare Niente Insomma Il pubblico Che ti segue Ci sono Tutte queste componenti Che anche quest'anno Girano Girano a favore Una squadra Che non dovevamo Dare gli spazi E dopo Gli ultimi gol Sono arrivati Proprio quando Inevitabilmente Abbiamo concesso Gli spazi È vissuta Per un 60 minuti Sull'equilibrio Noi abbiamo preso Il primo gol Su una rimessa nostra Su altre quarti nostre Quindi Evidentemente Paghiamo Il primo errore Lo paghiamo subito A caro prezzo Queste Non sono assolutamente Giustificazioni Possono essere Dei limiti Fino a quel momento Avevamo tenuto Bene il campo Contro una squadra Ripeto In gran salute E forte E poi Vogliamo attaccarci All'episodio Del gol annullato Che in quel momento Poteva riportarci In parità Da lì Dal possibile Probabile 1-1 Siamo passati Al 2-0 Dall'infinito La partita Torniamo a Teramo Prima di andare In pubblicità È finito il primo tempo Gubbio in vantaggio 1-2 Dopo l'iniziale vantaggio Su rigore di Ciro Foggia L'1-2 Calumbo Marchi Per il Gubbio Torniamo da Agna Cantagalli Agna Allora Finito il primo tempo Che Che aria tira Beh insomma Immagino Non proprio Non proprio Eccezionale No Assolutamente no Qualche fischio Si è anche elevato Dalla tribuna Ma sono stati Soprattutto applausi Poi di incoraggiamento Per la squadra Che rientrava Negli spogliatoi E' chiaro che per 40 minuti Si è visto un Teramo In possesso del pallone Molto meglio Rispetto alle ultime gare Più propositivo Più offensivo Tanto da riuscire Poi Anche Avere un calcio di rigore Su quello Spunto di Bacio Terracino E poi Due ingenuità Fase di Ripartenza Del Gubbio Le prime due vere occasioni Degli ospiti Hanno addirittura Portato in vantaggio La formazione E di non pagliare E' chiaro che adesso Sarà una sfida Molto più complicata Per la squadra Di Asta Ricordiamo che non ha Fratangelo a disposizione C'è però Sumare in panchina Per quanto riguarda I cambi offensivi C'è anche Barbuti Per cercare Magari Nella ripresa Di dare un po' più Peso in avanti E in caso di anche Cambio modulo Asta Probabilmente qualcosa Penserà Magari se dovesse Ripartere così Il risultato A ripresa Inoltrata Però per i primi 40 minuti C'erano stati I segnali positivi Negli ultimi 5 minuti Il Teramo è venuto A mancare Nella fase In cui nelle ultime gare Invece aveva trovato Più quadratura Ovvero la difesa A te Grazie Grazie Ania Andiamo in pubblicità E poi Quando rientreremo Vedremo la vittoria Della Vezzano A Campobasso Per 2 a 0 Pubblicità Eccoci rientrati 19 e 28 Per chi ci segue In diretta In questa edizione Un po' particolare Siamo partiti Alle 18 e 20 Per seguire Teramo Gubbio E poi per dar spazio A Bari Pescara Stavamo commentando Con il mister Montani La vittoria netta Della Vastese 4 a 0 Vediamo un po' Due episodi da Moviola C'è un probabile calcio Di rigore Non assegnato Alla Vastese Per questo intervento Su Nicola Fiore Che però Il mister Sembra Tra un po' La vediamo anche un po' Più stritta Sembra Può lasciarsi andare prima Vero? Sì Non so se sei d'accordo Sembra già in fase di volo Però Sì Pochettino l'accentua Però il portiere lo prende Sì sì Questo è fuori di discussione Quanto stavano qui di risultato? Adesso mi chiedi Mi chiedi veramente Veramente troppo Però È chiaro che siamo nel secondo tempo Però insomma L'ha monito per simulazione? No È stato Ho visto che stava togliendo Il cartellino l'arbitro Quindi Probabilmente Probabilmente Adesso non abbiamo riscontro La nostra Roberta Di Sante Che era Fabriano Altro episodio da Moviola Un gol annullato Al Fabriano Vediamo Questo calcio di punizione Colpo di testa Pallone che termina in rete Non so se L'arbitro L'indicazione è chiara Che è quella del fuorigioco I giocatori protestano Perché Se vediamo Quando parte il pallone Potrebbe essere in fuorigioco Però Quello che colpisce È il giocatore Il penultimo giocatore In maglia rossa A sinistra È questo qua Che poi colpirà il pallone Quello che è impallato Da il giocatore Esatto E lui dovrebbe essere in fuorigioco Sembra Secondo te in fuorigioco? Potrebbe essere in fuorigioco Ok La linea Da così Ovviamente non hai La visuale in linea Però da Colpo d'occhio Sembra che lui possa essere In fuorigioco Sembra al di là di tutti i giocatori Della Vastese Comunque segnalazione È arrivata tempestivamente Tutti i giocatori Della Vastese Si girano verso l'assistente Per segnalare Il fuorigioco Fuorigioco Che effettivamente Poi viene segnalato È cominciato il secondo tempo A Teramo Sempre Gubbio In vantaggio 1-2 sul Teramo Ma adesso Noi ci spostiamo Al nuovo Romagnoli Di Selvapiana Per la vittoria Dell'Avezzano 2-0 Sul campo basso Il servizio Comincia nel peggiore dei modi La gestione tecnica Di Giovanni Masecchia Un azzardo Cambiare le carte in tavola Per il neo allenatore Del campo basso Che vara Il 4-3-3 E schiera D'Agostino Come anomala Prima punta L'Avezzano vince Con largo merito 2-0 Giocando un primo tempo Straordinario Partita giocata di fronte A più di mille spettatori Salutati anche Dal duo presidenziale Leone e De Lucia Dopo sei minuti Grave palla Persa da Danucci Recupera Branichi Che riesce ad aprire Per Pellecchia Il cross è al bacio Sembra un gol fatto Ma Persia Prende un palo clamoroso Avezzano vicino al gol Anche il campo basso Qualche secondo più tardi Rosso-Blu Con D'Agostino Che dal fondo Mette in mezzo Fantic E blocca Dodicesimo Break Rosso-Blu Da Danucci Ad Agostino C'è lo spazio Per un tiro pulito Ma anche per una buona risposta Del portiere Abruzzese Rosso-Blu Molto aggressivi Fin dal primo minuto Avezzano Con delle importanti potenzialità Specialmente in attacco Campo basso Spezzato Al diciannovesimo Dos Santos Coglie in preparati locali Parla per Deramo Che si ferma E batte Landi Con un tiro A giro È il momento Dell'Avezzano Portato in vantaggio Da un talentuoso Classe 99 Al ventiquattresimo Gran palla di Deramo Per Branichi Serve un autentico Miracolo di Landi Che si arrabbia tantissimo Con la sua difesa L'Avezzano È letteralmente Padrone del campo Al ventisettesimo Pellecchia batte La palla in aria Viene corretta Sul secondo palo Da Sbardella Abruzzesi Sul 2 a 0 Senza avere alcun torto E dal cospetto Di un campo basso Che ostenta Grinta e pressing Ma nulla più Abruzzesi Sul velluto Al trentunesimo Da Pellecchia Persia Che calcia Troppo centralmente Il campo basso Non crea Mentre sembra Tutto troppo Alla portata Per gli ospiti Trentaquattresimo A solo di Persia Sulla destra E conclusione A lato Al trentasettesimo Punizione per i Verdi Spizza Biancardi Dos Santos Salza Il pallone Del Tris Qualche secondo Più tardi Incursione di D'Agostino Stavolta Fanti Tocca quel quid Per neutralizzare Tagliare fuori causa Un giocatore Del campo basso Al quarantesimo Gioia Rosso Blu Bloccata Sul tiro di Gerardi La palla è girata In rete da Leone In posizione irregolare Poche sono le proteste Dei locali Il tecnico Giampaolo È costretto a sostituire I due portieri Esce Fanti Reduce Da una botta Con il compagno Di reparto Menna Deve entrare Lombardi Classe 98 Avezzano Adesso con 5 Fuori quota Mentre al terzo Masecchia Inserisce Bisceglie Al posto di Capozzi Altro gol annullato Ai locali Al decimo taglio Importante di D'Agostino La palla Toccata Da Leone Viene poi Insaccata Da Vecchione L'urlo Del tifo locale Strozzato Dalla segnalazione Di offside Che probabilmente Non è Dell'autore Del gol Adesso c'è il campo Basso Secco Il destro Di Vecchione Al dodicesimo Palo Incocciato E disperazione Di Selvapiana Dal quattordicesimo In campo Augustus Al posto di Gerardi Anche i rossoblu Con 5 Fuori quota Quasi al ventitresimo Decide per il tiro Salim Ribeiro Con palla alta Sulla traversa Masecchia poi Rinuncia Danucci Per inserire Sposito Si levano Le proteste Di Selvapiana Al ventottesimo Cross di Elefante In mezzo a Sbardella E Lombardo C'è la caduta Di Augustus Su cui Non viene rilevata Alcuna Irregolarità Secondo Il signor Belfiore Di Parma Il campo Basso Meriterebbe Di realizzare Ma fa grande Fatica Al trentatresimo Buon cross Di Bisceglia Incrocia di testa D'Agostino Ma manda Incredibilmente alto Un minuto dopo Sinistro avvitato Di Cerone Sfera imprecisa Mentre un minuto Più tardi Ancora grande Il rischio Nel dribbling Preso da Landi Dopo il contatto Con Acatullo Viene rilevato Un fallo Anche Ingretolli Al posto di Lanniena Una delle ultime cartucce Giocate da Masecchia Segnalati Cinque minuti Di recupero Nei quali Non succede nulla O quasi Se si accettua Al quarantasettesimo Una girata di Piorelli Che Landi Schiaffeggia In calcio d'angolo Il campo basso Si congeda Dalla gara Al quarantanovesimo Con un tiro Troppo centrale Di Bisceglia I rosso-blui Incappano Nella prima Sconfitta interna All'alba Di un periodo Che si annuncia Complesso Dal punto di vista Delle avversarie Da affrontare Il cambio tecnico In questo caso Non è che sia servito Tantissimo Chiedo a Montani L'esordio di Masecchia Insomma Ha portato Una sconfitta in casa Ma noi Mariamoci chiaro Da Abruzzesi Di quello che accade A Campobasso Ci interessa relativamente Quello che vogliamo Sottolineare È probabilmente Che questa squadra Che vedete adesso Con Federico Giampaolo Lavezzano Ha trovato probabilmente La dimensione esatta La quadratura giusta Oggi Branicchi Dal primo minuto Insieme a Pellecchia Insieme a Dos Santos Dopo Un po' di amarezza Che aveva lasciato Il derby Di domenica scorsa Contro l'Aquila Avezzano Che va Su un campo Come il Campobasso Come quello di Campobasso A giocare la partita A fare la partita Qui già Persia Poteva segnare L'1-0 Però insomma Altro che difendersi Questa squadra Evidentemente Ha una propensione All'attacco Anche per come è stata Costruita Non so se sei d'accordo Ha una propensione All'attacco Che quando gioca In maniera propositiva Riesce A fare risultato Davvero con chiunque Grandissimi risultati Assolutamente Squadra che come dicevo Ho già detto più di una volta È partita un attimino Con qualche difficoltà Per le cose Che abbiamo già detto Ma adesso Ha trovato Secondo me Il mister La quadratura del cerchio È una squadra Di grande qualità Io non ho visto la partita Sto osservando le immagini Ho visto azioni Da ambe e due le parti Con capovolgimenti Quindi sicuramente Una bella partita Perché qui Tra tutte e due le squadre Di qualità ce n'è tanta Quindi tutti e due Si sono affrontati A viso aperto Ma poi una cosa Che ho notato Ed è una cosa Che secondo me È da sottolineare Al gol A fine partita Guarda Queste sono cose Queste sono cose Che Questo abbraccio Dando la dimensione Dell'ambiente adesso E quando poi tu Riesci a lavorare Con serenità Senza situazioni Che possono minare Un po' L'umore Gli allenamenti È una squadra Che ha i numeri Per far bene Tanta roba Quindi Complimenti All'Avezzano Assolutamente Peraltro Questa è un'altra punizione Di Pellecchia Che aveva innescato Lo 0-2 Di Sbardella Il gran gol Di Deramo Insomma Questa è una Viste le immagini Non mi sembra Tutta questa supremazia Dell'Avezzano Dice Franco Però Franco Mettiamo anche sul piatto Della bilancia Che L'Avezzano Giocava fuori casa Ha avuto tantissime Palle e gol Ha avuto la possibilità Di segnare anche Più di due gol Diciamo Forse Pellecchia In questo momento È un po' Diciamo L'ago della bilancia Se gira Lui Riesce Soprattutto Nella fase Offensiva L'Avezzano A dare quella marcia In più Sia con i piazzati Che con I movimenti Sull'esterno Io penso Che I giocatori Che ha L'Avezzano Sono giocatori Di qualità E Pellecchia Secondo me È uno di questi Io penso Che Deramo Sia Io lo Lo farei Notare A qualcuno Perché Il 99 Secondo me È un giocatore Veramente importante Ha tanta qualità Tanta gamba Tanta forza Secondo me È un ragazzo Che può Sperare In categorie Diverse Acerone Che conosco Molto bene Assolutamente Azzeccata La mossa Di Giampaolo Che all'inizio Lo metteva Davanti alla difesa A metterlo Tra le linee Come seconda punta Come Diciamo Tre quarti Grandissima qualità Quindi È una squadra Che ha proprio Nel DNA La qualità È ovvio Che Devi cercare Di far Evidenziare Le caratteristiche Le qualità Che hanno Questi giocatori Lui ci sta Riuscendo benissimo Assolutamente Peraltro Fatemi rispondere Al tifoso Della Vastese Sì L'abbiamo già Mandato in onda Il servizio Della Vastese Però Caro amico Ti dico già Che I servizi Tra poco Saranno Disponibili Sulla nostra Pagina Youtube Dunque Lo potrai Vedere In maniera Facile Giusto Il tempo Dell'upload Poi Magari Se riusciamo Durante la serata A riproporgli I servizi Più importanti Della giornata Lo faremo Vediamo la classifica Maurizio Perché poi Torniamo a Teramo Vediamo la classifica Di serie D Ovviamente Girone F Per Perché voglio Chiedere a Fabio Montani Se questi Se questi Punti Che separano L'Avezzano Anche l'Aquila Dalla prima posizione Sono Già Troppi Per poter Pensare Ad una rimonta Che avrebbe Comunque Del clamoroso In questo momento Sono tanti Però Ritengo Che non siano Determinanti Perché io In questo momento Vorrei aspettare Come sempre accade In tutte le squadre Di calcio Qualsiasi Essa sia la categoria Il momento In cui avrà la flessione Il Matelica Perché in questo momento Il Matelica Viaggia A ritmi Impressionanti Io penso Che avrà un calo Come tutte le squadre E lì poi Quelle che sono dietro Dovranno approfittare Per cercare Di minimizzare Di accorciare Il gap Che c'è In questo momento Adesso Sono tanti Perché 11 punti Sono tanti Però Se L'Aquila E l'Avezzano Riescono a mantenere Una continuità Di risultati Tosta E il Matelica Speriamo Possa avere un calo Lì dopo Si può magari Rirosicchiare qualcosa Sul campo basso Ti chiedo Come l'hai visto Questo cambio Che poi non è solo Un cambio tecnico Perché sono cambiate Tante cose È andato via Pavarese Con lui Foglia Manzillo Questo campo basso Può Noi lo diciamo In maniera Partigiana Ci mancherebbe Può scivolare Dietro le nostre Bisognerebbe Capire dal di dentro Quali sono le motivazioni Di questa epurazione Perché In effetti C'è qualcosa di anomalo Perché se la società Non era contenta Della guida tecnica Si cambia Come purtroppo Accade Spesso Però In questo caso Ci sono diverse Persone Che sono andate via Quindi Adesso la chiave Di lettura Di questa situazione Io non la so Dipende Se il campo basso Ha ancora intenzione Di fare cose importanti Come aveva fatto Come era Nelle loro corde All'inizio della stagione Allora Secondo me Stesso discorso Che ho fatto prima Per Avezzano e l'Aquila Ma se il campo basso Decide di trarre Remi in barca Perché pensa Che ormai Il primo posto è andato Allora Il discorso cambia Però questa è una cosa Che possono sapere Solo loro Torniamo a Teramo È iniziato il secondo tempo Da un po' di minuti A dir la verità Torniamo da Ania Cantagalli Per sapere Se c'è stata La reazione del Teramo Dopo questo finale Di primo tempo Davvero shock Ania a te Sì Proteste vehementi Proprio istanti fa Per un atterramento In area di Ventola Che forse Tra i contatti Finora che vi abbiamo raccontato È stato quello più evidente Ancora una volta Protagonista Alloporto Già sanzionato In occasione Del calcio di rigore E poi accordato Per l'atterramento In area di Bacio Terracina Questa volta però Per il direttore di gara Non c'è stato nulla Attenzione Adesso nuova discesa Velocissima in avanti Di Calombo In qualche modo Il Teramo Riesce a fermarlo Riesce a ripartire Di nuovo Adesso squadre lunghissime In campo Con Tulli Che ha lasciato A Foggia C'è addirittura Speranza In fase avanzata Che sta rientrando In questo momento Con calma Il capitano del Teramo Ha lasciato Sulla sinistra Per un tentativo Pallone in calcio d'angolo Su un tiro Dalla distanza Dai 20 metri Più o meno Da parte del terzino Bianco-rosso In buona forma Quest'oggi Si sta dimostrando Ancora Ventola Ancora il Gubbio In ripartenza Questa volta però Non si intendono Casiraghi E Calambo Ci sarà Tra breve Il primo cambio Per Pagliari Entrerà Giacomarro Vedremo Poi al posto Di chi Ancora però Teramo In possesso Del pallone C'è Varas Che punta Calambo Rientra Sul sinistro De Grazia Rallenta un po' Il gioco Lascia Dall'altra parte Per Ventola Allarga Sulla destra Per Bacio Terracino Lascia ancora L'ex Lumezzane Attenzione Al colpo di testa Da parte di Varas Di un soffio Fuori Il colpo di testa Da parte di Varas Su questo Cross Di Ventola Quindi Teramo Vicino Al pareggio Quando siamo giunti Al quarto d'ora Di gioco Con questo colpo di testa Da parte di Varas Ad incrociare Sul pallo lontano Della porta difesa Da Volpe Non c'è stata Fortuna però Per Riempia Esce Bergamini Entra Giacomarro Per il cambio Della partita Lo effettua Proprio Dino Pagliari Con Bergamini Che si tocca Il quadricipite Sinistro Probabilmente Anche un problemino Per lui Primo cambio Quindi Della gara Con il termo Sotto 2-1 Qui al Bonoles Contro il Gubbio Quando siamo giunti Al sedicesimo Di gioco A te Grazie Ania Sempre Gubbio in vantaggio Abbiamo rivisto In bassa frequenza L'occasione Per Kevin Varas Sembra un po' Con le dovute proporzioni Lo schema del Napoli Esterno Su esterno Ventola Per Varas Adesso Con le dovute proporzioni Non ci insultate Però lo schema E' questo è il termo Perché ovviamente Sta spingendo Ma non deve concedere Assolutamente Queste ripartenze Perché ho visto Che sono veloci Fuori le squadre Di Pagliari Sono sempre Abbastanza arroccate E anche adesso Come vedete Sta giocando 4-4-2 Tutti i toni Della palla Non sarà sempre Ci vuole pazienza Sono arrivate Le formazioni ufficiali Di Bari Pescara Le vediamo Partendo Non so da quale Delle due Chiedo Lumi alla regge Intanto vedo Paolo Renzetti In collegamento Con alle spalle Questa astronave Il San Nicola di Bari Vediamo un attimo Le formazioni E poi andiamo Andiamo da Paolo Le vediamo in grafica Se riusciamo Con l'ausilio Di Maurizio Da qui Eccolo qua Partiamo dal Bari Vediamo un po' Scegliamo un po' Maurizio 4-3 Dunque Confermata la difesa A 4 Perché Ghiomber È tornato Dalle nazionali Dalla nazionale Insieme a lui Tonucci Per una difesa Che era da inventare Per Fabio Grosso Anderson a destra Lex Fiamozzi A sinistra Busellato È recuperato Anche lui Insieme a Teio E Petriccione In prota è Galano E attenzione Perché sono due esterni Letali Alle spalle Di Caramoco Sissè Un tridente Che Po' Paura fa Però Vediamo Le scelte Di Zdenek Zeman Eccole qua Le prendiamo dal sito Della Pescara Calcio Fiorillo Fiorillo tra i pali La difesa È praticamente Obbligata Perché erano in tre A disposizione Fornasier Perrotta Ed Elisalde Fornasier Perrotta E la coppia centrale Zampano a destra Mazzotta A sinistra Carraro Secondo me Carraro Qui farà Il costruttore Di gioco Con Palazzi A destra E Brugman A sinistra E poi Il tridente Anche qui Abbastanza obbligato Del sole E mancuso Ai lati Di Stefano Pettinari Ganz va ancora In panchina Non c'è Benali Non c'è Capone Impegni con le nazionali Che purtroppo Limitano Anche le scelte In serie B Square come il Pescara Che ha Dei giocatori Che sono chiamati In nazionale Evidentemente Pagano Purtroppo Dazio Andiamo a Bari In collegamento Con il nostro Paolo Renzetti Perché Paolo Abbiamo Insomma Letto più o meno Le formazioni Ti do la buona serata Alle tue spalle C'è Lo stadio San Nicola Per questa partita Molto importante Per il Pescara Il Bari In casa Ha ottenuto 18 dei 20 punti Che ha in classifica Sì grazie Jacopo Buonasera da Bari Buonasera Ai nostri telespettatori Una serata Fredda Ma non freddissima Per questo Bari Pescara Che vedrà sugli sparti Circa 20.000 spettatori Con una rappresentanza Di poco più di 300 Supporters Biancazzurri Queste le notizie Per quanto riguarda I biglietti venduti Fino alle 19 Di ieri sera Una partita Molto importante Per il Pescara Perché alla luce Dei risultati Di oggi Anche degli anticipi Dieri Pescara è obbligato A fare risultato Perché la classifica È molto corta Ma è molto corta Sia verso l'alto Che verso il basso Avevi letto Avete letto insieme Dallo studio Le formazioni Io posso andare a vedere Possiamo andare a leggere Insieme le due panchine Partendo da quella Del Bari Con De Lucia Conti Sabelli Kozak Brienza Cassani Questi due giocatori Che sono stati recuperati All'ultimo momento Proprio per la panchina E poi Salzano Iocolano Floro Flores Scalera Miguel E di Achite Per quanto riguarda Il Pescara In panchina Con il tecnico Zeman Ci sono Pigliacelli Crescenzi Canutè Gans Valzania Elizalde Latte Latte Selasi Cappelluzzo Coulibaly E Baez Jacopo Parlavi Delle assenze Che sono diverse Sia nel Pescara Ma anche Nel Bari Bari che deve fare a meno Di Marrone Di Bascia Di Capradossi Impegnato con L'Under 21 Che avevamo ascoltato I nostri microfoni Dopo L'amichevole Vinta dal Pescara Giovedì scorso Allo stadio adriatico Proprio con gli azzurrini Non ci sono neanche Morleo E Delia Dunque Squadre comunque Rimaneggiate Anche per il Bari Diciamo Le scelte sono obbligate Per quanto riguarda I centrali di difesa Perché il Pescara In pratica Alla vigilia Aveva tre giocatori Per due maglie Il Bari addirittura Due per due Perché gli unici due centrali Di ruolo Nella formazione pugliese Sono Tonucci e Ghiomber E Tonucci e Ghiomber Giocano proprio al centro Della difesa Tra l'altro Parliamo di ex Perché nel Bari C'è Ghiomber Che ha giocato Nel Pescara E c'è anche un altro ex Biancazzurro Che è in panchina Forse molti Non lo ricorderanno E Libor Kozak Che è un giocatore Intanto si va riempiendo Qui il parcheggio Antistante lo stadio di Bari Per quanto riguarda Il Pescara Per quanto riguarda Il Pescara C'è un ex giocatore Del Bari Si tratta Di Crescenzi C'è da aggiungere Che per quanto riguarda Invece la direzione arbitrale Ha detto Crescenzi va in panchina Ma ha detto Una cosa simpatica Crescenzi È un destro Che tira meglio Con il sinistro Perché si concentra di più Ma deve capire Lui in primis Se è destro O è sinistro Insomma Poi prima di Evidentemente Scegliere Francesco Zampano Sull'out destro Evidentemente Continua Questa Questa staffetta Tra Zampano E Crescenzi Stasera Crescenzi Che può dare Qualcosa in più Sul lato Sul lato destro Dell'attacco Del Pescara Evidentemente A lui Si appoggeranno La mezzala E anche del sole Sì Evidentemente Per questa partita Zeman Ha ritenuto Più Diciamo Efficace L'ex Giocatore Il giocatore Di origine Ligure Ovvero Zampano Anziché L'ex Di questa partita In chiave Pescara Crescenzi Continua Come dicevi tu Questa alternanza Di partita In partita Perché nell'ultimo turno Aveva giocato Crescenzi Oggi Giocherà Zampano Vedremo Chi giocherà Sabato prossimo All'Adriatico Nella partita Con la Pro Vercelli Dicevo Della direzione arbitrale Perché arbitra Un fischietto Un emergente Per quanto riguarda La Canneby Si tratta del signor Piccinini Di Forlì Della sezione Di Forlì C'è anche da aggiungere Un'altra cosa C'è da aggiungere Un'altra cosa Che riguarda Questa partita Dicevamo Delle assenze Un'altra Particolarità È che il Pescara Nelle due stagioni Fa Giocò qui Allo stadio Di Bari Fu la prima Trasferta La seconda Trasferta Stagionale Di quella stagione Che poi portò Il Pescara In Serie A Il Pescara Di Massimo Oddo Un Pescara Che pareggiò Per 0 a 0 Una gara Non bellissima Che si giocò Nel pomeriggio Proprio qui al San Nicola Con il Bari Dunque Nell'ultima partita Giocata qui in terra pugliese Ci fu un pareggio 0 a 0 Ma questa sera Il Pescara Dovrà cercare Perché no La vittoria Bari che ha vinto Sei partite su sei Qui Dinanzi ai propri tifosi Ma Pescara Che nelle ultime tre gare Invece ha raccolto Un solo punto Dunque C'è l'imperativo Di ottenere un risultato positivo E possibilmente Anche la conquista Dell'intera posta Dicevamo Dei Ventimila Spettatori presenti Sugli spalti Ce ne saranno poco più Di 300 Giunti da Pescara Misure di sicurezza Importanti Per questa partita Proprio anche all'esterno Del casello autostradale Di Bari Sud Che si trova qui A poche centinaia di metri Dallo stadio C'era Un gran numero Di agenti Di forze dell'ordine Proprio in attesa Dei tifosi Del Pescara Vedremo dunque Che cosa accadrà In Bari Pescara Sono le 19 e 54 minuti Dunque poco più Di mezz'ora All'inizio di questa Partita Che rappresenta Il posticipo Della quattordicesima Giornata di andata Del campionato Di Serie B Se non ci sono Domande Dallo studio Io Jacopo Ti restituirei la linea Ovviamente ringraziamo Sì 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 Volevo sapere se stavi Per partire Sì 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 Vedo l'astronave Lì dietro di te Pronto al decollo Paolo Sei pronto a partire Sì sì Stiamo Sì stiamo per partire Anche perché Da qui Dal parcheggio Che Diciamo Si trova Davanti Allo stadio San Nicola Per arrivare in tribuna stampa Dovremmo fare Un bel po' di metri Quindi sarà un piccolo viaggio All'interno di questa trasferta Qui di Bari C'era Zeman Sulla Sulla panchina Che sia di buon auspicio Però Forse Sì C'era Non è un Pescara Che è al massimo Della condizione In questo momento Non è un Pescara Che è al meglio Della condizione Un Pescara Che è ancora Alla ricerca Di se stesso Della propria Diciamo Della propria identità Però In settimana Abbiamo visto La partita Giocata con l'Under 21 L'amichevole Giocata con gli azzurrini E in campo Seppur in una gara Amichevole Pescara Ha destato Una buona impressione L'augurio che possa Far bene anche Questa sera Qui allo stadio San Nicola In una partita Tra l'altro Molto sentita Dai tifosi Biancazzurri Grazie Paolo Grazie Ti lasciamo raggiungere La tribuna Stampa Tra pochissimo Agnonesi e Pineto Facciamo un salto a Teramo Doppio cambio Sono usciti Amadio e Sales Dentro Ilari e Barbuti Torniamo da Agna 4-2-4 Per il Teramo Agna Esatto Cambi Effettuati Poco fa Da Antonino Asta E quindi cambio Anche di modulo Il Teramo Sta provando a premere Per trovare Per lo meno La via del pareggio Però Fino a questo momento I tentativi Infatti sono stati Abbastanza Confusi Infatti Non ci sono Occasioni da Segnalare Nel periodo Non collegato È chiaro che Adesso Dovrà provare A spurtare La velocità Sugli esterni Il Teramo E provare A mettere Qualche cross In più Per i due Centravanti Ripetiamo In questo momento Foggia E Barbuti Per cercare Appunto Per lo meno La via Del pareggio Il Gubbio Poco fa Ha avuto Un'occasione In ripartenza Un 3 conto 3 Poi Fortunatamente Per il Teramo Quasiraghi Ha servito male Al centro area Marchi Il pallone Non è arrivato All'attaccante Del Gubbio Poco E' riuscito Ad allontanare La sfera Ma è chiaro Che adesso La formazione Di Pagliari Soprattutto In ripartenza Come dicevate Prima Potrebbe ancora Fare male Al Teramo Come già Peraltro Ha fatto Sul finire Del primo tempo In occasione Dei due gol Che fino a questo momento Stanno condannando I biancorossi Qui al Bonolis Gubbio Ancora In possesso Del pallone Ricci Sparacchia Sul fondo Quindi si ripartirà Con una rimessa Per il Teramo 28esimo Ancora 2-1 Per il Gubbio Sul Teramo A voi Grazie Ania Torniamo in Serie D In questa puntata In cui saltiamo Tra le varie categorie Pareggio per il Pineto Ad Agnone 1-1 Vediamo il servizio Al Civitelli L'Olimpia agnonese Mette in cassa Un punto contro il Pinete Un avvio piuttosto noioso Che vede le due squadre Abbottonate Ma con i padroni di casa Proiettati verso un gioco Più aggressivo Registriamo le prime azioni Dal ventesimo minuto di gioco E sono tutte di marca Granata Al ventesimo Appunto Litterio In ottima posizione Tenta il colpaccio Ma la difesa avversaria Devia in angolo E proprio su quel calcio Piazzato L'Agnone ci riprova Stavolta è Madì Che stacca di testa Ma Mazzucchetti Lo ferma Al ventinovesimo Ancora occasionissima Per i ragazzi Di Mister Di Meo Con Margarita Che ci prova A qualche metro Dal limite dell'area Ma la palla Si stampa sulla traversa Un minuto dopo Santoro Ci prova col destro Ma non riesce a girarla E la palla Si spegne sul fondo Al trentasettesimo La svolta Napolano Sguscia tra i difensori Granata E a tu per tu Con Faiella Insacca la rete Dell'1 a 0 Sul vantaggio ospite Si vanno gli spogliatoi Con le immagini Di Giancarlo Bustelli Eccoci nella ripresa Neanche un giro di lancette L'Agnone Entrato in campo Con la voglia di riscatto Sfiore il pareggio Con Di Lollo Ma Mazzucchetti Salva tutto Al sedicesimo Barbosa Protesta per un atterraggio In area Da parte di Pepe Ma il direttore Perri Della sezione di Roma Lascia proseguire il gioco Regolarmente Al ventottesimo E ancora L'Agnone All'attacco Ma il tiro centrale Di Ferraro Dalla distanza Viene intercettato Dal numero 1 ospite Con relativa facilità Al trentaquattresimo Il Pineto Rimane in dieci Per l'espulsione Di Mariani Che a terra Ferraro E in virtù del doppio giallo Viene mandato Alzitempo Sotto la doccia Al trentacinquesimo Dal cuore dell'area A sorpresa Madì Su sponda di Barbosa Gonfia la rete abruzzese Per l'1-1 finale Due minuti dopo Ferraro Sfiore il raddoppio Andando fuori Di pochissimo Finisce con un pareggio Che ai padroni di casa Sta veramente stretto Per via delle tante occasioni create Il Pineto Se ne torna a casa Con il nono risultato Utile consecutivo E per il momento Sembra questo Basti Un po' una beffa Questo pareggio Arrivato nel finale Si poteva fare qualcosa Insomma Il Pineto L'ha praticamente Portata a casa La partita Quella azione Nel finale Ho troppa libertà Per questo Madì Ma Io ho visto le immagini Adesso Sembra che L'Agnonese Ha fatto qualcosina in più Quanto meno Sotto porta Come occasioni Da gol Ha avuto un po' più Situazioni importanti Il Pineto Situazioni importanti Al di là del gol Non mi sembra Chiaro che dispiace Perché quando si arriva alla fine Poi La vuoi portare a casa Però Da come ho visto Sembra che Il risultato di pareggio Sia forse Più giusto Assolutamente Peraltro Vediamo Il Pineto Che insomma Avrà Già oggi mancava di Pezzotti Che mancherà Se non erro Anche la prossima partita Avrà Altri Altri Però ha recuperato Napolano Andrea Sì Questa è una buona notizia Intanto mi pare che il risultato sia giusto Perché l'Agnonese ha creato Sia prima del gol di Napolano Sia anche successivamente Quindi probabilmente Una vittoria sarebbe stato un risultato Anche eccessivo Un eccessivo premio per il Pineto Però c'è questa buona notizia Napolano non è un giocatore come tutti gli altri Un giocatore che in questa categoria Se sta bene Fa la differenza Ha segnato con quel taglio Con quel tocco di giustezza Lui ha straordinarie capacità balistiche Grande specialista di calci piazzati Uomo risolutivo E quindi recuperare un'arma del genere Se lui è pienamente efficiente O comunque su quella strada Il Pineto fa un grande acquisto Prima ancora che si riapra il mercato dei direttanti E quindi questa è davvero una buona notizia Poi sì poteva vincere il Pineto Però il campo mi sembra che abbia detto Che sarebbe stato un risultato eccessivo Per il Pineto Una vittoria Peraltro Andrea Tra poco vedremo il servizio di Nero Stellati Per chi ci ha chiesto se abbiamo mandato il servizio dell'Aquila Ancora no Perché non l'abbiamo ancora Arriverà Arriverà A minuto Prossimi minuti Esatto Nei prossimi minuti Poi avremo modo di farlo vedere Tanto siamo in diretta Tanto siamo in diretta Fino per altre 10 ore Alle 23 quindi Mamma mia Mamma mia Va bene Va bene Torniamo a Teramo Perché vediamo in bassa frequenza Un'asta Abbastanza adirato E allora chiediamo conferma a Dania Se è così È un efemismo Jacopo Abbastanza adirato Sta dando il meglio di sé Asta in panchina Ah sta dando il meglio di sé Sì Per cercare di spronare La squadra Non che si sia risparmiato Fino a questo momento L'allenatore del Termo Anche nelle precedenti gare Però Avresti dovuto vederlo Quando non è stato Accordato quel calcio di rigore Sull'atterramento Di Ventola Da parte di Loporto È praticamente entrato In campo Asta con le mani di capelli Disperato Per la mancata decisione Del direttore di gara Che secondo lui Appunto avrebbe Dovuto concedere La massima posizione Al Terabo Altro doppio cambio Pochi istanti fa Proprio ordinato da Asta Sono entrati Altobelli E Paolucci Al posto di Caidi E De Grazia Praticamente non cambia nulla Nel 4-2-4 Che è stato varato Dal momento dell'ingresso In campo Di Barbuti Barbuti Però vuole provare Evidentemente il tecnico Bianco-Rosso A scuotere Alla squadra Dal centrocampo Ancora Attenzione a questa Ibucata Da parte Del Gubbio Con Ciccone Che ha provato A mettere In mezzo Però in Ripartenza In velocità Prova a far sempre Mal Alla formazione Di Pagliari Palla ancora Che in qualche modo Arriva a Ricci La lascia A Marti Che vorrebbe Il calcio Di posizione Per un tocco Di meno Di Ventola Non è però Dallo stesso avviso Il direttore Di gara Sarà invece Fallo laterale Proprio Eseguito Dallo stesso Ventola Che ha messo in gioco Il pallone Per i suoi compagni Di squadra Speranza Dall'altra parte Per Varas Che è andato a fare Il terzino Con il cambio Di modulo Tulli Non riesce però Ad impattare Con il pallone Giacomo Tulli Che è praticamente Sparito dal campo Al momento In cui ha commesso Quell'errore Che ha propiziato Il primo gol Del Gubbio Perdendo quel pallone E' uscito dal campo Anche Tulli Almeno fino a questo momento Ovviamente Asta spera Di recuperare Psicologicamente Il giocatore Ex Sul Tirol Perché in questo momento Di pressione finale Ci sarà bisogno Anche di lui Per il terremo Tulli proprio Che riceve in questo momento Prova a puntare Il suo avversario Preferisce invece Tornare indietro Per Ilari Ma il suggerimento Di Ilari Che per Foggia Viene fermato In qualche modo Da Ricci E poi ci sarà Un calcio di punizione Accordato dal direttore Di gara Per un fallo Commesso dal terremo Trentaseiesimo Ormai Qui al Bono Gubbio avanti Vediamo il prossimo turno Piscina Questa è una partita Mattelica L'Aquila È una partita Davvero Da non perdere Perché insomma L'Aquila Ha vinto oggi Sta facendo Un grandissimo Campionato E va sul campo Della Capolista Poi Monticelli Fabriano Il Pineto Contro il campo Basso Che deve Assolutamente Risollevarsi San Marino San Giustese Nero Stellati Lavastese Ospital Castelfidardo Vispesaro Agnonese Che partite saranno Quale partita Ti intriga di più Forse il derby Eh sì Perché anche se Come dicevi tu Sono su due Diciamo Obiettivi diversi Ma due squadre Che in questo momento Una È in serie positiva Ormai da Tanto tempo Come la Vezzano E sta giocando benissimo E il San Nicolò Che sta tornando su E quindi Sta ritrovando la serenità E vorrà dare sicuramente Continuità di risultato Risultati Alla sua squadra Quindi Questo derby Sarà sicuramente Molto bello Meno l'Aquila L'Aquila Ce la può fare A battere O comunque A fermare il Matelica Guardi Innanzitutto Bisogna fare un applauso A questi ragazzi Che stanno continuando A giocare Con impegno straordinario Viste le situazioni Che hanno Io penso Che queste sono partite Che I ragazzi I giocatori Tutti quanti Vorrebbero fare Sono partite belle In conto della prima Della classe Quindi Ti dovrai misurare Con quella squadra Che fino ad oggi Sta dettando legge Quindi Gli stimoli E le motivazioni Dovrebbero essere Massimali Impegno insidioso Non sembrerebbe Perché è un po' In fase calante Il Castelfidardo Per la Vastese Che probabilmente Non deve lasciarsi Ingannare Assolutamente no Assolutamente no Queste sono le partite Dove Bisogna essere Concentrati Attenti Come magari Dovrebbe essere sempre Però Quando poi Lavori tanto Ottieni tanti risultati A volte Può succedere Che lasci un pochettino Per strada Qualche punto Quindi prepararla bene Non lasciare nulla Di intentato Perché poi Le partite Le devi vincere Sul campo Io penso Che questa Possa essere Una partita Importantissima Per la Vastese Perché Vincere Potrebbe significare Forse In questa domenica Rosicchiare qualcosa A qualcun altro Assolutamente L'Aquila Domenica 19 Andrà a vincere A Matelica Una squadra molto forte Da del filo Da torcere A tutti Tra poco Vedremo anche Il servizio dell'Aquila Andrea Prima ci hanno scritto Come mai il campo basso Un tifoso del Pescara Come mai il campo basso È da tanti anni Che fa la D Perché non è sempre facile Fare dei campionati E poi vincerli Poi c'è stata Guarda Quest'anno sembrava Sulla strada giusta Poi però Sono arrivate queste dimissioni A sorpresa Di Pavarese Nel girone F C'è anche l'Aquila Capologo d'Abruzzo Per tifosi non esiste E chi l'ha detto Tu Ma non è vero Assolutamente Stavo dicendo Sono state Le dimissioni Del Digituri Del DS Pavarese E anche di Foglia Manzillo E lì è cambiato tutto Qualcosa non è andato Per il verso giusto Però sembravano Degli elementi A livello dirigenziale All'altezza Della situazione Assolutamente All'altezza della situazione E il campo basso Aveva iniziato Molto bene E poi qualcosa Si è incrinato E oggi Il nuovo campo basso Versione dirigenziale E nuovo allenatore Ha iniziato col piede Sbagliato Quindi anche per quest'anno Penso che il campo basso Dovrà rinunciare Al sogno di vincere Il campionato L'Aquila Nel corso della nostra diretta Mostreremo il servizio È vero che c'è questa partita Che intriga tanto Materica l'Aquila Ma purtroppo C'è domani Un'altra partita Ben più difficile Per la squadra Non per la squadra Per la società aquilana Perché ci sarà Questa data del 13 di novembre Con l'assemblea In cui Dei soci In cui sarà Portato il bilancio Domani Sì domani E quindi Prima ancora che quella gara La partita principale L'Aquila La gioca domani E poi si vedrà Io spero che l'Aquila Possa giocare nel pieno Delle forze La gara a Materica Ma molto passa Anche per quello che accadrà Domani E nei prossimi giorni In generale Vittoria della Iesina Sul Nero Stellati 0 a 3 Il servizio La dodicesima giornata Del girone F Di Serie D Mette di fronte Nero Stellati E Iesina Pelini in cerca Del primo successo Stagionale Marchigiani Arrivati al Barbati di Pescina Per muovere ancora Una classifica In linea Con i programmi Di una tranquilla salvezza I barroni di casa Si presentano Con Valente Del Gizzi E Ponticelli A formare Il nucleo centrale Di una difesa Completata Agli esterni Puglielli E di rosa E di rosa Mentre in mediana Agiscono Capitan Vitone Pacella E l'ex di turno Censori In attacco Spazio al tandem Isotti Cicconi Dall'altra parte La Iesina Scende in campo Con Pierandrei Principale Riferimento avanzato Supportato agli esterni Trudo e Cameruccio Che incidono Sulle corsie esterne Di un folto centrocampo Governato dal trio Magnanelli Zannini E Parasecoli La squadra di Gianangeli Parte senza timori Reverenziali In un match Impattato davvero male Dai Nerostellati In svantaggio Dopo appena due minuti Quando Pierandrei Super apparente Con un colpo di testa Che sblocca il punteggio Nerostellati all'angolo Come un pugile suonato E Iesina Che legittima il vantaggio Sfiorando il raddoppio Prima con il tentativo Di Cameruccio Disnescato da Ponticelli E poi con un velenoso Colpo di testa E l'attaccante Pierandrei Al diciottesimo Sono ancora gli ospiti A rendersi pericolosi Con la stoccata di Magnanelli Che si imbranche Contro la traversa Della porta Peligna Pallino del gioco Nelle mani dei marchigiani Che mantengono Le giuste distanze Tra i reparti Recuperando palloni In grande quantità E ripartendo con facilità Verso l'area nerostellata La squadra di Di Marzio È assente Ingiustificata In una gara Che per gli abruzzesi Doveva essere L'occasione da cogliere Per accorciare il distacco Dalla zona play-out Solo timidi segnali Dai Peligni Prima e censori A non inquadrare Lo specchio E la porta ospite Poi e i sotti A concludere Senza creare Particolari problemi All'estremo difensore Marchigiano Nell'intervallo Cone rileva Puglielli Nei nerostellati Colpiti ancora In apertura di ripresa Quando È il centrale difensivo Gremizzi A trasformare il penalty Che vale il raddoppio Per i leoncelli Il primo cambio Ospite Vede l'ingresso Di Margarita Per Trudo Con la Iesina Sempre pronta A pungere in avanti Là dove i nerostellati Non riescono più A rompere il ghiaccio Per un gol Che manca ormai Dalla quarta giornata Nemmeno il doppio cambio Sortisce Gli effetti sperati Da Di Marzio Che inserisce Di Ruocco E Verrocchi Rispettivamente Al posto di Valente E Cicconi È sempre la Iesina A mantenere le redini Del gioco La conclusione Di Margarita Trova l'opposizione Di Parente Che capitola però Sul colpo di testa Di Giorni Per lo 0-3 Che di fatto Chiude il match I nerostellati Ci provano inutilmente Con un calcio piazzato Di Vitone Che anticipa I quattro cambi Ospiti Arrivati tra Il 73esimo E l'85esimo Nel finale È ancora La Iesina A cercare il gol Con Margarita Prima dell'ultimo guizzo Dei nerostellati Che non riescono A trovare un gol Che dall'altra parte Viene di nuovo Cercato dai marchigiani Che con pieno merito Conquistano Una vittoria Praticamente Mai in discussione E con la quale Salgono a quota 17 punti Delusione In casa Nerostellati Al termine Di un match Che rappresenta Al meglio La classica situazione Del vorrei Ma non posso Eccoci rientrati Dunque Vittoria Facile Della Iesina Sul campo Del nero Stellati Peraltro Lunedì scorso È arrivato Il divorzio Tra la società Pratolana E l'ormai Ex DS Roberto Pantaleo Che però Ci ha pregato Di ringraziare Sia la dirigenza Che Tutto il pubblico Pratolano Che per l'affetto Che gli ha Dimostrato E quindi noi Riferiamo Questo messaggio Che ci viene Proprio da Roberto Pantaleo Fabio Montani Chiedo È troppo tardi Per rimediare Innanzitutto Mi dispiace tantissimo Per l'allenatore Matteo Di Marzio Che conosco bene È un ragazzo Che stimo tantissimo E per me Anche molto Molto preparato La situazione Non è facile Non è semplice Assolutamente Questa partita Adesso Guardando Le immagini Denota veramente Un attimino Di scorramento Perché non hanno mai Quasi trato in porta E si vede Che c'è una difficoltà Oggettiva Io mi auguro E spero Che a dicembre Possa fare qualche Qualche innesto Per cercare di Di aggiustare un po' E poi nel calcio Mai dire mai Tutto è possibile In questo momento Sicuramente Stanno facendo Grande fatica La vastese Può fare i playoff Ci chiedono Ma Penso Pensiamo Sì Assolutamente sì Assolutamente sì Almeno tre squadre abruzzesi Faranno i playoff Che ne pensi? Ma io mi auguro Anche di più Per noi Sarebbe una bella Una bella cosa Per quanto Anche vincere il campionato Con una di queste Eh Questa Già cominciasse un po' Più complicata Però Credo che Anche se i playoff Poi Indi lascia un po' Il tempo che trovano Per la vastese Che sicuramente Ha composto una rosa Ha fatto una squadra Buona Ma non ha fatto sicuramente Una squadra come tante altre Di questo girone Che hanno nomi illustri Sta facendo veramente Benissimo Assolutamente Io ringrazio Intanto vado un attimo A Teramo Ania per la segnalazione Di un recupero Monstre Vero? Sì esatto Recupero L'Aj qui a Teramo Sette minuti di recupero Sono portati dal direttore De Chiara Ma anche perché Spesso e volentieri Il Gubbio I giocatori del Gubbio Sono rimasti a terra Per presunti crampi A terra Perfetto Allora Poi torneremo da te Ci dobbiamo fermare Per la pubblicità Però Io ringrazio Fabio Montani Che Per chi non lo sapesse Sarà con noi Nelle puntate Della Buzzo del pallone Per commentare Soprattutto la serie D E dunque Speriamo Insomma Il lignaggio di Fabio Non lo scopro Certo io È una Sarà sicuramente Una voce tecnica Autorevolissima Per la nostra emittente Noi siamo particolarmente Orgogliosi Fabio Di Averti Io ringrazio A voi Per l'opportunità Che mi date Spero di essere all'altezza E di poter dare Il mio contributo Quello sicuramente sì Quello sicuramente sì Ci fermiamo Per la pubblicità Voi non cambiate canale Perché dopo la pausa Ritroverete Andrea Costantini Che è già in postazione Già da un po' di tempo Andrea I tifosi dell'Aquila Diciamo che Il servizio è pronto Quindi Appena rientrago Oltre che iniziare A parlare di Pescara Difusamente con la cronaca di Paolo Vedremo anche il servizio Eccole qua Le immagini che arrivano da Bari Tra poco Bari-Pescara Noi ci fermiamo Per la pubblicità A rientro Il servizio dell'Aquila Il finale di Teramo L'inizio di Bari-Pescara Sarà una domenica Ancora tutta Da seguire Sul nostro canale 14 Del Digitale Terrestre Sul vostro Canale 14 Del Digitale Terrestre Ci fermiamo un attimo Torriamo tra pochissimo Voi non cambiate canale I nostri sogni Nelle vetrine In bell'età Siamo veramente noi Dentro lo specchio Ti riconoscerai Siamo veramente noi Serie B con Tei.it Il campionato degli italiani In diretta Tra pochissimo L'inizio di Bari-Pescara Ma dobbiamo anche Darvi conto Del finale di partita A Teramo Prima però Un cambio in studio Perché ci hanno raggiunto Per seguire Bari-Pescara William Carosella Alessio Marcheggiani E Riccardo Clinco In rapida successione Un ciao Una buona serata A tutti e tre Prima di passare con voi A un primo commento Su Bari-Pescara Dobbiamo tornare A Teramo Da Agna Cantagalli Agna A che punto siamo? Conclusione con Maxi Rissa in campo Andrea È finita 2-1 Con la vittoria del Gubbio Qui al Bonolis Si è interrotta quindi La striscia Di risultati utili Consecutivi Per il Teramo Ma è ancora Una Maxi Rissa Con un Foggia Inviperito Con alcuni giocatori Del Gubbio Il Teramo si lamenta Perché Ilari In fase Di rimessa in gioco Da parte di Volpe Lo stesso Volpe Avrebbe avuto Un gesto di stizza Nei confronti Del centrocampista In area Non ravvisato però Dal direttore Di gara Da lì poi N'è nato un parapiglia Con il triplice Fischio finale Da parte Del signor Colombo Di Promo Adesso però Gli animi si sono calmati Il Teramo Va a salutare I suoi tifosi Gara che quindi Si è chiusa Con una sconfitta Per i biancorossi Sconfitta che non arrivava Dallo scorso 24 settembre Quando il Teramo Ha perso in quel Di cubio 4 a 2 Però Dobbiamo dire la verità Nel secondo tempo A parte le occasioni Descritte Con il colpo di testa Di Varas Uscito di poco Quel Presunto calcio di rigore Non accordato Dal direttore di gara Per l'atterramento In area Di ventola La scuola di Asta Ha fatto ben poco Per cercare la via Del pareggio Non è arrivato Un solo cross Utile Andrea Per gli avanti Penso che anche Speranza Negli ultimi minuti È avanzato In fase offensiva Nella speranza Che arrivasse Qualche cross L'unico buono Che è arrivato Da calcio d'angolo Per la testa di Barbuti Ma Volpe Ha alzato In angolo L'ultimo pericolo Creato Per l'appunto Prima di chiudere Pensi che Asta Vada a rimpiangere La pareggia Cosa ci possiamo aspettare In conferenza Visto che si è parlato Tanto dei piccoli passi E oggi che Asta Ha usato qualcosa in più Con tre punte È arrivata una sconfitta Che cosa dirà? Mi stavo chiedendo Per l'appunto Poco fa Tra me e me Che cosa dirà Asta Verso i suoi detrattori Che nelle ultime Detrattori poi Tra virgolette Verso chi Nelle ultime settimane L'ho appunzecchiato Chiedendo un teramo Più offensivo Soprattutto in casa Oggi un teramo Più offensivo C'è stato Non c'è stata però Quella solidità difensiva Che finora La sua squadra Aveva trovato Non so cosa dirà Se magari Appunto Sottenerà il fatto Di un teramo Non pronto Ad essere più propositivo In avanti Rinunciando per l'appunto Ad un centrocampista Sicuramente sarà Un post gara Caldo Perché è stato Molto attivo Tra virgolette Asta In panchina Come sempre Saremo curiosi Di ascoltare Tra breve Le sue parole A te Grazie 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 Agna Possiamo chiudere Per il momento Da Teramo Chiaramente Nel corso Della lunga diretta Ascolteremo anche Le impressioni Degli allenatori Dino Pagliari Del Gubbio E Antonino Asta Del Teramo Ma È il momento Di concentrarsi Su Bari Su Bari Pescara Chiedo Prima di andare Da Paolo Lenzetti Un rapido giro Trenta secondi Ciascuno Parto da William Quanto è importante Questa partita E perché Cercate di essere Sintetici In questo primissimo Giro Poi approfondiremo William Tutte le partite Sono importanti Andrea E questa Ha un sapore Particolare Perché A parte il fatto Della Atavica Diciamo Rivalità Rivalità Fra le due squadre Però Fra le due città Anche Però c'è da dire Che il Pescara Oggi deve Diciamo Far capire Un po' A tutti noi Se è in ripresa Oppure E oppure Ancora in involuzione Certo Le sostituzioni Fatte da Zeman Per quanto riguarda La formazione Danno Qualche idea Però Credo che Siano anche penalizzanti Secondo me Perché le assenze Secondo me Sono importanti Poi Per quanto riguarda Il risultato C'è da dire Una cosa soltanto Se Zeman Vuole Zemanlandia Allora Può succedere Di tutto Se si gioca In maniera Equilibrata Con raziocinio Con intelligenza Si può anche Far risultato Come a Carpi E come a Parma E diciamo Senza Rischiare molto Altrimenti Sarà un Un attentato Alle coronarie Come al solito Alessio Matteo Matteo Pardono Scusa No Di preoccupare E' una partita E' una partita importante Che comunque L'avversario Ha una certa caratura Sia nel campo Che con Organico A me comunque Il Bari Quando l'ho visto Giocare Sembra Una buona squadra Ben messa in campo Poi vabbè Abbiamo un allenatore Di Pescara Quindi Ogni tanto Con un occhio Lo butto Quindi La partita E' importante Il risultato Sono due o tre giorni Che mi chiedono Come finirà la partita Però Come diceva pure William Con Zeman Una tripla Ogni partita La puoi vincere Con la prima Come perdere Con l'ultima Quindi E' molto importante Quindi questa volta Ti hanno chiesto Come va a finire L'altra volta Invece ti sollecitavano Sul fatto che I giocatori Erano contro Zeman Sì Vabbè Ma quella Poi è stato pure Poi Fiorillo Un po' smentirlo Io avevo accennato Della prestazione E comunque L'aveva I giocatori Non potevano giocare Contro l'allenatore Ma poi è stato Fammi aggiungere Una cosa Io ho notato Non avevo dubbi Però una grandissima Diciamo Onestà intellettuale Onestà intellettuale Da parte di Fiorillo Perché? Perché lui Nell'intervista Ha detto E ha precisato Che bisogna capire Anche Che questa Non è la squadra Dei cinque anni fa Che aveva In mano Zeman E non ci sono I vari Insigne Immobile Verratti Io direi Anche Sansovini E quindi Praticamente C'è anche Da fare Queste considerazioni Dopodiché È ovvio Che Zeman Si può creare Può creare Nuove leve Che poi Magari diventano Nel futuro Grossi giocatori Però Non è mica semplice Trovare sempre Giocatori come Baiano Signori Rambaudi Insigne Immobile Verratti Eccetera Eccetera Quindi Credo che Zampano Mi è molto Piaciuto Per quanto riguarda La sua Onestà Intellettuale Andiamo Ad ascoltare Anche Riccardo Riccardo Poi dopo Andiamo Da Paolo Renzetti Riccardo Guarda La classifica È corta Una vittoria Tutto sommato Ci rimetterebbe In corsa E Pareggio Sconfitta Sarebbe Un problema Perché Iniziamo Ad avere Quei 7-8 punti Dalla prima Ecco Vediamo La classifica Proprio per Aiutare Anche il discorso Di Riccardo Riccardo Eh vedi C'è Paderno Fiume Venezia Che ormai Noi siamo Abbiamo 17 punti Andando a 20 Tu vedi che Comunque Ci riagganciamo Al discorso Playoff Perché È vero Che è corta La classifica Però è anche Vero che Tanto le giornate Passano E dobbiamo Anche guardarla Vedi che Invece Con un pareggio E una sconfitta Rimaniamo Ancora Invischiati In questa In questa Fascia Di mezzo Che onestamente Non mi soddisfa Riccardo Principalmente Noi teniamo Al fatto Che dimostri Di avere Una identità Precisa Il Pescara Fino ora Non l'ha Giusto William Ti vedo caldo Ti vedo caldo Pronto Sono sempre caldo Perché È il maglione È il maglione natalizio Che un po' Lo inizia Per il Pescara Questo è Il maglione natalizio Stia scalpitando Anche Paolo Lorenzetti Io ora Do la linea a Paolo A Bari Con lui seguiremo I primi due minuti Di gara Poi rientriamo Altre considerazioni E poi vedremo Anche il servizio Della partita L'Aquila Re Canatese 2-0 Allora Paolo Di nuovo Buonasera Linea a te Per seguire I primi due minuti Di partita Sì grazie Di nuovo Buonasera Dalla tribuna stampa Dello stadio San Nicola Di Bari Un saluto ovviamente A Riccardo William E Matteo Sta Andando Forse sentirete In sottofondo Dagli altoparlanti Qui del Dello stadio di Bari L'inno Della formazione pugliese Circa 20.000 spettatori In un impianto Mastodontico Che Può contenere Fino a 58.000 spettatori Dunque Ci sono Larghi vuoti Nell'impianto Barese Ma sicuramente Una presenza Di tifosi Rilevante Per una partita Di serie B Andiamo Mentre Tutto pronto Per l'inizio Di questa partita Sarà il Pescara A toccare il primo pallone Pescara che attaccherà Dalla destra Alla sinistra Della nostra postazione In curva a sud Gara iniziata intanto In quest'istante In curva a sud Stanno entrando In questo momento Una parte Dei Circa 350 Tifosi Del Pescara Annunciati Qui allo stadio San Nicola Tifosi Biancazzurri Che stanno entrando In questo momento Proprio a gara Iniziata da pochi istanti Per motivi Di ordine pubblico Dicevamo Circa 20.000 Gli spettatori Presenti Pescara che attacca Dalla destra Alla sinistra Della nostra postazione Dunque sotto La curva nord Dove ci sono Gli ultra Della formazione Di casa Ricordiamo le formazioni Brevemente Quando si gioca Da 40 secondi Allo stadio San Nicola Di Bari 0 a 0 Tra Bari E Pescara Bari 4-3-3 Con Micà In porta Anderson Tonucci Ghiomber E Fiamozzi In difesa Fiamozzi E Ghiomber Ex Biancazzurri Poi a centrocampo Teio Bussellato E Petriccioli In avanti In prota Cisse E Galano Per quanto riguarda La formazione Pugliese Il Pescara Risponde Con il medesimo Schieramento E con Fiorillo In porta Zampano Perrotta Fornasier E Mazzotta In difesa Bruckman Carraro E Palazzi Con Carraro Che giocherà Da metodista Da metronomo Di centrocampo Sono i tre Proprio del reparto Nevralgico Del campo In avanti Mancuso Pettinari E Del Sole Abbiamo detto L'arbitro Il signor Piccinini Della sezione Di Forlì Ricordiamo Anche i due assistenti Che sono il signor Pagnotta Di Nocera Inferiore E il signor Scarpa Di Reggio Emilia Quarto uomo Aleandro Di Paolo Di Avezzano Di Paolo Che aveva arbitrato L'amichevole Di giovedì scorso Del Pescara Con l'Under 21 Amichevole Vinta dai Biancazzurri Con il risultato Di 2 a 1 Possiamo entrare Per qualche istante A cronaca Per vedere Quello che sta accadendo In campo Bari Che si è portato In avanti In questi primi istanti Di partita Con ora Il Pescara Che sta per battere Però una rimessa Laterale Gran tifo Da parte Dei tifosi Di casa Partita molto sentita Questa fra le due Tifoserie Dunque tifoserie Di Bari E Pescara Ancora qualche secondo E poi torneremo allo studio Con il Pescara Che ora sta impostando La prima azione offensiva Con Mancuso Il controllo Dei pannone Poi il lancio Sbagliato Di Brugman Per Mazzotta Con la sfera Che è terminata In fallo laterale Si gioca da 3 minuti 2.25 Sul nostro cronometro Allo stadio San Nicola 0 a 0 Ovviamente Tra Bari e Pescara Linea che può tornare allo studio Grazie Grazie Paolo Lorenzetti Visto che siamo anche In un contesto particolare Perché la nostra nazionale Rischia Speriamo di non fare il mondiale Vi diciamo che c'è una squadra Che ha già staccato il pass Parliamo chiaramente Dei playoff Per accedere al mondiale Di Russia La Svizzera Pareggiato 0 a 0 Con l'Irlanda del Nord In virtù della vittoria Dalla gara d'andata Seppur viziata Da un rigore inesistente La Svizzera dunque Va al mondiale Tra poco inizierà Grecia Croazia Ma la Croazia è forte Del 4 a 1 Dell'andata Io direi Di andare a vedere Allora Il servizio Della partita L'Aquila Re Canatese E poi andiamo in studio Per un Un altro giro Con i nostri ospiti Dopo i primi minuti I primi istanti Di Bari Pescara Torniamo in D Dunque L'Aquila Re Canatese Una bella partita Da vedere Tra l'Aquila e Re Canatese I Rosso Blu Hanno dominato il gioco Con decine di occasioni De gol Ma gli ospiti Si sono difesi Con dignità Anche grazie Ad una grande prestazione Dell'estremo Maraglino Dopo il primo minuto Si fa pericolosa L'Aquila Re Canatese Con Senigalliesi Solo la prontezza Di Farroni Con una deviazione In angolo Evita il gol ospite Solo 5 minuti Per prendere le misure E al sesto L'Aquila segna il vantaggio Assist di Padovani Per Valenti In gran forma Che va in gol Con un tiro di sinistro A giro Ancora 5 minuti E l'Aquila Trova l'occasione Del raddoppio Con Di Paolo Che lancia Valenti In contropiede Smarcati i difensori Calcia Ma Maraglino Salva la porta Ma il raddoppio Non tarda E al ventesimo La sfortunata Re Canatese Sigla un autogol Con Mule Che tentando Di salvare La porta Da un insidioso Cross Di Boucher Centra la rete Gli ospiti Reagiscono subito Al ventunesimo Con un calcio Piazzato Che centra La traversa La Re Canatese Scende di tono E l'Aquila Spicca il volo Si susseguono I tentativi Al ventiseesimo Di Padovani Dal limite Ma Maraglino Para E al trentatresimo E ancora Di Paolo Ma la sfera Tocca il legno Al trentasettesimo Ancora Padovani Istancabile E pericoloso Di testa Ma Maraglino Para di piedi E manda in angolo Il primo tempo Si chiude Con l'ammunizione Di Giaccaglia Il secondo tempo Si apre Con un tentativo A rete Di Padovani Al quarto Ma Maraglino Salva la porta Parando in due tempi Al nono E Caffiero In area Ma l'estremo Della Re Canatese Non lascia spazio Al ventiduesimo Ancora un'occasione Sciupata E un po' sfortunata Per l'Aquila Calciavalenti Ma Maraglino Para Ritenta Caffiero Ribattuta Ma la palla Colpisce la traversa Al ventisettesimo Padovani Viene ammonito Per simulazione Al quarantesimo Di Paolo Si infortuna Una botta Che non fa presagire bene Nei cinque minuti Di recupero Fabrizio Il quarantaseiesimo Si tuffa Colpendo la palla Di testa Ma la sfera È fuori di poco L'incontro Si chiude Con uno spettacolare Tiro di valenti Al quarantanovesimo Che è smarcatosi Il rompe in area Ma la palla Colpisce il legno Traverso Un ottimo approccio Alla partita Anche se An or del vero La prima occasione È stata Della Re Canatese Una bella parte Dei farroni Va sottolineata Anche perché È stata fatta Molto bene Però Penso Da lì in poi La partita L'abbiamo condotta In maniera esemplare Come volevamo Abbiamo trovato Le giocate Che abbiamo provato Quando una squadra Lotta Per le basse classifiche Poi l'aspetto psicologico Incide È naturale Che l'Aquila Ha meritato Questo risultato Perché poi Insomma La squadra Si è un po' Nella ripresa Però insomma Troppo poco Dunque Questo è il servizio Di l'Aquila Re Canatese Vittoria Netta Per la squadra Di Battistini Domani L'Assemblea Dei Soci E poi Domenica prossima Trasferta Sul campo Della Capolista Per la compagine Rosso-Blu Torniamo In studio Dei nostri ospiti Riparto Da Matteo Marcheggiani Perché Questa è una Partita Che Non dico Debba Rappresentare La svolta Però Sono in campo Due squadre Che hanno Grande prestigio Ci sono Delle assenze Su entrambi i fronti Per il Pescara È stata una settimana Ancora più particolare Con queste nazionali Che hanno inciso E con un Del Sole Che è in campo Essendo tornato Venerdì sera Avendo fatto solo La rifinitura E questa sera Dopo la partita Andrà ancora Con l'Under 20 Quanto può essere Grande L'impatto Delle nazionali Su questa gara In particolare Sul Pescara Visto che manca Anche Capone E manca Benali Purtroppo questo è lo scotto Di avere ragazzi Che si sanno Che giocano in nazionale Però ovviamente Avere ragazzi Che giocano in nazionale Vuol dire comunque Una forma di garanzia Sulle loro prestazioni Sulla loro attività fisica Certo Del Sole È tornato Ripartirà Però comunque Un ragazzo di 18 anni Ha le forze Per fare due Tre partite Di fila Anche perché comunque Se i ragazzi Non giocano Comunque si devono Allenare E gli allenamenti Sono Soprattutto quelli di Zemo Sono anche abbastanza Faticosi Quindi per i ragazzi Non penso ci sia Questo grande scotto Purtroppo oggi Giochiamo con una difesa Un'altra volta Rimaneggiata Con i difensori centrali Che il cuore Della difesa Nuovamente Cambiata L'altra volta Avevamo Bovo Coda Adesso Fornasier Perrotta E la partita È dura Ma è dura Perché comunque Il Pescara deve In confronto La partita Con il Palermo Il secondo tempo È stata una bella partita Il primo Ha avuto un po' Paura Dopo che il Palermo Si è riportato in vantaggio È una partita importante Perché il Pescara Deve cominciare A dare delle garanzie Perché noi non sappiamo Ritorno al discorso di prima Se il Pescara È una squadra Comunque solida È una squadra fragile Come imposta la partita Se si scioglie Durante il corso Del match Quindi È sicuramente Una partita Non voglio dire Un croce via Perché Poi la classifica È corta Siamo a quattro punti Dall'ultima Ma siamo a sette punti Dalla prima Quindi Adesso Il calendario Non lo vedrei tanto Poi Ovviamente William non sarà d'accordo Ma questa squadra Secondo me Oltre magari I playoff Non può fare A meno che poi Ci sia qualche svolta In corso di campionato O comunque Ci sia Qualche cosa Questa squadra Comincia a essere Un po' più quadrata Rispetto a quella Che è adesso A William e a Riccardo Ripartendo da Riccardo Voglio chiedere Comunque Si può intravedere Un po' di continuità In alcune scelte Di Zeman Che Ha dato A Carraro La terza chance Di fila Da titolare Siccome in quel ruolo Abbiamo visto che Zeman Ha cambiato tanto Soprattutto dopo L'infortunio di Proietti Proietti che Peraltro È vicino al rientro Ma ne avrà ancora Per Forse Una o due partite Di attesa Intendo Ora A Carraro La terza maglia Da titolare Di fila Comincia a essere qualcosa Visto che Su quel ruolo Tanto Zeman Ha cambiato Vado da Riccardo E poi William Sono 13 giornate E comunque Anche oggi Sono 13 formazioni Forse Forse Qualche ruolo Intravede Un po' Di Un po' Di luce Ma devo dirti Che Onestamente Lo vedo ancora Non dico confuso Che è una parola Forse non giusta Ma Ancora indeciso Sicuramente Non ha ancora In mano la squadra Ruolo per ruolo Che lui Vuole Questo perché Ad esempio Vedi ancora L'alternanza Tra le scienze Zampano No Vedo Mancusa Ad esempio Mancusa Secondo me È uno Degli undici Che lui Si prefigge Di avere Mancusa è un intoccabile Oramai Da quando è tornato Mancusa è un intoccabile Vedi Vabbè Oggi Manca Benali Capone Comunque Fa giocare Del ragazzo Del sole Ma sai Ricordiamo che Avevano fuori Anche Canutè E Coulibaly Che comunque Sono Quando hanno giocato Al di là Di qualche prestazione Sono persone Che sicuramente Per quanto riguarda Per quanto riguarda Il peso In campo Però queste sono scelte tecniche Canutè e Coulibaly Sono fuori per scelta tecnica Sì sì Sono fuori per scelta tecnica Ma tu mi senti Se lui è in mano Gli 11 Non ancora Che comunque Nelle ultime gare Sta dando continuità A Carraro Ad un assetto di centrocampo Che invece Per molto tempo Abbiamo visto variare Specie nel ruolo Palazzi Carraro Borgman Insomma Quello che Sì Ma soprattutto Il ruolo del metodista Che è fondamentale In una squadra Come quella di Zeman Il giocatore davanti alla difesa Carraro Che forse Il meno appariscente Il giocatore strutturato Poco appariscente Però forse Uno che svolge il compito Come vuole Zeman Sì sì Però O forse fa meno danni Non so se dire Che è il migliore O quello che fa meno danni Bravo Rispetto a Canutelli Bravo La seconda che hai detto La seconda che hai detto Ecco William che cosa pensa? Quello che pensi tu Uguale Che sia quello che fa meno danni Quindi Beh no Ma Tu non sei attratto Da questi discorsi In questo momento William Su Su chi faccia giocare Su questa continuità Che cerca di dare Al centrocampo Ma vedi Ha fatto giocare Coulibaly All'inizio 4-5 partite Ah che dico Ed era Proprio Visibilmente Fu Fu In difficoltà Fuori forma Però L'ha fatto giocare Lo stesso Quindi Non Non ci sto capendo Niente Per quanto riguarda La formazione Del pescato Ok Allora Andiamo da Paolo Lorenzetti Due minuti E poi Mi date un'impressione Su Questa prima Parte di gara Del Delfino Paolo Due minuti Sono 13 minuti di gioco Anzi 14 In questo istante Sul nostro cronometro 0 a 0 Lo stadio San Nicola Di Bari Ha caduto poco In questo periodo Non collegato Si è visto il pescara Però all'ottavo Dopo un pallone perso Sulla tre quarti Dalla formazione pugliese La sfera è terminata Sui piedi Di Del Sole Che dai 20 metri Ha tirato di potenza Mandando il pallone Però Sopra La traversa Della porta Difesa Da Micai Per quanto riguarda Comunque Questa primissima parte Di primo tempo Stiamo vedendo in campo Tanto equilibrio Due squadre Guardinghe Attente Soprattutto A non scoprirsi Un po' Il pescara Che sta cercando Di fare la partita Ma come detto Non ci sono state Occasioni pericolose Per le due formazioni L'unica emozione Se così la possiamo chiamare Quella che ha visto All'ottavo Il tiro Di Del Sole Con il pallone Che è terminato Sopra La traversa Inutile sottolineare Se ne è parlato tanto In settimana Che questa E' anche la partita Che vede Il tecnico del Bari Grosso Sfidare la squadra Attenzione Perché c'è La formazione pugliese In area di rigore Del Pescara Con i biancazzurri Che riescono in qualche modo A rinviare il pallone Dicevo Pescara Che ha riconquistato Comunque La sfera La partita Di Grosso Contro la squadra Della sua città Grosso nato a Roma Ma ovviamente Pescarese Di famiglia Dunque per lui Una partita particolare Grosso Che sta seguendo Questa gara Proprio in piedi Davanti la sua panchina Non si è ancora visto Non si è ancora alzato Invece il tecnico Della formazione Biancazzurra Zeman Ora attacca il Pescara Ci sono i fischi Da parte dei 20.000 Dello stadio San Nicola Si stanno facendo sentire Anche i tifosi del Pescara Nonostante la presenza Sicuramente numericamente Nettamente inferiore A quella Dei supporters Di casa Tifosi del Pescara Che hanno trovato posto Nel terzo anello Qui dello stadio San Nicola Terzo anello Del settore Di curva a sud Serata fredda Ma non Freddissima Ricordiamo anche Che il Pescara È in maglia bianca azzurra La casacca tradizionale Per la formazione adriatica Maglia nera Per il Bari Attenzione Perché c'è il contropiede Dell'undici Di grosso Ora si porta in avanti Galano Viene messo a terra C'è il fischio Del direttore di cara Piccinini Che va a comandare Il calcio di punizione In favore del Bari Probabilmente Ce n'era una Di punizione Per il Pescara Qualche attimo prima Ha lasciato proseguire Il fischietto romagnolo Con il Bari Che poi è andato a guadagnare Questo calcio di punizione Attendiamo Andrea La battuta Di questo calcio da fermo Siamo sulla metà campo Del Pescara E poi ovviamente Ti restituirò la linea Pallone sul settore Di destra Con Bussellato Poi Sfera Che viene servita All'indietro Per petrizione Dunque si va per le lunghe Con il Bari Che non riesce ad affondare E dunque Quando siamo giunti Al 16 minuto Nel corso del primo tempo Allo stadio San Nicola Bari 0 Pescara 0 Linea allo studio Bene Allora Riccardo Che impressioni hai Per questi primi 16 minuti Abbondanti di gioco Guarda Per il momento Una partita in fase di studio Non c'è stata Al di là del tiro Di Del Sole Non c'è stato neanche Un tiro in porta Da parte del Bari E neanche da parte nostra Quanto meno Lo specchio della porta Nessun tiro Sono ancora l'inizio Noi credo che Cercavamo di fare Un po' più di gioco Fino a qualche minuto fa Adesso Il Bari Sembrerebbe Leggermente Più proteso Verso l'attacco Però Per il momento La partita È il classico 0-0 di studio Credo che Deve capitare Qualche episodio Per sbloccarla Questa partita William Allora L'approccio alla partita Del Pescara Mi piace Mi è piaciuto L'approccio Possesso palla Del Pescara Il Pescara Cercando di fare La partita E a differenza Di quanto Abbia visto Riccardo Credo che Il Pescara Abbia giocato Più proteso All'attacco Più noi Lui ha detto questo Sì sì no Ho detto il Pescara Ho detto Negli ultimi minuti Il Bari Sì va bene Negli ultimi minuti Era un'occasione Soltanto in contropiede Su una punizione Che poi è stata Anche diciamo Determinante Perché Rischiamo dietro Rischiamo E come Questa è la classica Partita dove Bisogna fare un gol Più dell'avversario Secondo La filosofia Di Zeman Matteo Io mi associo Un po' a quello Che dice William Perché comunque Il Pescara Sta giocando In maniera Un po' più dinamica Rispetto al passato Tre tocchi E poi la palla Si dà al compagno Pure il Bari Sta giocando Bene Però tutte e due Si fermano poi Sulla tre quarti Dell'avversario Quindi diciamo Che pericolosità Per quando riguarda Il risultato Adesso non c'è C'è questo equilibrio Però Alcune volte Il Pescara Non mi piace Quando fa i lanci lunghi Cosa che pure Zeman Ha sempre criticato Questa cosa Invece Si sta giocando Palla a terra Qualche triangolazione Si riesce a vedere Però Non è ancora Quella partita Accesa Che Magari Ci aspettavamo Mi piace Sta andando bene Credo che Magari Se uno delle due Dovesse sbloccare Il risultato Allora Si vedrà una partita Completamente differente Però Staremo a vedere La cosa che mi Comunque Speravo Che Vedendo Gionberg Come difensore centrale Si attaccasse Per le vie centrali Perché è un giocatore Molto lento È un gioco veloce Sulla Sulla linea Dell'area Di capire che Gionberg Non ha lasciato Presto di te Un grande ricordo Esatto Esatto È forte Sulle palle alte Ma la palla a terra È un giocatore Abbastanza lento Quindi Si dovrebbe prendere In velocità Solo che Fino a questo momento Sull'area di rigore Non ci siamo arrivati Ed è arrivato Il secondo tiro da fuori Segno inconfutabile Che Appunto Si fa difficoltà A arrivare Entro l'area di rigore Senti Riccardo Che squadra è il Bari Secondo te È grosso Come lo vedi Alla stoffa Guarda Il Bari Ha un attacco Molto molto forte Credo che sia Uno dei più forti Della B Come attacco È una squadra Che Tende Il grosso Cerca Di farla giocare In un certo modo Poi dipende Sempre anche Dall'avversario Che sono di fronte Però no È una squadra Di quelle che Come noi Può puntare Ai playoff Non È una squadra Non di primissima fascia Ma ripeto Una squadra Che può sicuramente Tranquillamente A dei playoff Ha da parte sua Il fatto che Come partito come stasera Fa 20.000 Fa 20.000 spettatori E questo è un È un plus importante In B Perché 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 Gli spettatori Anche in Lega Loro guardano queste cose Gli stadi Gli spettatori Sono tutte cose Che fanno Che fanno La grandezza Di una società Per quanto riguarda L'allenatore Guarda Come allenatore Lo conosco Abbastanza poco È stato un grande giocatore Lo ricordiamo tutti Abbiamo vinto un mondiale Dico anche Grazie a lui Ma Sicuramente Come allenatore Un po' come Massimo Odbo Sono grandi giocatori Che come allenatori Devono giustamente Maturare Per una questione Di età Natrafica Bontaloro Insomma Ecco Però sono sicuramente Sia Massimo Che Rosso Diciamo Li metto molto vicini Come Come allenatori Sono allenatori di prospettiva Anattori bravi Che Negli anni Secondo me Cambiando varie società Faranno Buona esperienza Saranno dei buoni allenatori Certo che Grosso Dalla sua Anche Se non sbaglio Due anni di primavera Della Juventus E la Juventus Ci punta molto Su questo settore giovanile E poi questa È la prima panchina Importante per lui Quindi È la prima panchina Tra i grandi Sì 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 Quindi Che Comunque Le primavere In alcune squadre Contano e non contano Ma squadre Come Società come Atalanta Come Juventus È Il fulcro Del gioco E dove si vanno a tingere I nuovi ragazzi Quindi comunque È stato messo a dura prova Negli anni passati E secondo me Il nome di Grosso Già sta girando bene All'interno delle squadre Ma Questa supremazia territoriale Che sta avendo il Pescara William Può essere Merito del Pescara O È una Strategia del Bari Che ha elementi Molto molto Veloci Come Galano E come Improta Che lanciati Nello spazio Quegli spazi che il Pescara Potrebbe concedere Possono fare Molto male Tu che ne pensi? Non credo che sia Una scelta Del Bari Questo tipo Di atteggiamento Assolutamente Credo che il Pescara Stia pressando alto E stia dando Un ritmo Che sta mettendo Non in difficoltà Il Bari Ma Gli sta confondendo Un po' le idee Ok Io torno da Paolo Lorenzetti Per avere Anche da lui Visto che Segue la gara Dal vivo Si ha questa Sensazione C'è che il Pescara Che sta Pressando Abbastanza alto E quindi Il Bari È costretto Un po' Nella sua Metà campo E in generale Anche per chiederti Un commento Di questa prima parte Di gara Del Delfino Paolo Si sono 24 Intanto Andrea Minuti di gioco Nel corso del primo tempo Sempre 0 a 0 Tra Bari e Pescara Beh si Pescara Sta pressando O direi Sicuramente bene Sta giocando anche Un po' con la sua difesa In maniera diversa Rispetto al passato Difesa più alta Schierata Questa sera Da Zeman Non sappiamo Se è anche una cosa Voluta Una cosa cercata O se Come dicevi anche tu È una Strategia Dalla parte opposta Del Bari Per cercare di far Di far avanzare Il Pescara Di far scoprire La formazione Bianca-Azzurra E approfittarla Intanto c'è un pallone Perso dal Bari Può partire Il Pescara Attacca la formazione Bianca-Azzurra Ancora i giocatori In maglia Bianca-Azzurra Che perdono il pallone C'è però azione fallosa E c'è anche l'ammunizione Del giocatore Che è andato a commettere fallo Si tratta È giusto Vediamo Del numero È l'ex Fiamozzi Vediamo il giocatore Sì Fiamozzi Che viene ammonito Giustamente per aver Tirato per la maglia Il giocatore Che era partito In contropiede Dunque È giusta Diciamo La decisione Del direttore di gara Di ammonire L'ex Bianca-Azzurro Proprio per Questa condotta Scorretta Punizione per il Pescara Siamo però molto distanti Dalla porta Direi Almeno Quasi 35 metri Dalla porta difesa Da Alessandro Micai E stavamo dicendo Un Pescara comunque Ben messo in campo Lo avevo anche Detto nel corso Del precedente collegamento Un Pescara ben disposto Che non ha corso Mai rischi E che In due circostanze All'ottavo minuto Con Del Sole Al diciannovesimo Con Palazzi Si è fatto anche vedere Con due conclusioni Dalla distanza La prima di Del Sole Terminata sopra la traversa La seconda Finita fuori Ma doppia una deviazione Intanto Pescara Battuta la punizione La parata Dopo un rimpallo Del portiere Micai Pubblico Che vuole La rimessa veloce Per cercare di sfruttare Il contropiede Ma Pescara Che ha già riconquistato Il pallone Nella tre quarti Di campo del Bari Attacca la formazione In maglia bianca-azzura Quando siamo giunti Al ventiseiesimo Del primo tempo Sempre 0-0 Intanto Ancora Il Pescara Pallone all'indietro Poi il servizio Sulla sinistra Per il cross Di Mazzotta L'uscita in anticipo Su un mancuso Del portiere Micai Rimesso subito il pallone Poi viene lanciato In contropiede Si se Si se Nella terra di nessuno Perché non ci sono compagni Si se Mantiene il possesso di palla Aspetta l'arrivo Di qualche giocatore In maglia nera Poi riesce a dare Il pallone all'indietro Ma la difesa Del Pescara È ben schierata Pallone che viene Servito all'indietro Per Tonucci Ci sono anche i fischi Dei tifosi di casa Che si aspettavano Una velocizzazione Della manovra Ora è Ghiomber Che scambia con Tonucci Ancora l'ex Biancazzurro Che lascia il pallone A Fiamozzi Ancora il Bari Si porta in avanti Ma lo fa In maniera piuttosto compassata Finisce per perdere il pallone Poi lo riconquista Ancora si sè Ancora si sè Termina a terra Non si è fallo Si rialza E intanto pallone Che viene rinviato Con i piedi Dal portiere Fiorillo Sono 27 minuti di gioco Allo stadio San Nicola Di Bari C'è un giocatore Del Pescara A terra E il Bari Sportivamente Anche se il pubblico I suoi tifosi Non sono d'accordo Va a spedire Il pallone In fallo laterale Per mettere L'ingresso in campo Dei sanitari Del Pescara E Fornasiere Che però si rialza In questo istante E dunque Non dovrebbe trattarsi Di nulla di grave Per il giocatore Veneto Che si tocca Però Diciamo la gamba Speriamo Che riesca A riprendere bene Fornasiere Perché il Pescara E a dir poco In emergenza Per quanto riguarda I difensori centrali Non ne vengono date Comunicazioni alla panchina Dunque Fornasiere Sembra in grado Di riprendere 27esimo Quasi 28 I minuti a Bari 0 a 0 Tra Bari e Pescara A voi Riccardo Mancuso Prima ha dato un saggio Della sua Straripante Forza in progressione Sì Mancuso È Una delle note positive Quest'anno Della squadra Credo che sia Veramente Un titolare Inamovibile Ed è molto forte Un giocatore Che Se rimane con la testa Per terra Essendo molto giovane Sicuramente Avrà un futuro In categoria superiore Cioè in Serie A Sì Intanto Perdonami Riccardo Visto che Abitualmente A quest'ora Siamo in diretta Ma Verso la fine Dell'Abruzzo Del pallone Tra le 19 E 30 E le 21 Ricordo a quelli appassionati Che si sono persi Questa puntata speciale Dove abbiamo Già mandato Tutti i servizi Di Serie D Che volendo I servizi Sono già disponibili On demand Sulla nostra pagina Youtube Sul nostro sito E anche Sulla nostra pagina Facebook Quindi avete modo Di vedere Tutti i servizi Di Serie D Di tutte le abruzzesi Peraltro il servizio Fabriano Vastese È in esclusiva Solo su TV6 Potete andare Sulla pagina Nostra Sulle nostre pagine Youtube O Facebook O sul nostro sito E vedere appunto I servizi Di Serie D On demand Tra poco Avremo anche le immagini Della sconfitta Del Teramo In casa Albanolis Contro il Gubbio Per 2-1 Ascolteremo anche Le parole Degli allenatori Asta e Pagliari Ora però siamo Concentrati Su quello che sta Avvenendo Al San Nicola Di Bari Perdonami Riccardo Pensavo avessi Concluso Puoi riprendere No no Stavo dicendo Che l'ho concluso È un giocatore Di prospettiva Sicuramente E che sarà Un È Credo Uno Dei perni Su cui Mister Metta la squadra Dopodiché Vorrei Prima o poi Vedere in campo Gans Che è appunto Questo oggetto Misterioso Che non l'abbiamo Ancora visto E così Ha detto Il Mister L'ha detto Un mese e mezzo fa Che non era pronto Che la squadra Ancora non lo sopportava Sono passati due mesi Non l'abbiamo ancora visto E questo vuol dire William Che Gans Andrà via A gennaio Mi sembra Ineditabile Penso proprio Di sì Sarebbe un peccato Tenere Gans In banchina Per sotto l'anno Poi peraltro In settimana Gans ha giocato Anche discretamente L'amichevole Con l'Under 21 Poi al suo posto È entrato Cappelluzzo Che ha segnato Anche il gol partita Vabbè Era un amichevole Però voglio dire C'è anche Cappelluzzo Che male non è E che invece Si trova a fare La riserva Della riserva Quindi È evidente Che delle valutazioni Andranno fatte William E non siamo Così tanto lontani Visto che Siamo a metà novembre E tra un mesetto Mica dipende da me Dipende da Zeeman Che deve fare le scelte La squadra titolare Oggi come oggi Non ce l'abbiamo Quindi Sarebbe opportuno averla Matteo Andrà via A questo punto Sicuramente Perché comunque Porta con sé Un cognome Anche abbastanza importante Quindi Credo che Se non dovesse Trovare spazio Un cognome È stato l'ingaggio Che è stato importante E' anche quello Soprattutto Per la società Avere un ragazzo Che Un contratto Così lungo Che Ce l'ha in panchina Si pensava Doveva essere Che è stato poi Uno dei primi acquisti Del Pescara Quindi È stato molto È stato molto Il Pescara Ci ha puntato da subito Su questo ragazzo Poi mi dicono Che è stato lo stesso Zeeman A volerlo In rosa Per poi Non Scartarlo Perché adesso Non l'abbiamo Per niente visto Fargli fare quelle apparizioni Come il Palermo Negli ultimi Cinque minuti Dove Pettinari Era uscito Proprio con le mani Sui fianchi Perché si vedeva Che non ce la faceva più Per me Sembra più Un'umiliazione Per questo ragazzo E comunque È giovane È vero che si deve fare Adesso Il Bari Stava vicino Alla segnatura Però Fortunatamente È andata fuori Dicevo Meno male Che È giovane Poi si deve Si deve ancora formare Però Stare Un girone Ed andata Fuori In panchina Sicuramente Il valore Del giocatore Diminuisce Diminuisce Anche Le sue prospettive Di carriera Quindi Credo Che Andrà in prestito In qualche altra squadra Però Andarla in prestito Magari Una squadra Che ci punta poco Comunque Lo fa giocare In un altro contesto È qualcosa Per me Sprecato Però Staremo a vedere Cosa farà la società Perché Secondo me Già Si stanno muovendo Già I primi accordi Già si fanno Anche perché Il mercato È vero Che apre a gennaio Però Tutto l'anno Si lavora Per queste operazioni Riccardo Tu Come la vedi Andranno via Tutte e due Ganza e Cappelluzzo Io mi auguro di no Anche perché A quel punto Rimaniamo scoperti In ruolo Perché Tu considera anche Che In un campionato Ci sono le squalifiche Ci sono i piccoli infortuni Cioè Poi veramente Rimaniamo senza centrale Senza boha d'attacco Beh Chiaramente Se dovessero andare via Tutte e due Arriverà un giocatore Che è propenso A giocarsi le sue chance Con Pettinari Ma sapendo già Che parte Gerarchicamente Dietro Magari Ganza e Cappelluzzo Eravano venuti a pescare In prestito Per giocare Perché Alberona Non potevano giocare Se vengono qui E fanno la panchina Magari Se vanno via loro Qualcun altro Comunque va Ma io guardo Tutte e due Credo di no Uno dei due Sicuramente sì E ma io penso Che entrambi Siano stupi Di fare panchina Sì Sì E infatti Ti dico la verità Questo è un po' Uno Diciamo dei limiti Secondo me Che può avere Zeeman Nel senso che Io ritengo Che nell'arco Di 13 giornate Qualche spezzone Di partita Gans Poteva giocarle Anche perché Pettinari Ha alternato Partite da otto Dove ha fatto Anche una tripletta Anzi Ne ha fatte due E partite invece Dove la sua prestazione Non è stata D'altezza Quindi poteva benissimo In quell'occasione E fare giocare L'ultima mezza Ragazzi Quanto meno Provarlo Anche Pettinari Allora mi riallaccia Quello che dice Matteo Sembra quasi Una presa in giro Perché io ti dico Non di farlo Partire titolare Ma neanche Sembra di farlo Giocare Gli ultimi minuti Gli ultimi tre minuti Che è considerato Un gridere cuporo Come ti ho dato L'altra volta Era Valcareggi In Italia Germania Di sei minuti Gianni Rivera Mi sembra un po' Un'esagerazione Se devi fare giocare Almeno Fagli giocare L'ultimo quarto Due ore e venti minuti In modo che uno Entra in campo Prenda in confidenza E poi magari Può dire qualcosa Suo padre Quando Il ragioniere a gennaio Deve fare cassa Come? Ci scrivono da casa Un messaggio Il ragioniere a gennaio Deve fare cassa Però Gans se va via Attenzione O c'è un'offerta Da due milioni Tre milioni di euro Per avere O una Non minusvalenza O una plusvalenza O altrimenti Gans se va via Va via in prestito Quindi non è che Ci saranno Certo Dei vantaggi Dei vantaggi Saltato dal modo Di giocare di Oddo Potrebbe essere saltato Da Zeeman Ma chiaramente Quando vieni da Un'operazione come quella Che ha dovuto subire Andrea Cocco Al ginocchio Non è neanche Immaginabile Che possa essere subito Al cento per cento Però ci sarebbe Anche lui Ci sarebbe anche lui Sono d'accordo Sì Sì c'è anche lui Come quarto Attualmente come quarto Attaccante Chiaramente Il reparto offensivo È quello che quest'anno C'ha Non dico deluso Un po' Però ci ha un po' Lasciato Perché con il giovedì Zeeman Tiriamo pochi Facciamo pochi gol Insomma I discorsi Che state facendo Si evince Chiaramente Che questo gruppo È composto Da giocatori bravi E per ogni ruolo Ce ne sono due Anche tre Per cui Non Cerchiamo di Fare una squadra Per piacere Prima o poi Però William Sul ruolo del centroavanti Zeeman Non ha mai avuto dubbi Cioè Per il ruolo di terzino destro Del metodista Dell'esterno di sinistra Lui cambia Il centroavanti È stato sempre Pettinari Quindi Si ho capito Pure il portiere Era sempre Pigliacelli E poi Certo Però Ora la valutazione William Viene fatta Su un lasso Di 13-14 partite Magari dopo 5-6 partite È ancora presto Ma Andrea Non sono 13-14 partite Da giugno Da giugno Sono 7-6 Del 5-6 mesi Quasi Però Pettinari Pettinari a giugno Sembrava non rientrare Nei piani del Pescara Si era appena salvato Con la Ternana Rientrava a Pescara Per essere poi Girato altrove Perché sai come la Mica stare in testa A Zeman Non è mica facile Perché Quello che A volte abbiamo fatto notare Che Se Si fosse saputo Che Pettinari Era così Impattante Per il Pescara Probabilmente Cappelluzzo E Ganz Non sarebbero Arrivati entrambi Magari arrivava solo Ganz Pettinari E poi Cappelluzzo Non sarebbe venuto Perché Avrebbe fatto il terzo Attaccante Il terzo centro avanti Se Ganz e Cappelluzzo Sono arrivati È perché Uno doveva essere titolare L'altro il cambio E Pettinari Doveva andare via Poi Pettinari Nel corso del ritiro Ha scompaginato tutto Ecco Allora Visto Che vogliamo capire Cosa sta succedendo Andiamo da Paolo Renzetti Paolo Si Barri che va vicinissimo Al vantaggio Proprio in questo istante Con Si sei Il tiro Dall'interno Dell'area di rigore Anzi Quasi Dall'interno Dell'area piccola Quando siamo giunti Al minuto Numero 39 Di questo primo tempo Si sei Con un tiro Violentissimo Ha allargato Però troppo Il compasso E Fiorillo L'ha presa Paolo Questa è una parata Importante di Fiorillo Una parata Io non so se è stato dato l'angolo Sì 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 Calcio d'angolo per il Bari È stato già battuto Pallone tra l'altro Che ha già oltrepassato La linea Bianca E dunque Si riprenderà Con una rimessa Dal fondo Proprio Di Vincenzo Fiorillo Che ha Davvero compiuto Una grossa parata Ma c'è stata l'ingenuità Della difesa del Pescara Perché C'era stato questo impallo Pescara Aveva il possesso Di palla Invece E poi Si sia riuscito A riguadagnare la posizione Soprattutto il possesso Della sfera E allora Paolo Il Pescara gioca O giochicchia Ma le occasioni Le poche occasioni Il primo tempo Le ha avuto il Bari Sì Perché Questa È stata sicuramente Un'occasione importante Attenzione Perché c'è ancora Il Bari Che attacca Sul settore di destra Diciamo che Negli ultimi minuti Stiamo vedendo Più Bari Che Pescara Pescara Che sta facendo vedere Anche un buon fraseggio Squadra bella a vedersi Però poi Manca Come si suol dire La concretezza E Diciamo Pochi minuti fa Ancora Sisse Su un cross Dalla destra Di Anderson Aveva messo Il pallone A lato Di piatto Però aveva anticipato Sul tempo I difensori Biancazzurri Dunque Bari Pericoloso Per due volte Con Sisse Ma soprattutto In questa seconda Occasione Bisogna dire Che la formazione Pugliese è andata Vicinissima al vantaggio È stato determinante In questo caso Il salvataggio Del portiere Fiorillo Ma Pescara Che deve cercare Di fare qualcosa Di più Perché non basta Giocare Palleggiare bene Bisogna anche Andare a concludere In porta Ora C'è la formazione Adriatica In avanti Ancora un fallo Ai danni Di un giocatore In maglia bianca azzurra E c'è Il calcio di punizione In favore Del Pescara Gara Diciamo Che si è ravvivata In questi minuti finali Quando siamo giunti Ora al quarantunesimo Nel corso Del primo tempo Sempre 0 a 0 Allo stadio San Nicola Tra Bari E Pescara C'è questo calcio di punizione Per la formazione In maglia bianca azzurra Ovvero Il Pescara Siamo lontani Un po' come era accaduto Una desina 10-12 minuti fa In occasione Della punizione Che poi aveva portato Anche all'ammunizione Di Fiamocci Siamo sempre Abbastanza Lontani Dalla Porta Difesa Da Micai Allora Attendiamo la battuta Di questo calcio di punizione Pallone Siamo già entrati nel corso Del quarantaduesimo minuto Del primo tempo La battuta Della punizione Pallone in area di rigore Con la difesa del Bari Che riesce a rinviare Pallone che termina Però in fallo laterale Dunque la rimessa Per il Pescara Già effettuata Con pallone per Brugman Buona la giocata di Brugman Vicino il limite Non riesce Il servizio per un compagno Può ripartire il Bari Poi c'è un'azione fallosa Commessa Da un giocatore In maglia bianca azzurra Si tratta di Perrotta Che viene ammonito Dal direttore di gara E questa Vediamo se è Perrotta O no Carraro Carraro Che viene ammonito Dal direttore di gara Dunque parità Per quanto riguarda I cartellini E gialli Dunque dopo Fiamozzi C'è il cartellino giallo Per Carraro Un'ultima nota Andrea Prima di restituirti La linea Perché io ovviamente Sono con gli auricolari Dunque non sento benissimo Quello che Dicono i tifosi Del Pescara Della curva Ma mi dice Stefano Recanati Che pochi secondi fa Pochi stanti fa Ci sono stati Dei cori Dei tifosi del Pescara Non proprio Gentili Verso il tecnico Zenec Zeman Così come era accaduto Al termine Del primo tempo Della gara Con il Falermo La gara Dell'ultimo turno Di campionato Intanto Paolo mi verrebbe da dire Benvengano Se poi la squadra Approccia al secondo tempo Come ha fatto col Palermo Perché poi il Pescara Col Palermo Ha fatto un bel secondo tempo Beh sì perché Diciamo che In questa prima parte Di gara Siamo davvero Alla conclusione Di questa prima frazione Di gioco Dicevo che il Pescara Si è fatto preferire Per una ventina di minuti Con un buon palleggio Con dei buoni fraseggi Però ci sono state Un paio di conclusioni Dalla distanza E il Bari E il Bari invece Ha avuto le occasioni Più ghiotte Con Sisse Intanto Andrea io direi Se tu sei d'accordo Sì andiamo fino alla fine Del tempo Dai Mancano meno di due minuti Alla fine di questo primo tempo E c'è tra l'altro Un calcio di punizione Per il Bari Ad una A 12-13 metri Dalla linea bianca Che delimita L'area di rigore Del Pescara Dunque C'è la possibilità Questa opportunità Sul calcio di punizione Per la squadra allenata Da Fabio Grosso Di poter appunto Usufruire Di questo calcio di punizione Sul pallone C'è Galano Vediamo Se sarà L'ex giocatore Del Vicenza Ad incaricarsi Della battuta Crediamo Di sì Anche vicino a lui C'è un compagno Probabilmente Sarà Galano Ad andare a concludere Verso la porta Difesa da Fiorillo Fiorillo che ha fatto Schierare la barriera Con 5 giocatori In maglia bianca azzurra Ma ci sono anche Due giocatori del Bari Che vanno a disturbare La barriera del Pescara Parte Galano Il tiro Il pallone Che termina Di un soffio Sopra La traversa Al 44esimo Dunque Segniamo Sul nostro cronometro Anche questa opportunità Da parte Di Galano Su punizione Con il pallone Che è terminato Direi quasi di un metro Sopra la porta Difesa da Fiorillo Che tra l'altro Era sulla traiettoria 44 e 20 Sul nostro cronometro Dunque Meno di 40 secondi In questo istante Al termine Del primo tempo Parziale di 0 a 0 Non è stata Una prima parte di gara Entusiasmante Spettacolare Anzi Però Diciamo che si è visto Qualcosa di meglio Nell'ultima parte Soprattutto Lo dobbiamo dire Per merito del Bari Che dopo un inizio Che aveva visto invece Un Pescara Meglio disposto in campo Ha iniziato a premere Con una certa Decisione E comunque Si è fatto vedere Minacciosamente Dalle parti di Fiorillo Per due volte Con Sissè Soprattutto al 39 È stato pericolosissimo L'attaccante del Bari E poi Un minuto fa C'è stata una punizione Di Galano Con il pallone Che è terminato Sopra la traversa Allora Abbiamo già superato Il 45 Non c'è recupero E con qualche secondo Di ritardo Il signor Piccinini Di Forlì Che ha ammonito Per quanto riguarda Questa partita Fiamozzi Del Bari Ferrero del Pescara Va a fischiare La fine Del primo tempo Dunque squadre Che rientrano Negli sfogliatoi Sul risultato di parità Senza reti 0 a 0 Tra Bari E Pescara Più pericolosa La formazione Di casa Che ha avuto Almeno due buone opportunità Per portarsi In vantaggio È tutto per il momento Da Bari Linea che può tornare Allo studio Grazie Grazie a Paolo Renzetti Allora Giro Rapido Con i nostri ospiti Per il consultivo Del primo tempo Poi Torniamo in postazione Da Jacopo Per vedere Gli highlights Di Teramo Gubbio William Un bilancio Di questo Primo tempo Sei soddisfatto Sei preoccupato Per questo Finale Con un Bari Abbastanza pericoloso Beh Diciamo che Ha avuto Le sue occasioni Il Bari Però L'inizio È stato Secondo me A favore del Pescara Loro Non è che abbiano Fatto molto Dopodiché Hanno preso coraggio Evidentemente Noi ci siamo Un po' Diciamo Abbiamo Tirato i remi In barca Un po' E quindi Può succedere Che Si abbia Anche paura Di prendere gol Dopo quelle Occasioni Del Esiste Quindi Praticamente È una partita Equilibrata Tutto sommato Niente di straordinario Il fatto Che stiano Contestando Zeeman In questa occasione Non capisco Evidentemente Ce l'hanno Con Zeeman Anche per Le cose Che sono Accadute In precedenza Credo Per l'addio Post promozione Per il mancato Ritorno Non credo Che Si debba Contestare Zeeman Perché Tutto sommato Il Pescara Sta facendo La sua partita Stiamo Giando fuori casa Quindi A Bari Certo Matteo Riccardo Un minuto A testa Non di più Matteo Guarda La partita Non è stata bella Per quanto riguarda Le occasioni Da rete Perché comunque Ce ne sono state poche E queste poche Poi a favore del Bari Il Fondamentalmente È stata anche Una partita Abbastanza Dinamica Veloce Solo che Bisogna vedere Chi avrà ancora Birra nel secondo tempo Perché se hanno speso Più del dovuto In questo primo tempo Poi magari si rischia Che Il secondo tempo Si perde lucidità L'avversario Può far male Quando riguarda Poi le contestazioni Come diceva Pure William Io mi sono espresso La scorsa settimana Le trovo inopportune Pure in confronti Della società Però Se hanno deciso Di fare così Un po' Per partito preso Un po' Per quello che è successo L'altra volta Che volevano Sono due cose diverse No Vabbè si Volevano Ha pareggiato Ha pareggiato Ha pareggiato Contro la prima Della categoria Perdevi la partita Zitto Fermi Il risultato Ce l'hai avuto Contro il Pari Contro il Contro il coso Contro il Palermo Hai vinto contro il Parma Hai vinto contro l'Avellino Il risultato contro il Palermo Eh no Il Palermo E vabbè Allora Riprenderemo Dovevamo vingere Fatemi sentire anche Riccardo Perché noi dobbiamo vedere Dobbiamo vedere il terro Riccardo E la prestazione Il secondo tempo La prestazione è stata buona Ma In precedenza Un attimo William Sentiamo Riccardo Soffiamo centralmente Abbiamo perso 3 a 0 Col pre Perché la fisicità La fisicità loro È supera la nostra E quindi soffriamo un attimo Abbiamo cercato di fare un po' di gioco Ma Loro comunque sono squadra organizzata Ci hanno contrastato Ci aspettavano E sono partiti con delle ripartenze veloci loro E quindi Una partita comunque Equilibrata Ai punti Un pochino meglio il Bari di noi Soprattutto nella parte finale Per quanto riguarda Il discorso Zeman Non parlo Però io ritengo Che se qualcuno Contesta Qualche domanda me la farei Jacopo Ci porti al Bonolis Andiamo al Bonolis Facciamo Anche noi senza giacca Eh sì Dai Ci siamo qua Andiamo al Bonolis Vorremmo aspettare mezzanotte Eh no Non è ancora mezzanotte Andiamo al Bonolis Per vedere La sconfitta del Teramo Dopo 8 Risultati utili consecutivi In questo Domenica Che per noi Non finisce praticamente mai Teramo come detto Col 3-4-3 Che parte subito Alla grande Traversione di Varas Bacio Terracino L'inserimento Al posto di Ilari Non trova la porta Al diciassettesimo De Grazia Salta Calumbo Sul settore di sinistra Prova ad andare direttamente al tiro Un po' Volpe Un po' forse anche la traversa Eh Gli dicono di no Tulli al diciassettesimo Quindi qualche istante dopo Prova la conclusione centrale Eh Parata da Volpe Questo è Dino Pagliari Eh Che si sbraccia in Eh Panchina Questa è l'occasione Del calcio di rigore Per il Teramo Foggia Per Bacio Terracino Affrontato da Ciccone Per l'arbitro In maniera irregolare E dunque Punizione Massima punizione Dagli undici metri Per il Teramo Rivediamo al rallentatore Questo contatto Tra Bacio Terracino Che forse un po' Si lascia cadere E Ciccone Ce ne sarebbe Un altro di calcio di rigore Più netto Qualche minuto dopo Ma l'arbitro ha dato Questo Va a Foggia Eh Volpe intuisce Ma Non può a nulla Teramo in vantaggio Dunque al trentaduesimo Con il gol Di Ciro Foggia Il terzo in stagione Il secondo Su calcio di rigore Dopo quello messo a segno Contro il Ravenna Ma E' una gioia Questa dei tifosi Del Bonolis Che durerà Pochissimo Perché al quarantunesimo Questo contropiede Del Gubbio Con Calombò Che praticamente salta Tutta la retroguardia Del Teramo La trova impreparata Diagonale Non impossibile Calore Deve arrendersi E dunque Il Gubbio Che trova subito La parità La scivolata di Amadio Non va a buon fine Calombò Punta Speranza Che lo fa avvicinare Troppo alla porta E il giocatore Del Gubbio Si sposta la palla Sul destro Diagonale Non so se imparabile Oppure no Comunque molto angolato Per l'1 a 1 Arriva subito L'1 a 2 Con ancora con Calombò Che appoggia per Marchi Pallone sul primo palo E Vantaggio del Gubbio Che sarà poi Anche il gol partita Perché 1 a 2 Finirà la partita Ancora questa ripartenza Sono 5 contro 3 Scivola Sales Al momento di intervenire Lascia strada libera Calombò Che appoggia per Marchi Pallone sul primo palo Nulla da fare Ancora una volta Per calore E questi sono i pochi Sostenitori del Gubbio A corsi a terra Siamo nella ripresa De Grazia Al 54esimo Ci prova dalla distanza Pallone alto Questa è un'occasione Da rivedere Perché Ventola Va via Viene buttato a terra Dallo Porto Che va in chiusura Sul numero 2 Bianco Rosso Ha protestato tantissimo Sia la panchina Che il pubblico Del Bonolis Ventola Come al solito Forse è il migliore in campo Nella Teramo C'è questo contatto Per l'arbitro Non c'è Calcio di rigore Ma Ventola Ispirato Perché prende il pallone Da casa sua Prova la sventola E Volpe deve superarsi Ad alzare in corner Siamo al 58esimo 60esimo Ancora Ventola Stavolta Inversione assist Per la testa di Varas Fuori De Grazia Ci prova Tiro centrale E poi il corner Di Ilari Che è entrato Nella ripresa Al posto di Amadio Mentre Barbuti Per sale Spallone fuori Nella ripresa Entreranno oltre ad Ilari E Barbuti Anche Paolucci Altobelli E Tulli Per De Grazia Caidi e Sumare Ma non cambia Il risultato dell'incontro Teramo 1 Gubbio 2 E questa è l'esultanza Del Gubbio Dopo 8 turni Si ferma L'imbattibilità del Teramo Asta negli spogliatoi Poi lo sentiremo Dopo il secondo tempo Di Bari Pescara Così come Dino Pagliari Ha detto Una partita Che non abbiamo Meritato di perdere Andrea A te Ok Allora direi che possiamo Fermarci Andiamo in pubblicità E poi ci ritroviamo Con il secondo tempo Di Bari Pescara E con le voci dal Bonolis A dopo Eccoci con la seconda parte Di questa edizione particolare Della Bruzzo del Pallone Siamo pronti per tornare Da Paolo Lorenzetti Anche perché Prima in questo momento Sta per iniziare Il secondo tempo Paolo Ecco iniziato In questo istante Dunque sincronismo Perfetto È stato il Bari A toccare il primo pallone A calciare Il calcio d'inizio Di questo secondo tempo Non ci sono state sostituzioni Andrea Rispetto Alla prima frazione di gioco E dunque Stessi 22 Del primo tempo Si riparte ovviamente Dallo 0 a 0 Tra Bari e Pescara In questo secondo tempo Il Bari attaccherà Sotto il settore Di Curva Nord Il Pescara ovviamente Cercherà di andare A regalare Emozioni E reti Ce l'auguriamo Sotto il settore Di Curva Sud Dove ci sono I suoi 400 Tifosi Subito un calcio D'angolo Per il Bari Che è iniziato Diciamo In velocità Questo secondo tempo Che è iniziato Da 45 secondi E dunque C'è questo tiro Dalla bandierina Per la formazione Pugliese Pallone che viene Rinviato da Pettinari In posizione Di difensore Ancora un rinvio Di Pettinari Ancora il Pescara Che allontana La minaccia Ma la formazione Biancazzurra È tutta raccolta Nella propria Tre quarti di campo E dunque il Bari Con Anderson Che cerca di portarsi in avanti Però poi il pallone Viene dato all'indietro A Gionberg Scambiano i giocatori Maglia nera Il pallone Nella propria Tre quarti di campo Allora possiamo andare A vedere brevemente Le formazioni A ricordarle Con il Bari 4-3 Micah in porta Anderson Turucci Ghiomber E Fiamozzi Sono i quattro Di difesa Teo Bussellato E Petriccione I tre di centrocampo In prota Sisse E Galano I tre attaccanti Pescara risponde Con il medesimo Schieramento Medesimo modulo Che vede Fiorillo in porta Zampano Perrotta Fornasiere Mazzotto in difesa Brugman Carraro E Palazzi A centrocampo Le tre punte Sono da destra Verso sinistra Mancuso Pettinari E Del Sole Dirige l'incontro Di fronte a 20.000 Spettatori Signor Marco Piccinini Della sezione di Fornì I due assistenti Sono Orlando Pagnotta Di Nocera Inferiore E Mattia Scarpa Di Reggio Emilia Quarto uomo Aleandro Di Paolo Piccola notazione In studio Ora ci sono due ospiti Perché c'è stato Un piccolo contrattempo Un'ora di grave Per Riccardo Clinico Che ha dovuto lasciare La nostra trasmissione Ma lo ritroveremo Nei prossimi appuntamenti Con il Pescara Anche con la sua trasmissione Ci sono sempre Matteo e William E da loro Quindi riparto Per sapere Se hanno fiducia Nel Pescara In questo secondo tempo Oppure no A me questa partita Non quadra più di tanto Perché sto vedendo Un Bari Ecco Bari Vicinissimo al gol In questo momento Ma sto vedendo Un Bari Che sta giocando In crescendo È partito piano E sta ora Venendo fuori Alla distanza E questo è un segnale Che a me Non piace molto Comunque Zeman Non ha mai avuto Nei suoi organici Punte eccessivamente Dotate fisicamente Quindi Cocco Non troverebbe facilmente Posto in squadra I migliori risultati Li ha ottenuti Con punte Breviline Beh Immobile Non è un giocatore Grosso Ma ha una buona Struttura fisica Anche lui Intanto Che succede Paolo? Sì Bari Vicinissimo al vantaggio Congalano Che si divora Il gol dell'1-0 Miracolo Di Vincenzo Fiorillo Che va a deviare Il pallone In calcio d'angolo Inizio davvero Terrificante Per il Pescara Che ha rischiato Di prendere Gol In due circostanze Sempre Con Galano Protagonista Al terzo minuto Pallone Di un soffio A lato Qualche istante fa Miracolo Di Fiorillo Sul giocatore Del Bari Calcio d'angolo Pallone In era di rigore Con la difesa Bianca-azzurra Che riesce ad allontanare Ma solo per un attimo Perché ancora la squadra Di Grosso Che attacca Lo sta facendo Dall'inizio Di questo secondo tempo Quando siamo giunti Al quinto Quinto della ripresa Sempre 0-0 Bari che è andato Per due a volte Vicino al vantaggio Al gol Del 1-0 Scatenato Galano Bari che ha iniziato Come dicevi Andrea Giustamente tu Da studio Questo secondo tempo Con il piede Piggiato davvero Sull'acceneratore Quinto nella ripresa Allo stadio San Nicola 0-0 Tra Bari e Pescara E per chiudere il discorso Sul messaggio precedente Il Pescara sta giocando Con Pettinari Che sta facendo bene Pettinari è anche un giocatore Molto strutturato Molto simile A Cocco Da quel punto di vista Anche se Eppure è vero Che Insomma Normalmente I centravanti Che hanno fatto Bene con Alcuni Non erano strutturati Come Baiano Altri Avevano una taglia media Come immobile Altri come Vucinic Invece hanno fatto Molto bene Pur essendo giocatori Grossi Anche se Vucinic Era più noto Per le sue qualità tecniche Ma era anche Un bel bestione Al di là di questo Ecco Mi spiegate l'atteggiamento Di Zeman Nei confronti di Gans Si deve pensare Che il ragazzo Non rientri nei piani Di allenatore Ma che si tratti Di mera antipatia Non so se si tratta Di antipatia Certo È una scelta Tecnica Che Insomma Gans Deve Può assorbire Metabolizzare Però Vado da William Non è un bel inizio di ripresa Sì per il Bari Sì Ah tu dici che È un bel inizio di ripresa Per il Bari No dico Non è un bel inizio di ripresa Per il Pescara Per il Pescara È ovvio Perché abbiamo iniziato Perché abbiamo iniziato La partita Alla Zeman Adesso Stiamo facendo Diciamo Una tattica Un po' Attentista Matteo Beh sì sicuramente Il Bari Sta attaccando Molto 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 Sulle vie centrali E ci ha Bucato Un paio di volte Questa situazione È sicuramente Molto Pericolosa Per il Pescara Perché Se non fosse stato Per Fiorillo Adesso Stavamo Già Su un risultato Differente Come dice poi Giustamente William Il Pescara Può Difendersi bene E ripartire Con un contropiede Anche perché Poi le azioni Dove Ha avuto Ha riportato a casa Per esempio A Parma Il risultato È stato frutto Di un contropiede Quindi Sarebbe anche Una bella Psicologicamente Per il Bari Sarebbe anche Una bella mazzata Perché tu attacchi Attacchi Poi alla fine Loro ti fanno il gol Con un contropiede Quindi Cominci ad aver paura A scoprirti tanto E magari Rimani Nelle tre retrovie Quindi L'importante In questi minuti Di gioco È far sfuriare Il Bari E non prendere gol E poi Vediamo Come dicevo Nel primo tempo Cosa Può fare Il Pescara Se ha ancora Birra nelle gambe Ma Io mi auguro Di sì William Sì Aspettiamo In questo momento Tutto gira A favore Del Bari Dunque Insomma Un inizio Non Non ottimale Di ripresa L'unico Aspetto positivo È che La gara È sempre Sullo Zero a zero Devo dire Che Non solo Abbiamo annotato Le due pallegole Importanti Soprattutto La seconda Con Galano Ancora decisivo Ha compiuto Un grande intervento Su Sissè Alla fine del primo tempo Si è ripetuto Su Galano All'inizio di ripresa Ma devo dire Che il Bari È in palla La squadra di Grosso Si trova con Delle importanti Combinazioni Il Pescara Sta subendo La verve Della squadra Barese Quindi Il vento È cambiato Rispetto alla prima parte Di gara Perché il Bari Non solo È stato pericoloso Ma riesce Ad attaccare Con grande Continuità E questo Chiaramente Genera preoccupazione Tra le fila Dei Biancazzurri Staremo a vedere anche Io non so se Paolo Ci può assistere Da questo punto di vista Paolo ci sono Dei giocatori Che si stanno Scaldando Zevana sta già pensando A qualche avvicendamento Assolutamente no Andrea Non ci sono Giocatori Del Pescara Che stanno effettuando Riscaldamento Come ti dicevo Anche nel corso Del precedente collegamento Pescara Che sta sbandando Che però ora Attacca La formazione Biancazzurra Di Pescara Che ha sbandato Per i primi 5 minuti Ha rischiato Di prendere gol Come dicevamo In due circostanze Ora però Va a guadagnare Un calcio d'angolo Va a respirare E dunque Dopo aver Davvero subito 5 minuti di attacchi Seguiamo l'angolo E poi ci ride la linea Perfetto Calcio d'angolo Per il Pescara Ancora la formazione Biancazzurra In possesso di palla Questo Traversone In area di rigore Di Mazzotta Pallone che viene Riconquistato Però dal Bari Campano Tocca con la mano Il pallone Un giocatore In maglia nera E c'è il calcio Di punizione In favore Del Pescara Ci potrebbe essere Anche il cartellino giallo Per il giocatore Che è andato a toccare Il pallone con la mano Non c'è La Sanzione disciplinare Ma c'è il calcio Di punizione Per il Pescara Andrea Se sei d'accordo Direi di attendere Qualche attimo Segui anche questo Perché c'è C'è questo calcio Di punizione Per il Pescara Che dunque Sembra aver Superato L'unbass Dei primi minuti Ora La squadra Biancazzurra Dopo aver tirato Un calcio d'angolo Ha avuto una buona opportunità Pochi istanti fa Con Del Sole Che si è visto Respingere dal muro Della difesa del Bari La conclusione Ora c'è questo calcio Di punizione Sul pallone C'è Carraro Anzi È Mazzotta Del Sole Pardonne Punizione Tirata da Del Sole La parata Telefonata Da parte del giocatore Del Pescara Linea lo studio Grazie Io Al telefono Saluto Antonio De Leonardis Ciao Totò Ciao Andrea Buonasera Ciao Allora Un giudizio su questa partita Finora E se sei preoccupato Da questa gara In crescendo Del Bari Che ha avuto anche Delle occasioni Importanti Nella ripresa Ma sì Un po' sì Anche se Pescara adesso Dopo quei sei minuti Sette minuti Abbastanza Di grosso pericolo Ha avuto questa fiammata Adesso vediamo Però certo E in Pescara La partita è diversa Rispetto a quella Del primo tempo Credo che Buona mezz'ora La partita Del Pescara L'abbia addirittura Dominata Senza riuscire a trovare Sì un attimo Un attimo Antonio Paolo Sì scusami Andrea Chiedo anche scusa Ad Antonio Però si è alzato Dalla panchina Gans Si è alzato Dalla panchina Gans Per il Pescara E si sono alzati Altri due Giocatori Tra cui Anche l'ex Di turno Crescensi Dunque Zeman Potrebbe Tra qualche Istante Cambiare Qualcosa Potrebbe Far entrare In campo Davvero Il giocatore Di cui stavamo Parlando Ovvero Simone Ok Grazie Antonio Sì Ti dicevo Insomma Il Pescara L'ha approcciato Molto bene Anche Mentre Al contrario Del Bari Che è sembrato Quasi Che avesse Che avesse Pavoro Voglio dire Di grossa difficoltà Sul Sul pressing Sulla pressione Del Pescara Molto corta Solo che Non ci sono state Occasioni Poi Un po' Il Bari Ha cambiato passo Nel finale Del Del primo tempo E c'è stato E c'è stato Fiorillo Che ha fatto Compiuto La legge Protezza E c'è Il problema Era questo Fino a che La squadra Ha tenuto Soprattutto La pressione Sul Sul centro Gambista Sulla difesa Ha tolto L'arma Migliore Al Bari Che è sicuramente Superiore Nel tridente D'attacco Sono Veramente Bravi Lo dico Che hanno fatto La qualità Lo stesso Cissera Accanto A Galano E In Prota Quindi La capacità È cambiata Nel momento In cui È cambiato Un po' Il ritmo Centrocampo Si è cambiato Le cose Il centrocampo E Allora Se riesce Di innescare Quei tre Lì davanti Sono dolori Quindi Speriamo Che sia stata Solo una Fiammata E Che D'altra parte Pescara Riprenda Riprenda A giocare Come L'ha fatto Nel primo Tempo Senti Toccherà Gans Dunque Anche perché Pettinari Non mi sembra Molto dentro Questa partita Ma guarda La verità Pettinari Sta facendo Un grandissimo Lavoro Come sempre Non c'è dentro Nel senso Che non è arrivata La conclusione Però Il lavoro Che ha fatto Soprattutto Il primo Tempo L'ha recuperato Tre o quattro Palloni Che hanno messato Delle azioni Offensive Del Pescara Quindi io non credo Che il problema Sia quello Esatto Allora Sappiamo bene Che il Gans È di difficile Collocazione Se non Che a posti Pettinari Io credo In questo momento L'allenatore Non rinuncia Soprattutto Per la difficoltà Che sta avendo Tra l'altro Al centro campo Possa rinunciare A Pettinari Magari Magari Può trovare Una soluzione Come esterno Vedere un po' Se può cambiare Qualcosa Insomma Certo Lì Due esterni Una corrente alternata Bravi Però Non ha senso La mobilità Quindi Se vuole dare Qualcosa In più Possa Possa Pellito Antonio Sensazione Sei preoccupato O sei fiducioso Per quest'ultima Mezz'ora Ma guarda Sono Un quiz Perché non lo so Come ti ho detto Adesso Perché la partita Insomma In questo momento Sta emergendo Quelle qualità Del Bari Che sapevamo E che invece Il Pescara Aveva contenuto Quindi adesso Bisogna vedere Come la squadra Agisce A quest'altro Tipo di partita Perché sicuramente La prima parte L'ha cercata in piena Il Pescara L'ha sbagliato Il Bari Adesso bisogna capire Se aumentando La forza Del Bari Il Pescara Riesce a tenere E comunque a ripartire Perché poi Non c'è alternativa Non è che puoi fare Una difesa D'oltrancio Per cui Insomma La partita Secondo me È ancora molto aperta Su questo sicuramente Quindi È tutto da vedere Dai Grazie Grazie Antonio Buona partita Ciao Buonasera Buona te Ciao Grazie Antonio De Leonardis Voi cosa pensate Potrà scattare Effettivamente Il momento Di Simone Andrea Gans E poi diceva Toto De Leonardis Pettinari Si è sbattuto In fase di Recupero palla Magari Non ha avuto I rifornimenti E questo lo aggiungiamo noi Per essere Per essere insomma Pericoloso Negli ultimi 16-18 metri Come Valutate Insomma Questa Posizione Di 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 Gans Che può Entrare Magari Al posto Di Pettinari Intanto Eccolo il primo Cambio Ed un cambio Mi pare Offensivo Paolo Sì Sì È vero Proprio così Perché Entra in Aspita Brienza Brienza Al posto Di Busellato Dunque Grosso Vuole cercare Di vincere Questa partita E manda In campo Un giocatore Con Paolo Il Bari Grosso Ha tolto L'unico giocatore Di grande quantità L'unico vero Polmone Probabilmente Davanti alla difesa Busellato L'unico giocatore Di quantità Perché poi Insomma Gli stessi Petricione Teio sono giocatori Molto di qualità Bravi tecnicamente Busellato Dava un po' più di sostanza E ha inserito Brienza Quindi un cambio Molto offensivo Molto offensivo E effettivamente È così Dicevo Grosso Evidentemente Vuole cercare Di vincere Questa partita Ma ovviamente Tutti Vogliono Vogliono vincere Però in questo caso Ha visto forse E ha capito Che Pescara Può avere qualche Problema Sta avendo qualche Problema In questo secondo tempo Almeno rispetto Alla prima frazione Di gioco In cui Eccezione fatta Per gli ultimi Dieci minuti Pescara non aveva Corso grandi rischi Ora invece In questo secondo tempo Ne aveva corsi due Proprio in avvio Di riprese Dunque Grosso Ha mandato in campo Giocatore di esperienza Sicuramente con Propensione offensive Come Brienza Che non è al meglio Della condizione Ha richiamato In panchina Un giocatore Invece di quantità Come l'ex Cittadella Busellato Attenzione Bari In possesso di palla C'è questo traversone Di Anderson Con il pallone Che termina direttamente In fallo laterale Diciottesimo Allo Attenzione Andrea Perché c'è una sostituzione Nel Pescara Esce Del sole Ed entra Con la maglia numero 32 Cappelluzzo Cappelluzzo Al posto Di Del sole E non Gans Che però Si sta Scaldando E dunque Anche Cappelluzzo Se così vogliamo dire In questa speciale classifica Degli attaccanti Del Pescara Sorpassa Fida dell'Adriatico Per entrare Per entrare Per entrare Gans Negli ultimi 30 minuti In realtà Ora è entrato Cappelluzzo William Sergenti di Ferro Con fronte di Gans È severissimo Ah ecco Che ha giocato Zeman Zeman è Più come esterno La parte centrale Nel campo Quindi Non lo so Poi comunque Stiamo già al ventesimo Del secondo tempo Non so quando Voglia farlo entrare Questo ragazzo Io spero Il prima possibile Ma quantomeno Lo vediamo in campo Perché Dare un giudizio Su un ragazzo Che comunque Nel campo Gioca 5 minuti E fino adesso Avrà fatto massimo 20 minuti Dall'inizio In vari spezzoni Di campionato Quindi Mi rimane Un po' difficile Chissà che La mossa Cappelluzzo Non sia Paradossalmente Una mossa Più difensiva Nel senso Che Cappelluzzo Può garantire Con la sua fisicità Maggiore contributo Da quel punto di vista Soprattutto se poi Del sole Per via anche Di queste convocazioni Di questo Andi Rivieni Si è allenato poco Con la squadra In settimana Magari era anche Un po' Un po' Stanco Sì però lui Si è andato a schiarare Comunque Nel tre di andate d'attacco Quindi O comincia a pressare Subito alto Come dice Zeman Per un ruolo difensivo Comunque più Per coprire la squadra Lo vedo Un po' Difficoltoso E per quanto riguarda Invece il cambio Del Bari Questi cambi Dove Ecco Oddio Che cosa si è mangiato Adesso il Bari Allora scusami Andiamo da Paolo Perché ora sono due Le palle gol Nel periodo non collegato Importanti per il Bari Paolo raccontaceli Sì c'è stato Poco fa Questo Contropiede Del Bari Con il Pescara Tutto sbilanciato Pescara Che con Cappelluzza Aveva perso Un pallone Importante Proprio All'interno Dell'area di rigore Del Bari C'è stato Questo contropiede Della formazione Del Bari Conteio Che poi Ha crossato Il pallone All'interno Dell'area Di rigore Spera che Ha attraversato Tutta la porta Difesa da Fiorillo Senza che gli avanti Baresi Riuscissero Nella deviazione Nel tapin Vincente Precedentemente C'era stata Ancora Una doppia occasione Dobbiamo dire Del Bari Nella prima circostanza Dalla distanza Petricione Aveva chiamato Al salvataggio La deviazione In calcio D'angolo Con la punta Delle dita Fiorillo Sugli sviluppi Del corner Era stato Improta Poi ha mancato Il bersaglio Grosso Dunque Bari Che sta attaccando Con una certa Decisione Ora Si è anche Infortunato Un giocatore Del Pescara Continua ad attaccare Il Bari E Palazzi Che si è infortunato Vediamo che si è Probabilmente stirato Ha chiesto alla panchina Forse La sostituzione Ma il Bari Continua ad attaccare Attenzione Pallone in area di rigore Riescono i difensioni Biancazzurri Ad allontanare la sfera Ma il Bari Sta attenzione Sembra un assalto Paolo Dal Pescara Sì un assalto Della formazione pugnese Davvero Assatanati I giocatori In maglia nera Pescara In grossa difficoltà Ci fanno sentire I tifosi di casa Siamo giunti Quasi Al settantesimo Minuto Dunque Venticinquestimo Di questa ripresa Sempre Zero a zero Tra Bari E Pescara Ma Bari Ok Sicuramente in questo Secondo tempo Sta dominando La partita E Bari Che non È riuscito A Diciamo A segnare Il gol del vantaggio Intanto Andrea Posso dirti E questa è un'altra notizia Che nel Pescara Tra poco Ci saranno due sostituzioni Ma non entrerà In campo Gans Bensì Balzania E Crescensi Dunque Ancora Una volta Gans Che aveva iniziato A scaldarsi Non entrerà In campo Perché tra poco Balzania Crediamo Prenderà il posto Di Palazzi Che si è Leggermente Infortunato da solo In un controllo di palla E poi crediamo Entrerà Anzi Entrerà sicuramente Crescensi Perché i due giocatori Sono a bordo campo Pronti Ad entrare Quando il gioco Verrà Verrà Interrotto Quando il pallone Uscirà fuori dal campo E vedremo Chi uscirà Siamo al Settantunesimo Dunque Ventiseiesimo In corso Quasi Ventisettesimo Allo stadio San Nicola Resiste Lo 0 a 0 Ma Pescara In evidente Difficoltà Poi la linea Ok Prima ci chiedevano da casa Ma non era meglio Baez di Cappelluzzo La logica direbbe Sì Come risposta No Balzano Balzano non c'è Direbbe di sì La logica Evidentemente Questa è una ulteriore Bocciatura Da parte di Zeeman Verso Baez E poi Se entra Valzania Al posto di Palazzi Infortunato E siccome Palazzi e Coulibaly Sono i giocatori Che si alternano Nel ruolo di mezzala destra Evidentemente Per Zeeman In questo momento Coulibaly Non è in grado Di poter reggere Questa partita Magari perché Non è al 100% Della condizione Allora Viene schierato Valzania Nel ruolo di mezzala destra Lui che invece Solitamente Viene fatto giocare A sinistra Esce anche Zampano Stiamo vedendo Dunque Sarà un cambio naturale Sulla fascia destra Del Pescara In difesa Con Crescenzi Al posto di Zampano Certo che da quel lato Il Pescara Sta soffrendo Le iniziative Baresi Anche in precedenza Bari è stato pericoloso Proprio da quel lato Dunque Sostanzialmente Viene rivoluzionata Un po' per scelta Un po' per necessità La catena di destra Anzi È stata tutta rivoluzionata Perché è uscito Del Sole È entrato Cappelluzzo È uscito Zampano È entrato Crescenzi Ora sta uscendo Palazzi Che però È anche claudicante Ed entra Valzania Dunque Rivoluzionata La cosiddetta Catena di destra William Sì sì Speriamo Che questa catena Funzioni Speriamo Matteo Non vorrei Che Siccome Crescenzi È un Fluidificante Nato Diciamo che È un ala destra Non è un terzino Però insomma Speriamo che non crei I danni E non che si creino Buchi Tali da consentire Poi il gol Al Bari Però da quel lato Il Pescara sta soffrendo Molto Sta soffrendo Però Si sta difendendo E Balzano Ha fatto il suo dovere Zampano Zampano Matteo Beh sì Mi spiace Per questo ragazzo Di Granze Comunque Fino adesso No ma il Sergio Di Ferro No No Completamente Oramai Non bisognerebbe Neanche più No aspetta Non bisognerebbe Neanche più Parlare Cosa non riesce a capire William Cosa non riesce a capire Non riesco a capire L'atteggiamento Dell'allenatore Nei confronti Sto ragazzo Ma così Lo uccide Al posto di Ingoraggiarlo A fare meglio Perché Sinceramente Non lo capisco Ma è anche umiliante L'ha umiliato Contro il Palermo L'ha umiliato Questa sera Che l'ha mandata a scaldare E poi Ha cambiato Non l'ha fatto entrare Ma io quindi Se ci fossero Dei comportamenti Che Forse infastiriscono Zeman Durante Sono dei professionisti Quindi non penso Che Che comportamenti Vogliono fare Sì Mi ricordi Maniero Sull'aereo La prima partita Verona Maniero Si Corciò La tuta E lui Gli disse Di allungarla Maniero Si rifiutò E giocò Immobile Fu la fortuna Del Pescara Vabbè ma quello Magari Magari qualche atteggiamento Un po' scansonato Durante l'allenamento Magari Non vede il giusto Mordente Da parte del giocatore Io Non voglio prendere Difesi nessuno Però comunque Cioè Io provo A dare un'interpretazione Tutto qua Se è a Pescara Ti vuoi mettere in luce Perché Un allenatore Che è noto Che lancia i giovani Ganz È Molto giovane Quindi non penso Sia venuto qui A A svernare Posso capire Magari un atteggiamento Per uno Che è Sopra 30 anni Non ha più voglia Di soffrire fisicamente Però un ragazzo Non penso Che sia venuto qua A fare una passeggiata Per quanto riguarda Adesso Oramai sono saltati Un po' tutti gli schemi Perché Il Bari Attacca come un toro Scatenato A testa bassa Il Pescara Sta tenendo botta Bisognerebbe Certo Un gol del Pescara Adesso sarebbe Una mano santa Perché Per il Bari Sarebbe una Una bella mazzata Però Bisogna rimangere di rigore Matteo In questo momento Pescara fa fatica A portare palla Nella metà campo del Bari Però Ti ricordo Ad esempio Il gol Adesso Ultimamente Contro il Palermo C'è stato Quello del rilancio Dalla difesa Si è ritrovato Davanti al portiere E Siamo andati in vantaggio Anche in maniera Un pochino Inmeritata Su quel primo tempo Però L'occasione Il Pescara Se ne può creare Oppure Mi ricordo Un mancuso Che si è girato Al volo E l'ha messo Sotto l'ingrocio Dei pali Quindi Ha dei giocatori Che ti possono Risolvere la partita Adesso è veramente dura Perché loro Stanno attaccando Attaccando Parecchio Se Dovesse Un po' Se dovesse Sbilanciare Ancora di più Un po' Stanno giocando Con tre punte Di ruolo Con tre attaccanti Vediamo se Dovesse Succedere qualcosa In favore Il Pescara C'è una punizione Per il Bari Paolo Sì Punizione per il Bari Stato ammonito Anche l'autore Del fallo Si tratta Di Valzania Che è il terzo Giocatore Che finisce Sul taccuino Del signor Piccinini Della sezione AIA Di Forlì Punizione Per la formazione Di casa Siamo a circa 25 metri Tire gol Il gol Del Bari È stato Prienza A mettere Il pallone In rete E ha avuto Un rimbalzo Strano Il pallone Crediamo Forse la barriera Paolo O forse la barriera Ha deviato Il pallone Perché La spela Ha cambiato Traiettoria Il pallone Si è infilato Alle spalle Del portiere Fiorillo Dunque Quando siamo Giunti Al Trentatresimo Minuto Di questo Secondo tempo Il Bari Passa in Vantaggio In maniera Un po' Fortunosa Per via Di questa Punizione Deviata Dalla barriera Di Prienza Ma bisogna Dire Che per quanto Visto in Campo Il In questo Secondo Tempo Il vantaggio Del Bari È Sicuramente Meritato Pescara Non è riuscito A combinare Granché Pescara Che non ha mai Concluso In porta Dopo Un'ora E 17 Minuti Di partita Micai Non ha dovuto Effettuare Un intervento Che sia uno In questa partita Un Pescara Così Effettivamente Stava Reggendo Sul punteggio Di 0 a 0 Ma giocando Così male È difficile Non perdere Le partite Ed è anche Se è arrivata Questa Questa rete Su una punizione Deviata Dalla barriera Sicuramente Bisogna dire Che il vantaggio Della formazione Pugliese È sicuramente tutto Siamo giunti Sì Superiorità Del Bari Dunque Ora Tra l'altro Il gioco è fermo C'è un giocatore Della formazione Della formazione Pugliese a terra Ora ovviamente Lo dico In questo momento E spero di sbagliarmi Ci sarà Di tutto E di più Per Per Non far Per non far Continuare la partita Nel senso Ci saranno Continue perdite Di tempo Da parte Non ci voleva Ma era nell'aria Che ti devo dire Al di là Del gol Che è stato Segnato dal Bari Mi sembri Un vulcano Che sta per esplodere Ma si sta mantenendo No Credo che la considerazione Più importante Non è tanto Il fatto Che abbia preso Gol Su punizione Perché poi Anche su punizione Ma proprio L'atteggiamento Della squadra Che è stata messa Sotto dal Bari Assolutamente Dall'inizio Del secondo tempo Anche se nel primo tempo Non è che abbia fatto Molto Però Tutto sommato Il Bari Poi si è scatenato Ci ha creduto Ha visto Che il Pescara Era in difficoltà E alla fine Il gol C'è stato Ma è la prestazione Che finora Siamo giunti A qualmino A trentaquattresimo E il Bari Ha dominato Ha dominato Non c'è niente da fare Siamo ingenerosi Nel dire Matteo Che la partita L'ha vinta O meglio La sta vincendo Anche Fabio Grosso Perché i cambi di Zeeman Non hanno portato Grande giocamento Anzi Valsani ha commesso Il fallo Che ha generato La punizione Di Brienza E Brienza È stata la mossa Molto Molto Se vogliamo Sbilanciata Sulla carta Di Grosso Ma è una mossa Che in realtà Sta pagando Dividendi Beh sta pagando Sicuramente Perché Il Bari Sta attaccando Attaccava Velocemente Come del Pescara Adesso si trova È vero Che c'è stato Un calcio di punizione Da 25 metri Bastare Dove c'è stata Questa deviazione Però comunque Il vantaggio Del Bari È sicuramente Meritato Il Pescara Non arriva Davanti alla porta Avversaria Le punte Oggi Stanno Stanno Mancando L'appuntamento Però Siamo comunque Sempre giocando Contro una signora Squadra Adesso Gli è entrato Un certo Floro Flores Che è un giocatore Importante Stava facendo La panchina Fino adesso Quindi Capiamo Anche le differenze Di organico Tra il Pescara E il Bari Certo Mancano ancora Una ventina di minuti Ma È veramente Difficile Cercare Di Pareggiare Questa partita Anche perché Loro Lì dietro Si sono anche Abbastanza coperti E La cosa Che mi fa Ben sperare È che loro Comunque Stanno continuando A giocare Non si sono fermati Sull'1-0 Ma stanno cercando Di Portare La squadra In vantaggio Con un doppio vantaggio No no Scusa Quindi magari Non è vero Perché Devo il gol Si stanno difendendo Ma come che dice Stanno andando Floro Flores Chi è Ha entrato La piccola Dai su Per favore William Adesso Ecco In questo momento Il Bari Sta andando avanti Cioè Il Pescara Ma non ha fatto Niente Ma dai Su Ma come fai A dire Che si stanno A difendere Cioè Loro Comunque Stanno continuando A attaccare Adesso Adesso Ma Subito dopo il gol Ma scherzi Ma se hanno segnato 5 minuti fa Manco 10 minuti fa Hanno segnato Io sto C'è un range Di manco 10 minuti Come fai a dire Che ci sono difesi Adesso Si stanno attaccati Dopo il gol Caro Matteo Loro si sono Messi dietro Per due minuti Tre minuti Infatti Quei tre minuti Perché Perché Il Bari Sta cercando Di fare il 2 a 0 E non è vero Niente Adesso Da 30 secondi Ma no ma Guarda dove stanno Guarda dove stanno Sulla tre quarti Ma che ci stanno Sentando il 2 a 0 Non è vero Niente Non è vero Quindi hai detto Che il Bari Adesso Ci sta attaccando E non è vero Niente Adesso si Adesso si Ma non quando Hai parlato tu Ma come Guarda dove sta La palla Scusa Ho capito Adesso si Ti sto dicendo Ma non quando Parlavi tu Ma quindi Stavamo a vedere Un'altra partita Stavamo cercando Non lo so Nell'area Di rigore Del Bari Andrei poi rimetti Il Pescara Perché io so Nell'altro monitor Stavamo Nell'altra partita Scusa Sì Nell'area E nell'area Di rigore Del Bari Ma guarda William Ha ragione Però è anche naturale Che la squadra Dopo tanto attaccare Fa gol Ma non è detto Che stavano facendo 2 a 0 Ma che c'è Il Pescara Non ha fatto nulla Neanche in quei 2-3 minuti Certo Questo è vero E ora il Bari Ha tranquillamente Ripresi in mano Le operazioni E staziona Ma 2-3 minuti Quasi stabilmente Si dice che una rondine Non fa primavera Quindi un'azione Una cosa è certa Prima e dopo il gol Pescara Non è arrivato Praticamente mai Delle parti Una squadra Che si difende Fa possesso palla Fa girare la palla In senso orizzontale Senza mai attaccare Aspettando che l'avversario Li viene addosto E quello Una squadra Che si difende Non che la squadra Avversaria Attacca E subisce Quest'azione Che poi Subire Oddio Perché vogliamo Essere generosi Che poi fa ancora in tempo A pareggiarla Ma dobbiamo prendere in atto Che dagli ultimi 10 minuti Di primo tempo Fino a tutta la ripresa Il Bari Ha voluto E ha messo sul piatto Tutta l'intensità possibile Per prendersi I tre punti Ora ce la sta facendo Anche con un gol fortuito Ma ce la sta facendo E direi che questo aspetto Va maggiormente indicato C'è la maggiore voglia La maggiore cattiveria Del Bari Anche se ora il Pescara Va Ha una occasione Una mezza occasione Però Questo mi sembra Un dato incontrovertibile Ma no Ma il Bari Che il Bari Si stia meritando Questo Questo risultato In dubbio Anche perché Nei primi tre minuti Del secondo tempo Ha avuto due chiare Occasioni da rete Qui ci dicono Gioca l'italiana Nel primo tempo Sembrava di sì Ma poi il Bari Ha fatto la partita No no Ma è stato Chiaramente Un cambio di volto Di una squadra Perché nel primo tempo Giocava di rimessa E quindi Sfruttava le ripartenze Nel secondo tempo Ha proprio schiacciato Il Pescara Nella sua Metà campo E come ti ripeto I primi Nei primi tre minuti Ha avuto due Chiare occasioni Gol Che poi Fortunatamente Non hanno fruttato Nulla per il Bari Che poi è arrivato Il secondo momento Però È ancora dura Il Pescara Con questo tiro Ci sta provando Un pochettino Staremo a vedere Perché comunque I minuti passano E il Bari Comunque Continua a rimanere 1-0 Paolo Un sussulto Del Pescara Poco fa Sì Un sussulto Direi poca cosa Perché Diciamo La reazione Vera e propria Che ci si aspetterebbe Attenzione Il Bari È ancora vicino Al Gol Del 2-0 È stata questa Conclusione Con il pallone Che ha attraversato Tutta L'area di porta Di Fiorillo Dicevo La reazione Vera e propria Del Pescara Non c'è stata C'è stato invece Il Bari Che si è reso Pericoloso Bari Che Diciamo Non ha mai subito Tiri in porta Da parte del Pescara E questa forse La cosa che più Lascia sconcertati Perché Questo Pescara Ne abbiamo parlato Tanto Nelle settimane scorse A furia di dire Pescara Poco Zemaniano Poco Zemaniano Questa squadra Oggi non ha mai tirato Nello specchio della porta Una squadra che continua A incontrare Grosse Grossissime difficoltà Non solo A segnare gol Ma anche a concludere Verso la porta avversaria E questo è un aspetto Che non può essere Assolutamente Trascurato Un aspetto Che non può essere Sottovalutato Che sia In campo Pettinari Che ci sia Gans Che ci sia Cappelluzzo Questa è una squadra Dispiace dirlo Però Lo dicono I numeri di questa partita Non ha mai concluso in porta Però attenzione Perché c'è questo contropiede Della formazione adriatica La difesa del Bari Che poi però riesce A conquistare un pallone importante Con Petriccione Poi il rinvio Con i piedi Del portiere Micai Ora il Bari Che cerca di portarsi in avanti Che è stato il fuorigioco Di un giocatore in maglia nera È già ripreso Il gioco Con il Pescara Che attacca Anche se c'è un giocatore Del Bari a terra Ancora Crescenzi Dopo 89 minuti di gioco C'è stata la prima conclusione pericolosa Del Pescara in porta Tra l'altro Di Crescenzi Con La respinta Del portiere Della formazione pugliese Ancora il Pescara Ora che si rovescia in avanti Ma c'è Tutto fermo Perché c'è il fallo Commesso In area di rigore Da un giocatore Del Pescara Mancuso Ed è già ripartito in pari In contropiede Ora termina a terra Un giocatore Del Bari E c'è il calcio di punizione Per la formazione di casa C'è anche l'ammunizione Di per rotta Per il Pescara In notte fonda Quando mancano 40 secondi Al termine Della gara Per quanto riguarda I tempi regolamentari Poi solo recupero Allora Io Andrea Se tu sei d'accordo Visto che Mancano Manca solo il recupero Al termine di questa partita Se tu sei d'accordo Possiamo andare Fino al termine Allora guarda Guarda Paolo Un attimo Perché Qui in studio William non era d'accordo Su questo Cartellino giallo Sventolato a per rotta Secondo William Non era fallo Tu Confermi William Sul pallone Entrato sul pallone Di lato Ma sul pallone Neanche a gamba tesa Quello che ha un po' Depistato L'arbitro È stato il volo Che ha fatto Il giocatore Del bar Dopo L'impatto Sul pallone Esatto Però comunque Si è visto Delle immagini Anche dal replay Che per rotta È entrato Sul pallone In anticipo Tanto c'è un cambio Paolo a questo punto Puoi andare Fino alla fine Sì c'è un cambio Sì c'è Per il Pari In Campo Vediamo Sei minuti Di recupero Sei minuti Di recupero Deside Così Il quarto uomo Di Paolo Di Avezzano Sei minuti Di speranza Per il Pescara Mentre il gioco È ancora fermo Perché deve essere Effettuata la sostituzione Per quanto riguarda Questa partita Intanto entra Nene Nel Bari Al posto di Sisse Crediamo che i sei minuti Partiranno Dal momento In cui Riprenderà il gioco Perché il gioco Ovviamente è ancora fermo Quindi Appena verrà calciata Appena verrà battuta La punizione Dal Bari A termine di regolamento Crediamo Partiranno i sei minuti Di recupero Vedremo Se il Pescara In questi sei minuti Riuscirà A fare qualcosa Di buono Qualcosa di importante A pareggiare questa partita Che Pareggio Per come Per quello che si è visto In questo secondo tempo Per come si erano messe le cose Sarebbe davvero oro colato Per il Pescara Ma c'è ancora un calcio Di punizione Per il Bari Giocatori biancazzurri Che si sono anche Innervositi Però ovviamente È quello Sta accadendo Quello che avevamo Purtroppo previsto Perché ogni Qualvolta Un giocatore del Bari Termina a terra Passano secondi 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 Prima di far riprendere Il gioco E quindi Ovviamente Tutto questo Non fa che agevolare Diciamo Proprio la formazione Pugliese Che ovviamente Fa quello Che farebbe Qualsiasi formazione In vantaggio Attenzione Ancora il Bari In possesso di palla Perde però La sfera La formazione in maglia nera Poi è Mazzotta Che ha riconquistato il pallone Riesce a rinviare Con grossa difficoltà Ma c'è un pressing Pescara Che si porta in avanti Sbagliato Questo lancio Da parte Di Brugman Ancora il Bari In possesso di palla Un pallone lanciato All'interno dell'area di rigore Con l'uscita Del portiere Fiorillo In anticipo Su Galano Ancora Pescara Che ora Si ributta in avanti Attacca la formazione In maglia bianca azzura Perde però il pallone Davvero pessima La giocata di Cappelluzzo Con il Bari Che va a guadagnare Un'importante Rimessa laterale Quando siamo entrati Nel secondo Dei sei minuti Di recupero Considerando Sempre considerando Che i sei minuti Di recupero Siano partiti Dalla ripresa Del gioco Dalla battuta Del calcio Di posizione Per il Bari Rimessa per il L'undici Allenato da Fabio Grosso Ancora un fallo laterale Dopo l'ultimo tocco Del pallone Da parte di Crescenzi Che è andato vicinissimo Al gol del pareggio Io prima voglio rispondere Ho arrivato un messaggio Che dice Che Zeman sta facendo I miracoli Con questa squadra Io Non so se è la colpa Di questo rendimento Attuale del Pescara Se la colpa appunto Sia di Zeman Però dire che Zeman Stia facendo i miracoli Mi sembra davvero Fuori luogo Poi ripeto Non sarà colpa sua Non sarà tutta colpa sua Questo momento Però dire che sta facendo i miracoli Mi sembra davvero Esagerato Il Pescara comunque Una rosa Dove ci sono giovani Non è tutta ironica No 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 Non penso perché Sì sì Diciamo che è ironico Vabbè Tu pensi che sia ironico Sennò dovrei Usare un altro Io la cosa Io la cosa Che voglio evidenziare Al di là di come finirà Questa partita È che Il Pescara Di inizio stagione Agosto e primi di settembre Aveva una parvenza Del tipo di gioco Che Zeeman vuole dare Alla sua squadra Ora Però si si è accorti Che non funzionava Ora invece Si va Con una involuzione Che è progressiva Perché È un Pescara Che sempre meno somiglia A quello che vorrebbe Zeeman Molte volte Non lo è per niente A volte Come col Palermo Per uno spicchio Di partita Ma sta di fatto Che questa squadra Sempre meno somiglia A quella che vorrebbe Il Boe Paolo Si siamo entrati Nel corso Del quarto Dei sei minuti Di recupero Pescara Che non riesce Assolutamente A portarsi Minacciosamente Ad avvicinarsi Dalle parti Di Micai C'è questo attacco Della formazione Aliatica Si fanno sentire Tifosi del Pescara Che meriterebbero Dobbiamo dire Sicuramente Spettacoli diversi Da parte Dalla propria squadra Intanto attenzione Ancora il Pescara Che cerca Di sfruttare Un'azione importante Ora viene commessa Un'azione fallosa Ai danni Di un giocatore Del Bari E c'è un'altra ammunizione Per il giocatore Del Pescara Finisce peggio Questa partita Per la formazione Biancazzurra Perché fioccano Anche i cartellini Ora viene ammonito Anche Fornasier Per il Bari E' un gioco da ragazzi Far trascorrere Ancora Secondi Che avvicineranno Ovviamente La squadra pugliese Al sesto minuto Di recupero E alla conquista Di quella che sarebbe La settima vittoria Su sette gare casalinghe Per il Bari Un ruolino Da record Per la squadra di grosso Dinanzi al pubblico amico Un ruolino di marcia Invece Nelle ultime settimane Disastroso Per il Pescara Che ha conquistato La miseria Di un punto Nelle ultime Quattro partite E crediamo Che non Possano essere Sicuramente soddisfatti I tifosi del Pescara Quelli presenti Qui allo stadio San Nicola Di Bari E quelli Presenti Anche Quelli che stanno Seguendo la partita Ovviamente Attraverso Gli schermi Perché E' chiaro Che con queste prestazioni Si fa poca strada Si fa poca strada E la classifica Una classifica Molto corta In testa E in coda Non può Non preoccupare In vista della gara Di sabato prossimo L'osteo Adriatico Con la Provercelli Che ieri Ha abbattuto L'Empoli Per 2 a 1 Pescara Davvero brutto Io sto andando In commento Andrea Perché in campo Non sta accadendo Praticamente nulla Quindi Dovremmo Solo Parlare di una partita Che è praticamente Finita Perché mancano 30 secondi Al tridice fischio finale Del signor Piccinini Di Forlì Tra l'altro C'è un calcio di punizione Per il Bari Si incarica Della battuta Il portiere Della formazione Pugliese Micai Brutto Pescara Pescara Direi bruttissimo Nel secondo tempo Una sola conclusione Importa Nell'arco Dei 95 minuti Considerando Anzi Dei 96 minuti Di gioco Considerando Anche i 6 di recupero Comandati dal quarto uomo Di Paolo Di Avezzano In questa ripresa Davvero un brutto Pescara Un Bari Sufficiente Nel primo tempo Direi molto buono In questa ripresa In cui Grazie sicuramente A giocate Importanti E soprattutto Ad una prestazione Importantissima Sul piano del carattere Ha battuto Il Pescara Perché finisce qui Dopo 6 minuti Di recupero Bari Batte Pescara 1 a 0 Vittoria meritata Non abbiamo nessun Dubbio A rimarcarlo Vittoria meritata Della squadra Di Fabio Grosso 1 a 0 Il risultato finale Ha deciso Una punizione Calciata Da Brienza Con una deviazione Crediamo Di Valzania Deviazione Che ha ovviamente Ingannato Il portiere Fiorillo Bari Batte Pescara 1 a 0 Per il Pescara E la terza Sconfitta Nelle ultime 4 gare Pescara Che resta fermo A quota 17 Bari Che sale A 23 Per il Pescara Nella notte Del San Nicola È davvero notte fonda Il momento più difficile Per la formazione Bianca Azzurra In questa stagione Il finale Dunque Bari Batte Pescara 1 a 0 Linea che può tornare Definitivamente Grazie Paolo Ci sentiamo Con te In sala stampa Tra circa 10-15 minuti Allora William Si è materializzata Questa sconfitta Vediamo la classifica Dopo questo 1 a 0 Ci scrivevano Da casa Pescara Ha soli due punti Della zona playoff In effetti è così Ma la classifica È molto corta Perché se vogliamo Dobbiamo vedere anche Che il Pescara Ha quattro punti Della zona Playoff Perché a 21 punti Ci sono Cremonese Empoli e Saternitana Pescara Che è a quota 17 A quota 15 Inizia la zona playoff Dove ci sono Perugia e Virtus Centella Chiaramente siamo Nella prima parte Del campionato Chiaramente la classifica È cortissima Però il periodo Del Pescara È un periodo No Tre sconfitte Un pareggio Nelle ultime Quattro Quindi Questo è il quadro Della situazione Nell'ultimo periodo William Guarda Andrea L'unico Pescara Che ha dimostrato Di essere squadra Di giocare con intelligenza Di giocare con parsimonia Con equilibrio È stato quando abbiamo vinto A Carpi E a Contro il Parma In tutte le altre partite È stata una lotteria Con squadre diverse L'una dall'altra Settimana per settimana Però il Pescara di Carpi E di Parma Non è il Pescara di Zeman Lo è solo sulla carta Non lo è nella sostanza Allora io sostengo Allora io sostengo Che prima che sia troppo tardi Perché? Perché ritengo Che questo gruppo di giocatori Sia dotato Anche di Qualità Di una buona qualità Con Diciamo Con Due Anche tre giocatori Per ruolo Il gioco di Zeman Evidentemente Non funziona Non può essere Diciamo Digerito Da questa squadra E allora Credo che Con un altro allenatore Con un altro Tipo di gioco Questa squadra Potrebbe dare Grossi soddisfazioni Quindi sposi la causa Di chi dice Bisogna cambiare allenatore? Sì sì Io sono Del parere che Ma non vedo Margini di miglioramento Non vedo Cioè Anche Zeman Non ha le idee chiare Non c'è una parvenza Di squadra titolare Su cui si possa lavorare Per poi Magari Far rendere La squadra Al meglio No È una Di quelle Annate Peraltro Numerose Da parte di Zeman Nelle quali Non si è Non è riuscito A far Svolgere Alla squadra E la Propria filosofia Di gioco Quindi Io per carità Non voglio assolutamente Adesso discutere Se è giusto o meno Che Il gioco di Zeman Sia È spettacolare Sicuramente Può essere Spettacolare Ma Oggi per esempio Non è stato per niente Nonostante Diciamo La voglia L'approccio Alla partita E quindi La vedo male Insomma Voglio dire Vedo anche Zeman Svogliato Tutto sommato Quindi Io credo che Vedi Io richiamerei Oddo Io richiamerei Oddo Anche perché Sotto contratto È l'ipotesi più Probabile Perché è sotto contratto Altrimenti Bisognerebbe mettere A libro paghe Un altro allenatore Però si tratta di tornare Camalosamente indietro Come modello di gioco Siccome bisogna fare i conti Anche con La cassa È chiaro È ovvio Perché noi siamo una società Che praticamente Una squadra Che Una società Che sta in serie B E Diciamo che È già una grandissima cosa Perché Tenuto conto di quello che succede Nelle altre squadre Nelle altre società Allora voglio dire Cerchiamoti Di Non voglio dire Prendiamo un altro allenatore Oddo È uno Che praticamente In serie B Ha dimostrato Di essere bravo No Parliamoci chiaro Sì E allora È sotto contratto Se continua questo trend Inutile stare a insistere Con Zeman Perché questa squadra Evidentemente Come il Cagliari Come il Praga Come tante altre squadre Non riuscirà mai A capire Il gioco di Zeman E quindi A rendere Al meglio Ok Allora vi interrompo Con Sì Con Danni O pericoli Per le coronarie Perché poi Se facciamo Zemanlandia Allora veramente Sono a rischio Allora prima di ascoltare Anche Matteo Andiamoci a vedere Il servizio relativo Alla partita Teramo-Gubbio Di serie C Servizio che peraltro È già disponibile On demand Sulle nostre piattaforme Poi ascoltiamo anche Le voci degli allenatori E poi torniamo Su Bari-Pescara Ripartiamo da Matteo E poi da Paolo Renzetti Servizio interviste La striscia dei risultati Utili consecutivi Del Teramo Si ferma a 8 Perché al Gubbio Bastano 10 minuti Per ribaltare Una gara che sembrava Mettersi sui binari Più congeniali Per i biancorossi Puniti due volte Da Calumbo e Marchi Assa sceglie il 3-4-3 Lasciando fuori Ilari Per bacio terracino Ed è proprio il folletto campano Il primo ad avere L'opportunità di andare A segno al nono Servito da Varas Rientro Pallone però Spedito alto Sopra la traversa Il Teramo c'è Ed è grazia Sempre da sinistra Prova a sorprendere Volpe Ma senza fortuna Il tentativo di Tulli Al minuto 17 È troppo centrale Per poter creare pericoli Alla retroguardia Umbra Che al 31esimo È ingenua Perché Ciccone Entra in rotta di collisione Proprio con Bacio terracino Per Colombo di Como Ci sono gli estremi Per il calcio di rigore Dal dischetto Foggia Con un brivido Realizza la rete Del vantaggio biancorosso E anche il suo terzo centro In stagione Secondo dagli 11 metri Dopo quello che trafissa In Ravenna Gioia del Bonolis Che tuttavia dura poco Perché il Teramo si distrae Il 41esimo subisce Il gol della parità Con Colombo La chiusura in scivolata Di Amadio Non va a buon fine La punta si invola Verso Calore Speranza temporeggia troppo E il diagonale Fulmina l'estremo difensore Del Teramo Sul palo più lontano Doccia gelata Per la squadra di Asta Che non solo non reagisce Ma sembra colpita nel vivo Perché passano altri due minuti E si fa sorpassare dal gubbio Stavolta è sfortunato Sales Che scivola Al momento dell'assi Di Casiraghi Per Colombo in ripartenza Servizio per Marche Un invito troppo ghiotto Per lasciarselo scappare Sta affilata sul primo palo E Umbri Che mettono incredibilmente Il naso avanti A fine tempo Nella ripresa De Grazia Provare a suonare la riscossa Con il sinistro Potentesima fuori misura Volpe non corre rischi Il diavolo protesta Al 56esimo Quando Ventola Lascia sul posto di Erna Prima del contatto Più che dubbio con Loporto Ma stavolta per Colombo Non ci sono gli estremi Per un altro calcio di rigore Nel Teramo Entrano Ilari e Barbuti Per Amadio e Sales Ma ancora Ventola Il più positivo Come a Trieste E la fucilata Che spara al minuto 58 Di rara potenza Volpe deve rifugiarsi In calcio d'angolo Ancora l'esterno destro Si veste da assistman Servendo al 60esimo La testa di Varas Sul fronte opposto Pallone fuori di nulla Sempre De Grazia Prova il lampo Dalla distanza Ma stavolta La conclusione è centrale Asta butta nella mischia Paolucci Altobelli E nel finale anche su Mare Per De Grazia Caidi e Tulli Ma l'ultima emozione La regala a Barbuti Quando di testa Sul corner di Ilari Non trova il bersaglio grosso E così al Bonolis Passa il Gubbio Sconfitta sanguinosa Per il Teramo Punito proprio nella serata Che doveva rilanciarlo Con un atteggiamento Maggiormente propositivo Il diavolo resta a 14 punti Chiude la settimana Con tre impegni Incamerando solo due punti E domenica l'aspetta La trasferta complicatissima In casa del Renate Io sono dispiaciuto Perché è dura È dura digerire Una sconfitta del genere Perché secondo me È anche abbastanza evidente Indipendentemente Il sistema Non sistema Noi abbiamo fatto 35 38 minuti Forse i migliori 38 minuti Il miglior primo tempo Della mia gestione Loro non sono mai Entrati in aria Abbiamo fatto il rigore Ce n'era un altro clamoroso Il gol Da parte di La traversa di Bacio Ma giocando anche In una certa maniera E poi invece abbiamo preso Due ripartenze Ma neanche così clamorose Perché eravamo abbastanza sistemati Perché insomma Il secondo eravamo lì Un rimpallo Il primo Calombo ha tirato Era fuori aria Con un passo anche lungo Come viene viene E ha fatto gol E questo è stato Lo specchio Di un primo tempo Difficile da digerire E allora penso Che quando vogliamo Cercare di giocare In una certa maniera O specchiarci un po' Perché magari Dopo il gol Abbiamo incominciato Ho visto La gente fa il tacco Punta Sombreri Ste cose qui E allora ci siamo dimenticati Che squadra siamo Che sicuramente Possiamo giocare anche bene Che l'abbiamo anche dimostrato Però ci sono momenti In cui L'esperienza Anche da parte Di qualche giocatore Deve stare lì Questo qui Era un primo tempo Finisce 1-0 E sicuramente Stavamo commentando Un'altra gara Il secondo tempo Era quello che dovevamo fare In avanti E le occasioni Le abbiamo avute Il portiere ha fatto Delle ottime parate Chiedere di più Non era semplice La mia squadra Però Ha stato di fatto Veniamo fuori sconfitti In modo Mi avviso Veramente E così Quando fai la miglior partita Addirittura La perdi Neanche la Parigi Però fa parte Del processo di crescita Da parte di questa squadra Non cambiava molto Cambiava in caso di vittoria Ci dava veramente Quello slancio Che sapevate Che sapevamo tutti In caso di pareggio Ti dava continuità Di risultati Ma vedendo anche Le altre partite Bene o male Domani c'è il Sant'Arcangelo Ha perso Sieramenna Io guardo sempre Quelli dietro Sieramenna Il Fano Domani c'è il Sant'Arcangelo Col Parma Quindi effettivamente La classifica è cambiata Ben poco Una vittoria importante Dopo Due sconfitte Di cui una Sicuramente Ha lasciato la mano in bocca E ci siamo ripresi Quello che Nelle precedenti trasferte Avevamo lasciato Imeritatamente Alle altre squadre Quindi Come ho detto Ai tuoi colleghi Complimenti Ai ragazzotti Perché sono stati Veramente molto bravi Beh Come? Beh se vai a vedere Forse non sono Soltanto due occasioni Perché Non ho visto poi Tantissime occasioni Dall'altra parte Quindi Probabilmente Se vai a contare Poi le occasioni Che ha avuto Il Teramo E il Gubbio Probabilmente Vedi che Il risultato È più che giusto Siamo stati Sono stati Molto bravi Sì molto bravi Perché questo è un campo difficile Una squadra che palleggia Una buona Un'ottima squadra Che Che ha perso Soltanto due volte E Sapevamo Che Che cosa Venivamo A incontrare E Credo che Non era facile Perché Perché Beccare i gol E dopo Come diceva la signora Due sconfitte Avrebbe probabilmente Abbattuto un bisonte E Invece Hanno ricominciato A cercare Di far gol L'abbiamo fatto in tre minuti E poi L'abbiamo difeso Come è giusto fare Eccoci rientrati Ma direi sul momento In generale E stiamo vedendo anche Tanti messaggi Che continuano ad arrivare Anche nel corso Del servizio del Teramo Sulla crisi del Pescara Molti che rivolgono Oddo O comunque Vogliono un cambio Della guida tecnica Matteo Fondamentalmente Oggi si chiedeva Una certa continuità Con il secondo tempo Del partito del Palermo Dove comunque il Pescara Molto più importante Rispetto al nostro Molto più quadrata E quando ha premuto Il piede Sull'acceleratore Ha messo Ha messo il Pescara In grave difficoltà Due, tre, quattro azioni Ricordo Nei primi dieci minuti Dopo è arrivato il gol Che un po' Ha fermato il Pescara Ma fondamentalmente Il Pescara Non ha fatto nulla Per Per cercare Di vincere questa partita Matteo Un attimo Ti interrompo Perché Li vedo già da un po' Paolo Renzetti Il collegamento è pronto Allora Io saluto di nuovo Paolo Renzetti Saluto Enrico Rocchi Linea a loro Per un ulteriore commento Paolo Sì grazie Grazie Buonasera Dallo stadio San Nicola di Bari Dalla mix zone Per questo novantunesimo Di Bari Pescara Un novantunesimo Amaro Dopo questa sconfitta Meritata Per quello che si è visto Nell'arco dei 90 minuti Meritata Per il Pescara Terzo K.O. Nelle ultime Quattro gare Situazione Che sicuramente Non è delle migliori Alle vigilia Poi della gara di sabato prossimo Che si giocherà Con la Pro Vercelli Che ieri nell'anticipo Aveva superato l'Empoli Per 2 a 1 Dunque messaggi Dei tifosi Ovviamente Non proprio dolcissimi Per questo Pescara Io saluto Enrico Rocchi Buonasera Enrico Buonasera Paolo Buonasera agli amici in studio Allora Enrico Che cosa si può dire Dopo questa sconfitta Credo che Per il secondo tempo Che si è visto Questa sera a San Nicola Ci sia poco da dire Sul risultato Un brutto Pescara Correggimi se sbaglio Un tiro in porta In 90 minuti All'89esimo Di Crescenzi Sì sì Il Bari Ha meritato Il successo Soprattutto Per il secondo tempo Si è visto subito Che la squadra di Grosso Ad inizio di ripresa Ha entrato in campo Con un ritmo diverso Dando più intensità La manovra Ha creato Le premesse Per il vantaggio Con le palle golle Di Galano Lì è stato bravo Fiorillo Poi con Petriccione Poi con Sissè Un secondo tempo Completamente diverso Dal primo tempo Nella prima frazione Di gioco C'era stato Molto equilibrio La squadra Aveva tenuto bene il campo Non aveva mai sofferto Tranne un'iniziativa Di Sissè Invece Nella ripresa Il Bari Ha meritato Sicuramente Tre punti Qui non è forse Il caso di parlare Di Pescara Più o meno Zemaniano Qui evidentemente Il caso di parlare Di quelli che sono Cercare di capire Quelli che sono I problemi Di questa squadra Una squadra Che ha perso Le tre partite Nelle ultime quattro Un punto Nelle ultime Quattro gare giocate Ma una squadra Che soprattutto Anche oggi Sembra aver smarrito Un po' Diciamo Quel gioco Che anche a tratti Si era visto Per esempio Nel secondo tempo Con il Palermo Sì Nel primo tempo La squadra Ha cercato Di fare qualcosa Ma la manovra Non è fluida Come si chiede Alle squadre Di Zeman Questa è una squadra Che proprio Non riesce A interpretare Il dettato Tattico Del proprio Allenatore C'erano anche Nella sala stampa Dei colleghi Che dicevano Non è una squadra Di Zeman Non riesce A giocare La palla Dall'uomo Portatore Di palla Scusate il gioco Di parole E soprattutto Non riesce Ad essere pericolosa In fase Offensiva Questo scusami Enrico Hai anticipato Un po' Quella che Doveva essere La mia Guarda Arrivano diversi Messaggi Da casa Che ci dicono Ma perché Non viene cambiata La guida Tecnica E alcuni Dicono Visto che c'è Oddo sotto Contratto Perché non Richiamare Oddo Molti Da casa Appunto Chiedono Questo Vogliono Questo Un cambio Della guida Tecnica Anche la luce Di quello Che ha detto Enrico Poco fa C'è una squadra Che sembra incapace Di recepire Il messaggio Calcistico Di Zeman Enrico Cosa ne pensi A tal proposito Potrebbe esserci Anche una svolta O è prematuro Io credo Che sia Prematuro Perché Siamo La quattordicesima Giornata È vero Che la classifica Non è bella Il Pescara È scivolato Al tredicesimo Posto In classifica Ma abbiamo Sempre detto Che la classifica Si guarderà Da febbraio In poi Non è un problema Di classifica Il problema È che La squadra Non riesce Per via Di tanti motivi A giocare Come vorrebbe Il proprio allenatore Oppure L'allenatore Che non riesce A incidere Sui giocatori Si chiederà Poi al presidente Sebastiani Quali saranno Le idee Della società Ma credo Che si dia Ancora Fiducia Al Al boemo Perché È vero Che Zeman Non incide Ma ci sono Anche degli elementi Che fanno fatica A giocare Come vorrebbe Il proprio Allenatore È un problema Perché se non ci si è riusciti Alla quattordicesima giornata Crediamo che Faccia fatica Questa squadra Durante il campionato A migliorare Il suo standard di gioco Ci sono troppi alti e bassi L'abbiamo visto In queste Quattordici giornate Però parlare Di cambio Di guida Tecnica Credo che sia Prematuro Io volevo un attimo Tornare Enrico Su quello che stavi dicendo Prima Che ti avessi interrotto Quello che preoccupa Secondo me Non so se tu sei d'accordo È l'incapacità Della squadra Di costruire Azioni da gol Non solo Di segnare Questa squadra Da alcune partite Da troppe gare Fa molta fatica Ad andare in rete Sì sì Qualcosa di buono Lo dicevi prima Tu l'abbiamo visto Soltanto contro il Palermo Nel secondo tempo Ma quando c'era La necessità Di recuperare Anche stasera Negli ultimi 5 minuti La squadra Ha provato A buttarsi in avanti Non so se è un aspetto Psicologico Che condiziona Anche Però ci si rifugia Sempre in questi discorsi Quando non vediamo Dele buone prestazioni Io credo Che la squadra Non sia pronta Proprio A giocare Il calcio Che vuole Andrea Sì non so se Da studio Matteo o William Vogliono Insomma dialogare William Ma scusate Ma se la squadra Non riesce a recepire O mettere in atto L'idea calcistica Di Zeman Abbiamo Oddo Che praticamente È un nostro allenatore Lo cambiamo E basta Tanto io credo Che da giugno Stanno cercando Di mettere in pratica Il gioco Zemaniano Non ci sono riusciti Finora E non credo Che ci riusciranno Peraltro C'è da dire Che quando un giocatore Io parlo del singolo Ma anche del gruppo Non riesce A fare Quello che l'allenatore Chiede Cosa non semplice Perché non è Che ci sia riuscito Sempre Zeman A far digerire Alla propria squadra Tant'è per lui Dice I giocatori Non mi hanno capito In altre occasioni Voglio dire Non è il caso È prematuro Ma non è il prematuro Per niente Per quale motivo È prematuro Anzi Io credo Che con questo gruppo Con Oddo Possiamo veramente Fare meglio Fare meglio Enrico e Paolo Ma quello che dice William Ha una sua coerenza Poi William Con me Per Oddo Sfondi Una porta aperta Perché sai Quanta stima Abbia Di questo allenatore Che secondo me È un predestinato Per fare Una carriera Brillantissima Mi riferisco A Massimo Oddo Voglio dire Che è una decisione Che deve prendere La società Non possiamo essere noi A suggerire Un cambio Di guida Tecnica C'è a chi piace Oddo C'è a chi piace Zeman La piazza ormai È divisa Credo anch'io Che questa sia una squadra Più adatta Alle idee Di Massimo Oddo Credo anch'io Che con Oddo Forse Vedremo Delle partite Diverse Con Un atteggiamento Tattico Diverso Con uomini Adeguati Nei propri ruoli Come Benalì Come Brugman Come tanti altri Però dobbiamo Attenerci Alla Alla realtà Quello che Decide La società Se la società Decide di conservare Zeman E che probabilmente Intravede Dei miglioramenti Io sono d'accordo Con te William Mettere Oddo Oggi sarebbe Una scelta Non affrettata E prematuro Il cambio di allenatore Per il gioco Non per la classifica Perché di tempo Per recuperarne Ce n'è Ce n'è abbastanza Perché abbiamo sempre detto Che la classifica Si vede da febbraio in poi Per il fatto del gioco Come dici tu Se da Da luglio Si lavora Su questo atteggiamento Tattico E non si vedono risultati Probabilmente Le responsabilità Sì sono Della squadra Che va in campo Ma anche dell'allenatore Un attimo Paolo Fammi sentire Matteo Hai anche tu qualcosa Da chiedere Un attimo Paolo Perdonami Matteo Ciao Enrico Buonasera Quello che Volevo un po' sottolineare Questa sera Che il Pescara Con tutte le sue difficoltà Comunque ha giocato Contro un avversario Secondo me Molto importante Perché Avere in panchina Un certo giocatore Come Floro Flores Può fare la differenza Con queste squadre La cosa che in realtà Mi fa un po' preoccupare È che una squadra Chiamiamola Zemaniana Chiamiamola Comunque Comunque Giocando con tre punte Non riesce a Sfondare la tre quarti Avversaria Adesso vuoi Per i deficit Di gioco Vuoi Per la bravura Degli avversari Diciamo che Già in più partite Si è vista Questa Questa carenza Non so se Siete d'accordo Con me Sì 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 Ma non c'è Volume Di gioco Proprio non si riesce Dal centrocampo A creare Delle Iniziative Offensive Ci sono pochi Rifornimenti Per gli uomini Del reparto Avanzato Sono d'accordo Ovviamente Sul Bari Perché oltre A Floro Flores E' entrato Brienza Che poi ha deciso La partita Alla fine E' entrato Nenea Il Bari E' un organico Più importante Sicuramente Del Pescara Però Dipende sempre Dal volume di gioco Il Bari Nel primo tempo Ha controllato La partita Ha giocato a specchio Con il Pescara A grosso Ha cambiato qualcosa Cosa che non fa Mai Zema Perché il suo Atteggiamento E' sempre Lo stesso Nella ripresa Ha sfruttato Di più Le fasce Ha inserito Brienza A fianco A Galano Due giocatori Tecnicamente Quotatissimi E ha creato Dunque Le premesse Per questa vittoria Sicuramente Meritata E ripetiamo Sempre le stesse cose Da diverse settimane Se la società Ha fiducia nel lavoro Di Zeman Va avanti con Zeman Se invece Ritiene che La responsabilità Maggiore Sia dell'allenatore E' ovvio Che Oddo E' un signor Allenatore E sarebbe Utilissimo Non utile A questa squadra Paolo Dicevo Enrico Dando Per scontato Anche se nel calcio Di scontato Non c'è nulla Dovesse restare Zeman Come crediamo Sarà Almeno Fino alla gara Di sabato Con la Provercelli Secondo te Considerando Quello che è accaduto Nelle ultime settimane Dove si deve intervenire In fatto di uomini Ovviamente Non di modulo Perché Zeman Ovviamente Non cambierà mai Il 4-3-3 Ma per cambiare Questa squadra Secondo te Bisogna cambiare qualcosa Qualche giocatore Torniamo sempre Al solito Al solito nome Gans Ragazzo Si stava scaldando Oggi Si è scaldato Per diversi minuti Poi è entrato Cappelluzzo Poi sono entrati Anche altri giocatori Cioè È forse giusto A questo punto Mettere Gettare in la mischia Qualche giocatore Che non ha avuto spazio E che probabilmente Potrebbe avere Anche un po' più di rabbia Perché questa sera Credo che a fare la differenza Sia stata anche La rabbia agonistica Delle due squadre Il Bari Ha dimostrato Di volere Di più la vittoria Del Pescara Sì sì Questo è vero Quello che Dici tu Però il problema Secondo me Sta a centrocampo Quel settore Nevralgico Del gioco Della squadra Perché lì Non si riesce A produrre Probabilmente All'inizio della stagione Con Proietti Coulibaly E Brugman Gli automatismi Funzionavano Meglio Proietti Potrebbe rientrare A breve Ma questo senza Ovviamente Buttare la croce Addosso ai ragazzi A Carraro A Palazzi Che stanno facendo Del loro meglio Se può provare Benali In quel settore Del campo Ma ha sempre detto Che Benali Per lui È un esterno Sinistro Quindi torniamo Sempre al solito discorso Dicevi bene tu Di Gans Perché tutti hanno avuto Le chance Visto che la squadra Fa fatica a segnare Fa fatica a segnare Perché non arrivano Palloni in avanti Però Gans Merita di giocare Come tutti Tutti hanno avuto Il loro spazio Perché Gans No E ci sono Questi interrogativi Che possono sembrare Futuri Invece sono Inquietanti Perché Ancora Una formazione diversa Questa sera Un po' per necessità Per la squalifica Di coda Per gli infortuni Di coda Di Balsano Per le convocazioni Quindi stasera C'erano delle attivanti Per cambiare formazione Però La squadra A centrocampo Non riesce a produrre gioco Una notizia di servizio Una curiosità Una riflessione Ricco Sì Un secondo solo Andrea Solo per dire Che La gara è terminata Da mezz'ora Dunque È terminata da mezz'ora Però non ci sono ancora Esponenti del Pescara Non è ancora Andato Zeman In sala stampa Per la conferenza stampa Evidentemente Si starà Enrico Riflettendo Anche su questa sconfitta Sulle modalità Di questa sconfitta Crediamo Eh sì Aspettiamo L'ha detto stampa Mucciante Bari È stata anche Una tappa Decisiva Per l'esono Di Pasquale Marino In ricordi Qualche anno fa Io non credo Che la situazione Sia simile Per le decisioni Credo che La società Abbia voglia Abbia intenzione Di andare avanti Con Con Zeman Perché c'è un Progetto Che è partito Insieme ai direttori Pavone e Leone È vero che i risultati Non stanno arrivando È vero che il gioco Continua a latitare Però credo Che si vada avanti Col Buemo E anche se stasera Ci sarà un summit Non credo Che cambino le cose Andrea Lidia allo studio Ancora per qualche Altra considerazione In attesa Dell'arrivo Dei primi protagonisti Pro Zeman Pro conferma di Zeman Pro ritorno di Oddo Messaggio che era Per te Paolo Io in questo momento Dopo la gara Di questa sera Dico che probabilmente La scelta Di tornare Su Oddo Non sia del tutto Peregrina Non sia del tutto Campata in aria Io credo che In questo momento Evidentemente Si potrebbe anche Decidere di cambiare Qualcosa Poi saranno i fatti A dire se questa Potrebbe essere o no La scelta giusta Lo diceva anche Enrico Non è un problema Solo di guida tecnica È anche un problema Di squadra Perché evidentemente Su questo siamo tutti D'accordo Enrico Questa non è la squadra Adatta a Zeman E questo non è un Non è un particolare Da poco Mi chiedeva Un telespettatore Da casa Se io ero D'accordo Sulla conferma Di Zeman O sul ritorno Di Oddo A questo punto Insomma È difficile Parlare di tutto questo Perché la squadra Evidentemente Ha un problema Però sta arrivando Se non mi sbaglio Fornasier E sta arrivando Ti saluto Grazie Grazie Io ringrazio Enrico Rocchi Perché sta arrivando Michele Fornasier Difensere del Pescare Dunque lo andiamo Ad ascoltare Qui dalla mix zone Dello stadio San Nicola di Bari Ecco Deve fare il giro Michele Fornasier Eccolo qui In postazione Andiamo ad ascoltare Deve passare dietro La nostra postazione Perfetto Ecco qui Il difensore del Pescara Ciao Michele Buonasera Ti chiediamo subito Approccio I primi 20-25 minuti Il Pescara si è fatto preferire al Bari Poi partita equilibrata Sul finire del primo tempo Siete scatti però schiacciati Dai padroni di casa Nel secondo tempo Perché? Sì Lo sono venuti fuori Nel secondo tempo Ci hanno grandissime qualità È una buonissima squadra Noi siamo partiti bene Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo Dove tutti sono sacrificati Abbiamo corso molto il primo tempo Abbiamo dato tanto Centrocampo Attaccanti specialmente Hanno chiuso bene gli spazi E poi questo forse si è sentito più nel secondo tempo Loro hanno fatto due o tre contro Hanno preso due o tre contro misure Ha fatto molto bene Riuscivano a uscire sempre E da lì ci hanno messo in difficoltà Non hanno avuto tante occasioni Però nel secondo tempo Sono stati più bravi Michele cosa sta succedendo Questo Pescara Terza sconfitta Nelle ultime quattro gare È vero Discreto primo tempo Ma nella ripresa Quasi non c'è stata partita E poi un dato su tutti Il Pescara ha tirato Una sola volta in porta All'89esimo con Crescenzi Quello perché come ti dicevo prima Soprattutto davanti Sono sacrificati tanto Per aiutarci dietro È stato un buonissimo primo tempo Penso comunque sia Siamo fuori casa In uno stadio così Contro una buonissima squadra E abbiamo sofferto Magari un po' più fisicamente Il secondo tempo Ti chiedo Cosa manca secondo te A questo Pescara Perché è un Pescara Che a tratti Gioca come vuole Il vostro allenatore Mi riferisco al secondo tempo Contro il Palermo E mi riferisco ai primi 20-25 minuti Però le partite Durano 90 minuti Certo ma Tenere questi Certi livelli Certa intensità Per tutti i 90 minuti È tosta E poi non c'è da dimenticare Ci sono anche altre squadre Se poi è parlato di Palermo E Bari Che sono penso Tra le candidate E comunque È una promozione Però il Pescara Deve essere lì Almeno sulla carta Sì assolutamente Ma il nostro Deve essere un altro campionato Dobbiamo Crescere insieme Continuare A diventare più squadra E fare il massimo Come abbiamo fatto oggi Se tu fossi un tifoso Del Pescara Da parte mia Come può risollevarsi Del Pescara Perché classifica la mano Ora state perdendo E credo E credo Meritatamente Portando a casa Tre punti Ma in campo ci sono anche gli avversari E oggi gli avversari Avevano delle grandissime qualità Nel primo tempo Sono partiti molto forti Spregiudicati Aperti Hanno provato a giocare E ci hanno creato delle difficoltà Soprattutto nel dominio del gioco E negli ultimi 15 minuti Siamo riusciti a conquistare un po' di campo Siamo venuti fuori Abbiamo creato qualche occasione E poi credo che Dal primo secondo della ripresa Abbiamo cambiato il ritmo del gioco Abbiamo alzato l'intensità Non abbiamo fatto respirare gli avversari Creando tante azioni da gol Meritatamente andando in vantaggio E meritatamente alla fine Portando a casa tre punti Gister ha anche una buona prestazione difensiva Nonostante delle assenze E' uno degli aspetti impossibili della serata Ma è un aspetto bello della serata Direi una ottima prestazione difensiva Perché concedere poco o niente A un avversario che abitualmente crea tantissimo Non è facile Noi oggi siamo stati bravi a farlo E siamo stati bravi a creare il gioco Quindi in entrambe le fasi Credo che abbiamo meritato questo successo Filippo Volevo trovare questa vittoria In termini di cosa prevolta rispetto a lei E altre serie Insomma le vittorie fanno sempre piacere Quando arrivano Siamo contenti di averla ottenuta Sono tre punti pesanti ripeto Perché non era facile fare quello che abbiamo fatto noi oggi E i complimenti vanno al gruppo Perché vedere tre giocatori che sono entrati Come sono entrati oggi Sicuramente ci fa ben sperare per il futuro Perché tre ragazzi del calibro Dei giocatori che sono entrati da noi oggi Entrare con quell'atteggiamento Con quella modalità Sicuramente è un segnale importante Che ha dato questo gruppo Ma oggi non mi ricordo bene le altre Però sicuramente è stata una partita di livello Senti Fabio ti chiedo cosa Ti diranno a Pescara Perché non puoi andare domani Perché si gioca sabato Quindi fai bene a non andarci Ma al di là di questo Comincio a pensare che Sia anche un po' strategico Questo Bari che cambia a Pena nel secondo tempo Cioè O Gli dai botte durante l'intervallo E questo non lo voglio credere Oppure è un po' strategico Perché la squadra Ha veramente alzato Notevolmente ritmo e velocità Pronti via Cioè Era un altro bagno La ripresa I uomini stessi Che cosa succede In quello spogliatore? Ma la partita è lunga Ci sono due tempi Ci sono tanti minuti da giocare Sapevamo che affrontavamo una squadra Che Predirige attaccare gli spazi Abbiamo voluto toglierli Nella fase iniziale E sono stati bravi a prenderseli loro Facendo tanto possesso Ma non creando azioni pericolose All'intervallo ci siamo detti Che è difficile per una squadra Avversaria mantenere il ritmo Che avevano avuto gli avversari Da noi nel primo tempo E noi dovevamo essere in grado Nei momenti in cui avevamo la palla Di farla girare in maniera più veloce Cosa che nella prima frazione Non era avvenuta Lo abbiamo fatto dal primo secondo Perché sulla palla respinta Dopo il lancio del calcio iniziale Abbiamo cambiato il ritmo La palla La palla si muoveva E quando la palla si muove Contra una squadra Che predilige essere offensiva Sicuramente gli spazi si creano E noi siamo stati bravi ad attaccarli Anche quando ci sono tante assenze Ormai riuscite a trovare Della panchina Tanti giocatori disponibili Anderson su tutto E mi sembra È poco devastante C'è però un aspetto Negativo Soprattutto se siete cercando di lavorare Qualcosa di specifico Che lei Andando avanti nel campionato Vuole vedere meglio Se ce ne fosse solo uno Saremmo a cavallo Ce ne sono tanti Lo sappiamo Vogliamo migliorare Dobbiamo farlo Però oggi Il segnale importante È stato quello Che hanno dimostrato i ragazzi Di saper fare una grandissima partita Nonostante Mancassero delle pedine Per noi importanti Al di là che poi Possono giocare o meno E questa dimostrazione Del fatto che tutti Si sentono partecipi Di quello che stiamo facendo C'è qualcuno Che ancora non è riuscito A diventare protagonista Ma sono convinto che nel tempo Avrà l'occasione Per poterlo fare Le ultime Mi sono 38 anni E con quel curriculum Magari non è anche un gol Gli può ridare morale Perché l'esperienza Insomma Compensa su tutto Però quanto è bello Che oggi la partita Sia stata risolta Da Brienz Insomma Consideriamo anche il periodo Dal quale I livelli di fortuna Da quale venivano scorsi Sono molto contento per lui Anche se non è il gol di oggi Che può ridargli O levargli In morale Perché nelle ultime tre gare In tutte e tre È stato in grado Di cambiare le partite Perché ha una qualità grande Perché è un giocatore importante Per questa categoria Lui lo sa Io lo so I suoi compagni anche E come tanti altri Suoi compagni Sarà determinante Per il nostro cammino L'ultima Ciao Ciao Ti dico la sua domanda Come è stato il pescario Sì è stato aspettato La squadra del genere Sì Ti racconti Il tuo primo partito Insomma Emozionante Perché il compito Pescaro Ma per me oggi L'ho detto Prima della partita L'ho detto poco fa La televisione Per me oggi È una giornata particolare Perché Tanto tempo che sto nel calcio Era la seconda volta Che affrontavo la squadra Dove Da tanti anni vivo Vivo Insomma In questo momento Un po' La fase estiva Perché la fase infernale Mi sono spostato Con la famiglia a Torino Però sicuramente A Pescara Ho i miei cari Ho la mia famiglia Ho i miei fratelli Ho i miei amici Di quando ero ragazzo E quindi Mi legano Dei ricordi bellissimi Come avevo detto In conferenza Mi auguro Che da domani Possano sicuramente Riprendere il cammino E fare una grande stagione Perché Le qualità Per poterlo fare Ce le hanno E l'hanno dimostrato Anche oggi Ma ho detto Qualche settimana fa Non la vedevo Non la vedo E per ancora un po' Non la vedrò Perché Non ha senso guardarla Dei risultati positivi Ti portano in alto Alcuni negativi Ti fanno riscendere Sono ancora tante squadre Raggruppate in pochi punti Noi vogliamo lavorare Farlo nella maniera migliore Per poi Tra qualche mese Vedere in che posizione saremo E delineare meglio I nostri obiettivi Grazie a tutti Grazie Sì sì Fabio Grosso Poi si è Ha voluto rimarcare Che il gioco del Pescara Una squadra che Gioca negli spazi Una squadra che gioca In profondità Cosa che in realtà Poi non si è visto Quasi niente Di queste Di queste tipologie di gioco Credo che Dire adesso Esonerare Zeman Sia Come diceva anche Enrico Un pochino presto Però Si è seduto il boemo Però Le prossime due o tre partite Saranno decisive Anche perché poi Si avvicina il mercato E se Si dovesse Cambiare rotta Comunque Ok Ascoltiamo Ascoltiamo Zeman Matteo Vabbè che Bari È un avversario difficile In casa Ha vinto sei partite Penso che Primo tempo Abbiamo fatto bene Alla Pari Secondo tempo Penso che abbiamo Giocato più Per non perdere Che per vincere E quando Lasci Lasci giocare Una squadra Come Bari Vai in difficoltà A parte che Poi la partita È stata decisa Da una punizione Autogol Che è stata Spostata Cinque metri Più avanti Penso che Se si batteva Dal posto Dove c'era Fallo Non poteva Fare mai Visto in questo confronto Tra il più anziano Della categoria Con il più giovane Come l'ha visto Questo ragazzo grosso Come le vostre E come è Bari sta facendo Benissimo In casa E fuori Facendo solo due punti È strano Lei come se l'ha spiegata Questa stranezza Un uomo di calcio Molto ampio Si sentono meglio qui Ci provano Ci provano Di più Penso In pista Quanto è strano Che una squadra Di Zeman Ha depilato così Proprio Porta Un lato Di 90 È strano Ma noi Per ora Abbiamo perso Dei riferimenti Forse Forse manca Qualcuno Giochiamo con tre Di cui Siamo sempre tre In linea Che non Non possono giocare Mai insieme Quindi Non ci viene A parte che poi Penso che La palla Più importante Della partita Ce l'avevamo Ancuso Che purtroppo Non ci è arrivato Quanto ha pensato L'assenza Di lavoro In questa partita No Dei assenti Non si può parlare Non c'è Non c'è Si gioca senza Non è che un giocatore Cambia la partita Io ripeto Come atteggiamento Secondo tempo Eramo Troppo passivi E abbiamo lasciato Giocare Bari Un punto In quattro partite Insomma Una crisi di risultati Probabilmente Un momento Di Il peggior momento Che ne sta Rivendola Quanto ha pescato Vabbè Pensavo E' preoccupato Che può Vede Dei margini Di miglioramento Io ripeto Se giochiamo Come secondo tempo Di Palermo Come primo tempo Oggi Possiamo Possiamo Giocarcela Con tutti Viste Cercava qualcosa In particolare Del tuo cambio Perfettuato Non sentiva La prima La passione Pensavo Dispettare Il ritmo Cambio avanti Perché Perché Del sole Non ha fatto bene Oggi A parte che Ha perso Tanti Il palone E' stato Sempre largo Da dove Non può Non può Far niente E il terzino Perché Zampano Non mi seguiva In prota Che E' un riferimento E se il difensore Non lo prende O ci arriva Sempre tardi E' normale Che la squadra Avversaria Costruisce Qualche cosa Posto Grazie Arrivederci Beh E' uno Zeman Piuttosto Ermetico In Conferenza stampa Anche qualche messaggio Forse lo ha sottolineato Intanto c'è Subito Pettinari Andiamo da Paolo Renzetti L'ultimo contributo Dall'Adal San Nicola Paolo Pettinari Per commentare Questa partita Positiva Nei primi 30 minuti Completamente Negativa dopo Sì Direi Tutto il primo tempo Abbiamo fatto una buona partita Siamo Siamo scesi Con l'atteggiamento Giusto E Siamo stati Poco pericolosi Però Questo c'è mancato Nel secondo tempo Sì E' una partita Diciamo di contenimento Che è stata decisa Da un episodio Un po' Un po' Sfortunato Alla fine Chiedo All'attaccante Stefano Pettinari Se c'è da essere Preoccupati Per questa sterilità Offensiva Della squadra Una squadra Che segna poco Che fa anche fatica A tirare in porta Lo dicevi anche tu Qualche istante fa Oggi In porta ha tirato Un difensore All'89 Perché tutto questo? Sì Sicuramente C'è da migliorare Da questo punto di vista Soprattutto Nelle ultime partite Stiamo facendo Stiamo facendo Più fatica E Niente Penso che Ci lavoreremo E proveremo A dare di più Dobbiamo dare di più Guardiamo il secondo tempo Guardiamo Perché il Bari Vi ha messo In una grossa difficoltà Ti chiedo perché Perché nei primi 45 minuti Non era stato così Dove avete sbagliato? O meriti solo del Bari? No Sono sì Emeriti del Bari Che è una squadra forte E ha fatto un ottimo calcio Nel secondo tempo Noi abbiamo delle colpe Che ci siamo Abbassati Abbassati troppo E avevamo dei reparti Troppo lunghi E non riusciamo neanche A ripartire Eravamo troppo lontani Nelle ripartenze Quindi Bravi loro E dobbiamo Lavorare sugli errori nostri Parlavamo anche Prima con il tuo Compagno di squadra Cosa non va In questo Pescara Al di là del fatto Se più o meno Sia questa una squadra Zemaniana Resta però il fatto Che non riuscite A proporvi A giocare Un calcio Che vorrebbe Il vostro allenatore Ma che vorrebbero Anche i tifosi Eh sì Lo vorremmo anche noi Ovviamente E noi Lavoriamo tanto Tutte le settimane Per provare a fare Quello che ci chiede il mister Evidentemente Questo non sta bastando Ognuno di noi Dovrà tirare fuori Qualcosa di più Perché Perché questo Non basta Sei insostituibile Per Zeman Questo è andato di fatto Ma questo Questo non lo so Io cerco di dare Il massimo Tutti i giorni In allenamento E do l'anima Durante la partita Poi Il mister ovviamente Fa le sue scelte Io spero di Di continuare così Dopo questa partita Dopo tre sconfitte In quattro gare Che importanza assume La partita di sabato Prossimo all'Adriatico Con la Provercelli Che ieri ha battuto L'Empoli Una partita Vabbè Inutile dirlo È veramente fondamentale Per noi Perché In casa ci manca La vittoria Ed è fondamentale Ritrovarlo Il più presto La Provercelli Ha fatto una grande vittoria Noi dovremmo preparare Benissimo questa partita Perfetto Grazie anche a Grazie a Stefano Pettinari L'attaccante del Pescara Andrea Che abbiamo appena Ascoltato Abbiamo ascoltato Poco fa Anche la conferenza stampa Dei due allenatori Fabio Grosso E Zeman Avevamo ascoltato In precedenza Anche il difensore Del Pescara Michele Fornasere Ancora prima Il collega Ricorocchi Che ovviamente Ringraziamo Siamo in chiusura Qui dalla Binx Zone Dello stadio San Nicola Di Bari Perché non arriveranno Più tesserati Della formazione Biancazzura E dunque Possiamo andare A concludere Ricordando Questa serata sfortunata Del Pescara Negativa Almeno per quanto riguarda Il secondo tempo Questa sconfitta Per 1 a 0 Sul campo Della formazione pugliese Il gol vittoria Per il Bari Di Brienza La 33esimo Del ripresa Per il Pescara Ne parlavamo anche Con Pettinari La terza sconfitta Nelle ultime Quattro gare È tutto Io ringrazio Stefano Recanati E Gaetano Tereo Di Vestina News E residuisco Definitivamente Da Bari La linea allo studio Grazie a Paolo Renzetti Tanti messaggi Contro Zeman Qualcuno a difesa Di Zeman Qualcuno contro Sebastiani Ma insomma È così È naturale che sia così Stiamo per vedere Gli highlights Però in chiusura Un'ultima battuta Con William E con Matteo Da queste dichiarazioni In particolare Da quelle di Zeman Cosa avete Carpito? C'è qualcosa Che vi ha colpito O no? William No, no Zeman è sempre lo stesso Integralista Ci racconta Come sono andate Le cose in campo Non riesce a spiegare Bene Dice che manca un uomo Mancano due uomini Che insieme Cinque metri Per la punizione Io guarda Io non ci capisco nulla Con Zeman Non capisco Non riesco a capirlo Per cui Probabilmente i giocatori Avranno lo stesso problema Lui ecco Continua a focalizzare L'attenzione Molto sulla singola partita E per carità Nel dopo partita Ci può stare Però poi Quando gli si fa una domanda Un po' più strutturale Sulla situazione Anche sulla prospettiva Lui tende un po' a glissare Non sembra riuscire A dare le assicurazioni Sotto un certo tipo di profilo Ma è ovvio Che deve glissare Perché non c'è una spiegazione Se non quella Che non riesce A far esprimere la squadra Come vorrebbe lui Siccome lui è integralista Non cambia E anche durante la partita Non è che abbia Un lampo di genio Per fare un movimento Cambiare magari Un giocatore Da un lato del campo All'altro Niente È monocorde È monocorde E se è monocorde E da luglio Finora I risultati Sono questi Io non sono preoccupato Tanto per la sconvitta Potevamo anche Al limite Con quel tiro All'ottantanomesimo Pareggiare Ma resta la prestazione Resta il fatto Che non abbiamo Una squadra titolare Resta il fatto Che la squadra Non si esprime Come Zeeman vorrebbe Nel momento in cui Non riesce la squadra A esprimersi Come Zeeman vorrebbe Subentra anche Inconsciamente Una sorta di depressione Da parte del giocatore Poi il fatto di Gans Di queste umiliazioni Per Gans Non le sopporto Io non le sopporto Perché io capisco Che quando un giocatore Si rende responsabile Di qualcosa Di grave Deve essere punito Deve essere anche Diciamo Non deve giocare Qualche volte Proprio per imparare Perché sono ragazzi Ma Zeeman Io non Gans non credo Che abbia commesso Tutti questi Delitti Per Per avere Tutti questi Questo trattamento Tanto L'altra squadra Che va Ai mondiali E la Croazia 0-0 Anche Nella partita Di ritorno Tra Grecia e Croazia Quindi Ha deciso La gara Di andata Svizzera E Croazia Al mondiale Matteo Anche a te Insomma La stessa considerazione C'è qualcosa Che ti ha colpito Tra le parole Di tesserati Biancazzurri Soprattutto di Zeeman Ma guarda Quello che mi ha colpito Maggiormente Sono le dichiarazioni Di Zeeman Di dire che noi Potevamo vincere Perché l'azione Più importante L'ha avuto Mancuso Davanti alla porta E non è arrivato Davanti alla palla Prima William Stavamo un po' C'erano un po' Scaldati Su come stavamo Vendo la partita Ma lui l'ha vista Ancora Diverso rispetto A come l'abbiamo visto Perché C'è una partita Del genere Voglio dire C'è fare un'affermazione Del genere Dire che il Pescara Poteva segnare Mi sembra Alquando improbabile Forse quell'azione Neanche l'ho vista Poi prendere Una scusa Di dire che la palla Stava a 5 metri 10 metri Avanti Queste sono scuse Che francamente Da un allenatore Della sua età Non mi aspettavo Magari Avrei preferito Un mea colpa Avrei detto Ragazzi Questa settimana Ci sarà Non dico una rivoluzione Comunque ci sarà Qualcosa di diverso Rivoluzione Integrale Ragazzi C'è un punto di differenza Tra Provercelli E Pescara E domenica C'è la partita L'Adiatico Cornacchia In caso di vittoria La Provercelli Farebbe il sorpasso E non sarebbe Il massimo Con tutto il rispetto Per la Provercelli Io sabato Non vorrei perdere Capito Per avere qualche speranza Poi Sicuramente Volevo rispondere A uno spettatore Che ti diceva Di rincarare la dose Galeoniano Si è diventato Catenacciano Ma non è vero Assolutamente Però un altro Ti diceva Di rincarare la dose Voglio l'equilibrio Anche Galeone Quando Dopo la sconfitta A Napoli L'8 a 2 Ha messo un po' Giudizio Ma peraltro Poi Galeone Era un altro passo Era uno che Praticamente Il calcio Vedeva In tante Sfaccettature Zeeman E con i paraocchi Guarda E monocorde Vede soltanto Quello E basta Se i giocatori Non lo capiscono Perché lui Ha detto Spesso Che i giocatori Non hanno capito E se i giocatori Non lo capiscono Qua dobbiamo cambiare Allenatore Parliamoci chiaro C'è poco da girare Cintone Quello che volevo Sottolineare E poi concludo Mentre col Bari Puoi avere Una scriminante Che è quella Di avere una squadra Sicuramente con un organico Maggiore rispetto al tuo Contro la Provercelli A questo punto Non hai scuse Devi fare per forza Il risultato Per dare una certa convinzione Altrimenti Un pareggio O Non voglio dire Una sconfitta Sarebbe Sarebbe veramente Pesante Per questa Per l'umore Per l'umore della squadra Aggiungi anche Che oltre alla vittoria La prestazione Deve essere Convincente Perché se vinci E non convince E rubi una partita La situazione Non cambia Però certo Lavorare 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 Io non li vedo Anzi Sono stati peggioramenti Lavorare però Nel futuro Con una vittoria E un conto Lavorare con un pareggio Con una sconfitta Sicuramente un altro Sì sì Ma se si tratta Di interpretare No no Ho capito Quello che dici Sono pienamente d'accordo Non è questione di morale È questione di Recepimento Però in una settimana In una settimana Non puoi Cercare di stravingere Contro la professione Devi cercare Di fare una buona Una buona prestazione E riportare Intanto riportare il risultato E poi da lì Cioè in una settimana Ci vorrebbe la bacchetta magica Per dare Ok Dobbiamo andare a chiudere Però prima vi dobbiamo mostrare Gli highlights Scusa Andrea Sì Però dopo il secondo tempo Profuso Contro il Palermo Ci si aspettava Una prestazione Sicuramente Sicuramente Lo vedi che non è così Perché sono Allora È una squadra Che a sprazzi Fa vedere qualcosa William dice Che questa squadra A questo punto Non ha grossi margini Di miglioramento No Assolutamente Perché semmai Ha avuto un'involuzione Rispetto all'inizio del campionato Piuttosto che Una Una evoluzione Questa Diciamo Allora Vediamo gli highlights Della partita Prima di andare a chiudere Perché è stata una giornata Faticosissima Bella Ma assolutamente Faticosa Noi Andiamo a chiudere Con gli highlights Di questo Pari Pescar Ah E ti ringrazio William Ti ringrazio Apprezzato da tutti 1 a 0 Come avete visto È stato il finale Nel Pescara Dunque c'è Del sole Nel tridente Al posto di Capone Che è fuori al pari Di Benalì Confermato il centrocampo Carraro Palazzi Brugman In difesa Fornasiere Perrotta Viste le assenze Di Coda E Bovo C'è Zampano Preferito a Crescenzi Nel Bari Tridente di attacco Con Sissè Galano E Improta Recuperato In extremis Busellato Che va a completare Il reparto mediano Con Petriccione E Teio Abbiamo visto Il cartellino giallo All'inizio Di Fiamozzi Più Pescara Che Bari All'inizio Soprattutto come Possesso di palla Come manovra Anche se Il Pescara Sostanzialmente Non tira mai Tant'è che Negli highlights Si finiscono Delle occasioni Per il Bari Più che le precedenti Questa con Con Sissè Questa invece Un'azione del Pescara Con una conclusione Se così la vogliamo Definire Che arriva dalla distanza Di Palazzi Ma la palla è altissima Poi ancora il Bari Che finisce in crescendo Con questa azione Di sfondamento Di Sissè E c'è una gran parata Con il piede destro Di Fiorillo Che nega il gol Al centroavanti Del Bari Ma il Bari Qui sta mettendo I presupposti Per fare un grande Secondo tempo Una gara in ascesa Quella della squadra Di Fabio Grosso Che chiude bene Il primo tempo Lo chiude anche Con questa punizione Di Galano Che sorvola di poco La traversa Anche se Fiorillo Sembrava essere Sulla traiettoria Poi però Nella ripresa Sarà Solo e soltanto Bari Almeno Per Quasi Tutto lo svolgimento Della ripresa Almeno fino al gol Partita di Brienza Abbiamo visto Piccinini di Forlì Che ha ordinato Di andare all'intervallo E qui siamo Nella ripresa Con il Bari Che riprende A tutto gas Galano Con questo controllo Poi questo tiro strano Che va vicino All'incrocio Dei pali Ma la gara È totalmente In mano Alla squadra Di Fabio Grosso Che continua A imperversare Questa pala In profondità Per Galano Che lascia sul posto Per rotta E Fiorillo Sventa Gran parata Di Fiorillo Secondo grande intervento Della serata Dopo quello Di Sissè Nel primo tempo Un lampo Del Pescara Con Mancuso E questa azione Si riferiva A Zeeman Mancuso Che non arriva Sul pallone Che era stato Lanciato in profondità Buona uscita Con tempismo Di Micai Riprende L'assalto Del Bari Con questa botta Di Petriccione Alzata Da Fiorillo In calcio d'angolo Poi Dagli sviluppi Del Corner C'è questa girata Che sorvola di poco La traversa Da parte di Riccardo Improta Insiste ancora Il Bari Con Sissè Che entra In area di rigore Il suo pallone Per Improta Che per un soffio Non ci arriva Guardate le folate Del Bari Ecco Questa è la punizione Che origina il gol Il fallo è di Valzania Che viene anche ammunito Valzania Che era da poco entrato Era da poco entrato Anche Brienza Al posto di Busellato Un cambio Che Grosso ha fatto Per cercare di vincere Alla partita Sbilanciando La squadra Ma i cambi Danno ragione A Grosso Brienza con un po' di fortuna Calcia questa punizione Deviata dalla barriera E palla che Beffa Fiorillo Valzania fa il fallo Brienza segna I cambi Li ha azzeccati Grosso Che ha vinto dunque A maggior ragione La sfida Con Zeman Pescara reagisce Solo negli ultimi minuti Con questo Tiro di Brugman Respinto in area di rigore E poi Ci sarà Tra poco Dovremmo vedere Per lo meno Questa è un'altra Conclusione di Brugman Con palla lenta E alta Dovremmo vedere Anche un tiro di crescenze Che è stato l'unico Tiro in porta Del Pescara Nel corso della gara Prima però C'è questo cartellino giallo Per Marco Perrotta Ora Un cartellino giallo Un altro giallo Per Michele Fornasier Siamo nelle battute finali No Gli highlights Non ci fanno vedere L'unico vero tiro in porta Del Pescara Una botta di crescenze Dai 20 metri Comparata Tutto sommato Facile Di Michele Che aveva respinto E dunque Il finale È Bari Batte Pescara 1-0 Con il gol partita Di Brienza Punizione deviata Dalla barriera Finiamo qui Io ringrazio Intanto Gli ospiti in studio William Carosella E Matteo Marcheggiani Grazie Grazie ragazzi Anche perché ci avete tenuto compagnia Fino a questa ora È tardi Quindi a maggior ragione Io vi abbraccio Un abbraccio anche ideale A Riccardo Clinico Che ci ha lasciato Nel corso dell'intervallo Ma ritroveremo Prossimamente Chiaramente su TV6 Un abbraccio anche In regia A Maurizio D'Aguì E in redazione A Jacopo Forcella Che sono stati Al lavoro dal primo pomeriggio Per garantire una Diretta Praticamente Nel fiume Che è andata avanti Dalle 2.25 Dalle 14.25 Con una pausa Alla fine della Serie D Ma poi abbiamo ripreso Poco prima Dell'inizio di Teramo Gubbio Quindi intorno alle 18.20 Abbiamo visto A tempo di record I servizi di Serie D In esclusiva Anche il servizio Della Vastese La gara vinta A Fabriano Per 4 a 0 Poi la serata Dedicata a Bari Pescara Grazie a tutti quelli Che hanno lavorato Domani Replay A partire dalle 22.30 Perché prima C'è la gara della nazionale Saremo tutti concentrati Su questo tentativo Di rimonto Della nostra nazionale Poi martedì Pro Teramo Insomma ricomincerà La solita settimana Diretta stadio Torna Alle 14.30 Di sabato Per Per Pescara Pescara Provercelli Poi chiaramente Domenica prossima Per Renate Teramo Per le gare di Serie D Grazie a tutti Ancora E buonanotte I nostri sogni Nelle vetrine E in bell'età Siamo veramente noi Dentro lo specchio Ti riconoscerai Siamo veramente noi Serie B con te punto it Il campionato degli italiani Grazie a tutti